Se ci accomodiamo iniziamo. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Presidente del CNL, il Professore Massimo Inguscio, il quale non è potuto essere qui per impegni istituzionali, sarò io quindi a farvi, a dare il benvenuto e ad aprire il convegno. Sono Alberto De Rosa, il Direttore della Biblioteca Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Biblioteca Centrale che è la più importante biblioteca italiana della scienza e della tecnica, che è stata intitolata Guglielmo Marconi, lo scienziato che l'ha voluta e fondata nel 1927. E proprio quest'anno, a maggio, abbiamo celebrato i 90 anni dalla sua istituzione con un convegno dove è stata invitata e ha partecipato la figlia di Guglielmo Marconi, Elettra. Il convegno di oggi, il Cammino dell'Europa dalla Comunità all'Unione, riflessioni nuovi scenari, è stato promosso dal Centro di Documentazione Europea della Biblioteca Centrale in collaborazione con gli altri CDE di Roma, ospitati presso enti e organismi quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Biblioteca della Facoltà di Economia della Sapienza, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, l'Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche dell'ICU e la Biblioteca dell'Agenzia per la Poesione Territoriale. Da diversi anni i CDE di Roma collaborano per la realizzazione di iniziative come questa, tese proprio a rafforzare la conoscenza del processo dell'Unione Europea e valorizzare le azioni e i progetti europei promuovendo la partecipazione e l'interesse attivo dei cittadini. La nostra Biblioteca ospita il Centro di Documentazione Europea con l'obiettivo di offrire non solo ai nostri ricercatori ma a tutti i cittadini uno sportello informativo e di consudenza proprio sulle attività dell'Unione Europea. Il nostro Centro opera nel coordinamento nazionale dei CDE e da pochi mesi il nostro responsabile del Centro, la dottoressa Ranchino, ricopre anche il ruolo di Vice Coordinatore nazionale della Rete. L'evento di oggi si inserisce nel progetto della Rete italiana dei CDE 2017, 60 anni di Unione Europea, sfide e prospettive per l'Europa di oggi e di domani, ed è stato realizzato in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il sostegno delle università e degli istituti di ricerca in cui i centri hanno sede. L'obiettivo è quello di realizzare e dare un contributo alla divulgazione del processo europeo iniziato 60 anni fa, che in questo momento soffre, come ha recentemente affermato il Presidente del Senato Pietro Grasso soffre di preoccupazione per il riemergere di egoismi, nazionalismi, populismi e xenofobie che la storia sembrava avere superato per sempre. Il Presidente del Senato è esortato a rifondare culturalmente e politicamente l'Unione ripartendo dalla nostra comune storia e identità. I principi iscritti nel Trattato sull'Unione non sono frutto di un'opera creativa, ma esprimono il comune e assoluto ripudio per le guerre, le atrocità, le persecuzioni, le offese alla dignità umana che tutti gli europei avevano vissuto. Vi invito a visitare il Corridorio Multimediale adiacente alla sala, dove potete vedere una mossa virtuale sulla storia dell'Unione europea dal titolo I libri che hanno fatto l'Europa, di cui vi farà accenno il direttore dell'ICU, Simonetta Butto. Inoltre potete visitare la sala polifunzionale dove sono stati proiettati alcuni video. Non voglio rubare più tempo perché sono numerosi i temi in programma e quindi voglio solamente ringraziare tutti gli intervenuti e in particolare la rappresentanza in Italia dell'Unione europea che ha patrocinato e sostenuto la realizzazione di questo evento, tutti i responsabili dei CDE e il Consiglio italiano del Movimento europeo che ha patrocinato l'iniziativa. Grazie ancora e vi auguro un buon lavoro. Ora Beatrice Covassi. E' Covassi. La sostituisco in questa presentazione. Essendo anche membro del panel successivo, limito il Sant'Aniello pensiero a dopo, invece ora vi saluto e do il benvenuto a nome della rappresentanza in Italia della Commissione europea. E largamente è stato detto dal professor De Rosa tutto ciò che ha a che fare con l'organizzazione di questa bella iniziativa di oggi, compresa il corridoio multimediale che ho scoperto all'inizio di questa mattina e che trovo davvero interessante con tutto un percorso didattico da seguire e da spunti di riflessione. Siamo ormai a sette mesi dal giorno in cui il 27 marzo del 57 le comunità europee, il progetto europeo ha preso avvio e ha preso avvio chiamandosi appunto comunità europee per iniziare questa lunga transizione che era poi condotto con il Trattato di Maastricht del 91 all'Unione Europea. E credo che la giornata di oggi, cari ragazzi che avrete la pazienza, la curiosità di ascoltarci per questa giornata che si annuncia lunga ma anche interessante, credo che avrete tutta una serie di punti di riflessione, di analisi che vi consentiranno di avere un atteggiamento quantomeno benigno, benevolo, positivo rispetto alla costruzione comunitaria dopo questi ultimi anni sicuramente siete attenti, siete svegli e avete capito che si trova in una situazione di quantomeno difficoltà per sbagliatissime problemi che probabilmente verranno esaminati in questa giornata. Per quanto mi riguarda mi limito a una semplice considerazione di carattere personale e cioè che rispetto al titolo del convegno, il cammino dell'Europa dalla comunità all'Unione. Io che sono ormai un vecchietto e comincio prima, ero giovane come voi, ho cominciato nel 1986 a lavorare per le istituzioni europee in un momento particolarmente fecondo della costruzione comunitaria. Quella che oggi si chiama Unione Europea allora era ancora comunità europea e il senso di comunità come termine mi piaceva assai perché dava il senso della comunità di cittadini, cioè la possibilità di vedere uniti insieme i cittadini dell'Europa. Personalmente ripeto, la parola Unione la vedo più orientata agli Stati o forse questo è ciò che la comunicazione, ciò che l'immaginario collettivo vuole consegnarci. In realtà predo a prestito le parole di un padre fondatore delle comunità europee del progetto europeo, Jean Monnet, che parlava appunto dell'Unione Europea come un'organizzazione di popoli e di Stati. Ed è su questa tensione appunto tra organizzazioni statuali, quindi tra Stato e cittadini, che si gioca anche il futuro dell'Unione Europea, il futuro dell'Europa. Perché naturalmente le varie tensioni, sto parlando dei vari modelli organizzativi che si confrontano oggi e che potrebbero portare a una nuova configurazione dell'attuale Unione Europea appunto, hanno come fulcro questo rapporto dialettico, quello tra i cittadini e quello degli Stati. In un momento in cui, e questo cari ragazzi e tutti questi presenti non sfuggirà, ci sono tutta una serie di spinte chiamate populiste, sovraniste, cioè abbiamo tutti ismi da tutte le parti che sembrerebbero essersi placati, ma non troppo. Vediamo i risultati elettorali in Austria che ci dicono che il progetto europeo è un patrimonio di tutti, va salvaguardato con l'attenzione, con passione e soprattutto conservando memoria storica. Ed è questo che tenterò di spiegarvi quando parlerò della comunicazione dell'Unione Europea. Cari ragazzi, cari partecipanti, membri del panel di apertura, auguro a tutti, a nome della rappresentanza di Italia della Commissione Europea, buon lavoro e buon ascolto. Ora la parola alla dottoressa Amato che sostituisce il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, dottoressa Maria Ludovica Agro. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto alla rappresentanza, al CNR che ci ospita in questa location istituzionale. Vi porto i saluti del nostro direttore generale Ludovica Agro, che è impegnata contestualmente all'orario di svolgimento di questa giornata, di questo evento importante, con il Ministro per la coesione territoriale, il Professor Claudio Nevincenti. Questa è una giornata che si inserisce in una logica di confronto con la cittadinanza che noi già abbiamo intrapreso a livello di Agenzia per la coesione territoriale. è un organismo il nostro di recente istituzione che è attento e che svolge qua dei suoi compiti istituzionali un ruolo di forte accompagnamento all'attuazione di alcune politiche di finanziamento dell'Unione Europea. Vogliamo dare un senso reale all'intervento dell'Unione Europea, della Comunità Europea che mette a disposizione degli Stati membri risorse finanziarie. Queste risorse finanziarie vengono finalizzate ai molteplici settori di intervento dello Stato dell'economia. Sono settori tradizionali, quelli delle infrastrutture, quelli dell'ambiente, quello dei trasporti, della cultura. La divulgazione è importante. La cerniera alla quale faceva riferimento il Dottor Santaniello tra lo Stato e i cittadini è rappresentata anche dalla nostra istituzione amministrativa centrale. L'Agenzia per la coesione territoriale ha instaurato un denso rapporto con la rappresentanza della Commissione Europea in Italia e nel 2016 ha creato nel suo ambito un centro di documentazione europea. Il centro di documentazione europea è affarrete con gli altri centri di documentazione europea ed è servente alle esigenze di informazione, di divulgazione e di formazione continua. Di qui io sono felicemente stupita dalla densa partecipazione delle scolaresche che voi rappresentate e dalla intensa attività di domanda, di attenzione anche allo stato di attuazione di investimenti pubblici. Il controllo che voi esercitate, voi studenti, ma anche l'opinione pubblica ci aiuta a riorientare il tiro. Io al termine della presentazione degli altri colleghi vi illustrerò un'attività che ci ha coinvolto nel 2016-2017 di raccolta di investimenti di realizzazioni concrete che hanno dato un senso di intervento strutturale sul nostro territorio. Il 9 ottobre, nella settimana che va dal 9 ottobre in poi, si è aperta una sessione di intervento di partecipazione attiva a Bruxelles di tutte le regioni del territorio nazionale e di tutte le regioni interessate all'attuazione dei fondi comunitari. Il settimo rapporto di coesione, sulla coesione territoriale, che vi invito a sfogliare, a leggere, troverete la disponibilità anche sul sito della Commissione e del Centro di Documentazione Europea dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ci indirizza nel percorso da seguire da qui in poi, facendo storia delle lezioni apprese dal passato e su questi binari noi dobbiamo camminare. Certamente l'intervento strutturale mira la riduzione dei divari, dei divari in termini di PIL, di occupazione, che riguardano anche il nostro territorio, il divario tra nord e sud. Il cofinanziamento comunitario è importante, non possiamo perdere questa sfida, si sta ragionando anche in termini di negoziazione di risorse da destinare al futuro delle politiche di coesione. L'Italia è il secondo percettore di risorse strutturali dopo la Polonia. Abbiamo 42 miliardi di euro da spendere nell'attuale periodo di programmazione fino al 2020. Abbiamo l'interesse a che queste risorse vengano conservate anche per il futuro periodo di programmazione, è una sfida. La sfida però si basa anche sull'esame dei risultati raggiunti e i risultati concreti vi vorrò parlare nel corso del mio intervento. Grazie a tutti. Ora la Simonetta Butto, direttore dell'Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane. Grazie, grazie a tutti per questo graditissimo invito. In realtà sono veramente molto lieta di partecipare a questa giornata informativa perché considero le attività del Centro di Documentazione Europea OPIB, Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche, una delle linee di attività più qualificanti nell'ambito della formazione e dei servizi ai cittadini, svolte dall'Istituto Centrale del Catalogo Unico che dirigo oramai dal maggio del 2015. Colgo l'occasione per ringraziare Massimina Cattari che è responsabile del nostro CDE per il suo impegno e per la passione che dedica quotidianamente alla diffusione delle informazioni e della documentazione sull'attività dell'Unione Europea e sui programmi internazionali attinenti al mondo della cultura e della ricerca. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ormai da molti anni, oltre a coordinare le attività di catalogazione della vasta comunità delle biblioteche italiane, producendo e diffondendo standard e linee guida di portata internazionale ed elaborando normative uniformi per la descrizione del patrimonio bibliografico italiano, è coinvolto anche nel coordinamento, talora sempre la partecipazione a progetti nazionali ed europei che promuovono la digitalizzazione e l'accesso online al patrimonio culturale, impegnandosi nella costruzione di infrastrutture digitali e infrastrutture per la ricerca nel campo delle cosiddette digital humanities, in questo collaborando spesso con gli istituti del CNR presenti su tutto il territorio italiano che sono proprio specializzati su queste discipline. I servizi ai cittadini, ovviamente non solo ai cittadini italiani, offerti dall'ICU sono SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, Internet Culturale che è la biblioteca digitale italiana, il portale della cultura italiana Cultura Italia che è un portale cross domain che vuol dire che si occupa dei beni culturali nel loro complesso e aggrega le risorse digitali dei luoghi della cultura italiani perché vengano resi fruibili nei portali europei come Europeana o altri portali europei come testimonianza della cultura italiana. in particolare due parole data la presenza di tanti giovani che sono come sappiamo il nostro futuro e sui quali puntiamo tutte le nostre energie, due parole sull'Opac SBN che è il catalogo collettivo nazionale delle biblioteche italiane consultabile online che permette la ricerca di pubblicazioni moderne, antiche, di opere musicali, di cartografia, di grafica, non solo libri come si dice e che vi indica anche dove queste opere sono presenti, non solo ma vi offre anche il link diretto alla rappresentazione digitale di quell'opera nel caso in cui sia presente. considerate che la comunità di SBN, la comunità bibliotecaria di SBN è ricca di oltre 6100 biblioteche italiane di ogni tipo e di diversa appartenenza amministrativa comprese le biblioteche private, quelle di fondazioni, di associazioni, di sodalizi di ogni tipo e che abbiamo oltre 90 milioni di localizzazioni per 17 milioni di record riferiti ai cosiddetti ai volumi. Ugualmente abbiamo un sistema di prestito interbibliotecario, fornitura di documenti accessibili gratuitamente su internet, gestiamo un database molto consultato, molto apprezzato che è il database dell'anagrafe delle biblioteche italiane, dove si possono trovare tutte le informazioni sulle oltre 13 mila biblioteche italiane funzionanti, anche queste, di enti ecclesiastici, di enti locali, delle università, di diversa appartenenza amministrativa. Vi cito due basi dati che possono anche essere utili per l'approfondimento dei vostri studi e per la definizione del vostro futuro. Una base dati che si chiama Edit 16 che è il censimento delle opere delle edizioni italiane del XVI secolo, una base dati molto apprezzata all'estero, molto apprezzata ovviamente anche in Italia, che presenta circa 70.000 record di edizioni appunto del Cinquecento, con il complete del loro proprio corredo digitale. E ugualmente Manus che è il censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane che coinvolgono i più grandi istituzioni di conservazione presenti in Italia. Un portale di attualità gestito dall'ICU e molto apprezzato, specialmente in questi anni, è il portale 1418, documenti e immagini della Grande Guerra. È un portale che noi abbiamo aperto nel 2005, ma che in questi anni invece di commemorazione della prima guerra mondiale, naturalmente ha ricevuto un incremento anche degli apporti nuovi. Sono circa 70 gli enti, gli istituti di cultura che collaborano con noi per arricchire quotidianamente questo portale. Oramai abbiamo superato le 600.000 immagini. Il nostro istituto pubblica anche una rivista che si chiama Digitali, accessibile anche online, la rivista del digitale nei beni culturali, che si occupa proprio delle tematiche relative all'applicazione delle tecnologie, alle varie tipologie del patrimonio culturale. Tutte le attività dell'ICU sono svolte in collaborazione interistituzionale con gli enti locali, con le università, con il mondo della ricerca. E in particolare anche con il CNR. Ricordava il dottor De Rosa poco fa che la biblioteca Marconi, che è la biblioteca più importante italiana, si è fatta carico di costruire o di arricchire in maniera fondamentale il polo delle scienze del Servizio Bibliotecario Nazionale e quindi lavoriamo insieme per la crescita di questa documentazione straordinaria offerta dalla scienza e dalla storia della scienza. Per quanto riguarda il Centro di Documentazione Europea, opera e sopra all'interno del nostro istituto nell'ambito proprio delle competenze dell'ufficio OPIM, Documentazione e Programmi Internazionali per le Biblioteche, a seguito di una convenzione che è stata stipulata tra il Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma e il Direttore dell'Inco. Naturalmente attraverso il suo sito web questo Centro di Documentazione svolge proprio un servizio integrato di informazione sulle attività dell'Unione Europea, in particolare sui programmi e sulle iniziative comunitarie per il mondo della cultura, della ricerca e della formazione. Un ultimo accenno prima di concludere. Come diceva Dottor De Rosa poco fa, nel corridoio multimediale è stata allestita una mostra virtuale dal titolo I libri che hanno fatto l'Europa ed è una mostra virtuale digitale che è stata tratta da una mostra reale, una magnifica mostra reale che è stata allestita dall'Accademia Nazionale dei Vincei e Biblioteca Corsiniana dal 31 marzo al 22 luglio. Una mostra che ha presentato 180 preziosissimi manoscritti e stampe di grande valore, conservata nelle principali biblioteche romane. Oltre alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia dei Vincei, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Angelica, la Biblioteca Casanatense, la Biblioteca Vallicelliana e la Biblioteca Nazionale di Roma. Con questa mostra, attraverso l'esposizione di alcune opere fondamentali e la ricostruzione della storia dell'evoluzione, della storia del libro, dalla riforma carolingia alla rivoluzione di Gutenberg, la mostra ha illustrato il percorso storico-culturale che ha portato dalla cultura classico-cristiana e medio-latina alla formazione della cultura romanza moderna e quindi alla cultura europea occidentale. La mostra che potete vedere con dei pannelli illuminati, molto chiara, molto leggibile, veramente fruibile al massimo, è stata curata da Michela Cecconi della Sapienza di Roma con la collaborazione dell'ICU, del mio istituto, che ha messo a disposizione il software apposito per la costruzione delle mostre virtuali che si chiama Movio e abbiamo curato anche il montaggio e l'editing grazie all'impegno della nostra Maria Teresa Natale. È una visita, anche se virtuale, che vi consiglio caldamente. Intanto vi ringrazio e vi auguro buon convegno. Grazie Simonetta. Ed ora Sara Cavelli, direttore generale SIOI. Bene, desidero darvi il benvenuto e ringraziarvi di essere qui a nome della SIOI e a questa manifestazione realizzata, rintesa con la rappresentanza della Commissione europea, che come hanno detto i miei colleghi rintesa con i sei centri di documentazione europei e europei romani. Il centro di documentazione europeo della SIOI fa parte della sua biblioteca. La biblioteca della SIOI è un punto di riferimento importante per gli studiotti sui temi delle relazioni internazionali e diplomatiche ed è composta da un centro di documentazione delle Nazioni Unite che raccoglie la documentazione ONU dalla SIOI, le pubblicazioni ufficiali degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e da un centro di documentazione delle organizzazioni internazionali che raccoglie delle pubblicazioni delle principali organizzazioni internazionali come l'OXE, l'OSCE, la Nato, eccetera, e dal centro di documentazione europea che è uno dei più antichi organizzato nel 1958 su un carico della commissione. Inoltre fanno parte della biblioteca sia un consistente patrimonio librario di circa 40.000 volumi che un'emeroteca di circa 700 periodici italiani e stranieri. Il tema che oggi è stato scelto per il nostro convegno è il cammino dell'Europa e ha l'obiettivo di sottolineare il percorso fatto in questi 60 anni evidenziando le sfide che l'Unione si trova ad affrontare in questo momento. È indubbio che questi ultimi 60 anni hanno dato ai paesi dell'Europa pace, prosperità e crescita, ma bisogna pensare al messaggio dei nostri padri fondatori e ai loro valori che 60 anni fa pensavano ad un'unione politica e non soltanto un'unione economica. Dopo Maastricht noi abbiamo creato la moneta unica, abbiamo creato la Banca Centrale Europea, ma non abbiamo portato avanti il governo politico comune. È fuori dubbio che l'Unione in questo periodo si trova ad un punto di volta, segnato dal referendum britannico e dai nazionalismi e particolarismi che si stanno affermando avuto. Avete potuto vedere il discorso di Juncker sullo Stato dell'Unione. Il Presidente Juncker sottolinea che in questo momento bisogna stringersi in un programma positivo oppure ritirarsi ognuno nel proprio angolo. Abbiamo solo queste due scelte e a mio avviso l'Europa in questo momento è chiamata a scegliere un programma positivo e ad assumere un ruolo sempre più crescente nella scena internazionale. Per realizzare questo l'Unione ha bisogno dei propri cittadini e ha bisogno che i propri cittadini si identificino nei suoi valori e si stringano intorno a questo programma positivo. I cittadini si stringeranno e si identificheranno solo se sentiranno che l'Europa è in grado di proteggerli. E quindi questo desiderio, questa sensazione, desiderio di protezione in un mondo di crisi possa essere la spinta per restare uniti. Dunque è importante che l'Unione è comunica e che sia creata un'Unione in grado di proteggerli, di proteggere le proprie frontiere, di proteggere la propria sicurezza, di proteggere i propri valori e di proteggere l'ambiente e di essere leader nella protezione contro il cambiamento climatico, di diventare una guida e di proteggere i diritti umani, lo stile di vita dei propri cittadini e di proteggere le equilibri economiche e di prospettare il sviluppo. Scusate, io ho giusti tempi perché siamo un po' a ben iniziare in ritardo. Macron nel suo discorso alla Sorbonne ha parlato di un'Unione sovrana, capace di difendere i propri interessi e i valori nel mondo. Dunque l'obiettivo di un governo politico resta quello a cui dobbiamo giungere. E quindi è il momento di fare un salto, un salto importante e di pensare all'unione degli Stati europei che diventa non soltanto una scelta ma una necessità geopolitica. Ora il professore Fabrizio D'Ascenso, delegato del Rettore della Sapienza per i rapporti con le imprese e il mondo del lavoro. Buongiorno, io cercherò di stare perfettamente nei tempi, quindi non vi preoccupate, darò il mio contributo per recuperare quantomeno parzialmente il tempo, un pochino di tempo che abbiamo perso all'inizio. Prima di tutto un saluto a tutti i ragazzi che sono presenti qui, ho visto che ci sono almeno tre scuole, se non erro forse qualcuna di più, spero che ci sia anche qualche studente universitario perché so che ci dovevano essere anche, bene, uno, vabbè, meglio di niente, no, di più, ah bene, bene, mi fa piacere. L'iniziativa ovviamente si rivolge ai giovani quindi siamo ovviamente particolarmente contenti che siano i giovani a partecipare, sia i giovani delle scuole perché ovviamente anche dal punto di vista universitario sono i nostri, come dire, principali clienti, passateci questa espressione, sono i destinatari dei messaggi che cerchiamo di trasmettere e ovviamente anche gli studenti universitari perché sono quelli che poi usufruiscono dei servizi di cui stiamo parlando quest'oggi. Le due parole che vi voglio dire sono fondamentalmente non tanto come il ruolo che avete trovato sul programma che per carità c'è, ma fondamentalmente come facoltà di economia. La facoltà di economia sapete che è uno dei centri di documentazione europea che sono presenti all'interno della rete, io a brevissimo, dal 2 novembre diventerò presidente della facoltà, quindi il saluto viene proprio dalla facoltà di economia principalmente. Noi siamo particolarmente orgogliosi del nostro centro di documentazione europea, non lo dico perché ci sono amici che ci lavorano che stanno qua in prima fila, ma lo dico con convinzione. Il ruolo del centro di documentazione europea all'interno della nostra facoltà è iniziato tanti anni fa, è iniziato nel 92 se non vado errato, quando io mi stavo laureando e ha cominciato a svolgere un'attività di raccolta di documentazione con la specifica finalità di metterla a disposizione dei colleghi e dei ragazzi, dei giovani, perché questo è l'obiettivo principale che ci si è prefissi sin dall'inizio dello svolgimento di questa attività, mettere in condizione sia i colleghi che i giovani di poter acquisire conoscenza sulle varie attività che vengono sviluppate a livello di Unione Europea. Nella facoltà di economia il centro ha una collocazione piuttosto visibile, ha dei bei locali, ha la possibilità di essere frequentato dai giovani per tante attività, spesso io ci passo davanti perché oltretutto è collocato fisicamente a fianco degli ascensori, quindi per forza bisogna passarci davanti. Quindi mi faccio capolino spesso e vedo che comunque ci sono sempre una serie di attività in svolgimento. Questo è il ruolo fondamentale, il ruolo attivo che hanno questi centri di cui stiamo parlando, che appunto come sapete sono collegati all'interno di una rete e a me piace molto questo concetto di rete, questo concetto di cooperazione fra varie istituzioni con finalità quantomeno teoricamente all'inizio diverse, mentre invece poi si trovano a collaborare in una rete che ha una specifica finalità e che realizza quel concetto di collaborazione fra istituzioni spesso pubbliche che a volte non si trovano a dialogare perfettamente tra di loro. In questo caso invece abbiamo una rappresentazione pratica ed evidente di come sia possibile realizzare delle sinergie che possano essere soprattutto utili per i giovani e anche perché no per i colleghi che lavorano all'interno dei vari soggetti che sono rappresentati in questa rete. La nostra facoltà ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti delle tematiche connesse all'Unione Europea. Abbiamo centri di ricerca, abbiamo appunto il centro di documentazione, abbiamo uno specifico master che si occupa di europrogettazione di professioni europee che è destinato a tutti i giovani che hanno acquisito quantomeno il titolo triennale. Abbiamo cercato di spingere in maniera consistente nei confronti di questo obiettivo con la speranza che questo interesse venga raccolto dai giovani. I giovani delle scuole debbono cominciare ad entrare in questo meccanismo, devono cominciare a rendersi conto della realtà che li circonda. Noi lo facciamo sia per testimoniare il nostro interessamento nei confronti della tematica, lo facciamo sia per cercare di orientare i giovani delle scuole con le tante attività che cerchiamo di sviluppare, per prendere in considerazione la nostra facoltà come possibile terreno di studio per la prosecuzione del loro percorso formativo, ma soprattutto lo facciamo per una finalità complessiva di attenzione verso i giovani. Io dico sempre che noi nell'università ci siamo perché ci sono gli studenti che vengono da noi, quindi la massima attenzione nei confronti di giovani è testimonata anche da queste iniziative che ovviamente sono uno strumento utile per aiutare i ragazzi a rendersi conto dell'ambiente che li circonda e consentire di ottenere un orientamento corretto. Vi ringrazio molto, spero di non aver rubato troppo tempo, mi scuserete se poi devo andare via, ma insomma cercherò di farlo come si dice all'inglese senza fare troppo confusione. Grazie. Grazie professore. Ora il professore Roberto Adam, professore ordinario di diritto dell'Unione Europea, delegato del Presidente della SNA, Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Grazie Presidente. Sì, anch'io come Roberto Santaniello, sono qui a doppio titolo da un lato per fare i saluti in questa fase iniziale di questo evento e poi per svolgere una relazione nella fase successiva. Quindi cercherò a maggior ragione, come prima preceduto, di essere breve, anche perché poi sono l'ultimo, quindi a maggior ragione bisogna essere breve e chiudere velocemente la fase di saluti. Sono qui peraltro in rappresentanza, in questa fase di saluti, in rappresentanza del Presidente della Scuola Nazionale, il professor Stefano Battini, Presidente da poco della scuola e che quindi è molto preso dalla fase di rodaggio e di avvio della sua presidenza e quindi con grande suo ramarico non ha potuto intervenire lui di persona per portare il saluto della scuola e mi ha pregato di farlo in sua voce. Che cos'è la Scuola Nazionale dell'Amministrazione? Nel nome è facile da capirlo, è la scuola pubblica, un mente pubblico, una struttura pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha come compito istituzionale quello di assicurare il reclutamento e soprattutto la formazione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, si occupa del reclutamento con le formule del corso concorso ma si occupa soprattutto di formazione, formazione di vario tipo, la formazione iniziale, la formazione continua, la formazione avanzata. Perché siamo coinvolti in questa iniziativa, la scuola è coinvolta in questa iniziativa? Diciamo non soltanto perché ha anch'essa un centro di documentazione europeo come gli altri strutturi che mi hanno precedito ma soprattutto perché fa formazione e si può capire bene perché faccio questo collegamento vedendo la platea dove vediamo tantissimi giovani, se ho capito bene prevalentemente delle scuole qualcuno, non pochissime, ma qualcuno dell'università, noi facciamo formazione ai dirigenti pubblici e funzionali pubblici, quindi a persone di età più avanzata, a persone già avviate in un percorso professionale ma la problematica è la stessa, l'importanza della formazione europea per tutti i livelli dei potenziali frutturi e forse il livello vostro è quello più importante da tanti punti di vista e questo non vuol dire che bisogna creare una nuova materia e di moda in Italia, si scopre la musica e si dice che bisogna insegnare musica a scuola, si scopre la moda, bisogna insegnare moda alla scuola e insegnare alla scuola come se fosse un contenitore senza fine la scuola, senza fine e senza orario soprattutto, no, la formazione europea deve far parte diciamo così in maniera diffusa della vostra formazione ordinaria, tante materie sono coinvolte dalla dimensione europea del nostro paese così come tanti aspetti della pubblica amministrazione, anzi tutti gli aspetti della pubblica amministrazione sono coinvolti dalla dimensione europea, quindi da questo punto di vista è estremamente la scuola nazionale dell'amministrazione e per questo motivo che è presente qua ha voluto essere presente in questa iniziativa, peraltro per quanto riguarda il suo compito specifico, la formazione della pubblica amministrazione è a doppio titolo che la scuola nazionale dell'amministrazione è interessata a un evento che riguarda il processo di integrazione europea, come questo qui, la storia del processo di integrazione europea, lo è perché in qualche modo è una precondizionalità la formazione pubblica amministrazione per un modo più efficace di stare nella dimensione europea da parte del sistema paese e della pubblica amministrazione. C'è l'accordo di partenariato per l'uso dei fondi europei 2014-2020 che proprio cita la formazione pubblica come una condizionalità essenziale per lo sviluppo della pubblica amministrazione e quindi per una miglior azione della pubblica amministrazione in quei settori, ma ci sono anche norme di trattati europei che toccano la dimensione amministrativa del processo di integrazione europea, lo toccano a doppio delle amministrazioni nazionali, lo tocca come qualità dell'amministrazione, livelli di qualità a cui deve rispondere la pubblica amministrazione degli stati membri, ne parlerò poi nel mio intervento nella fase successiva. Uno dei diritti fondamentali, sancipio della carta, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è proprio quello del diritto a una buona amministrazione, si riferisce in quel caso prevalentemente all'amministrazione europea ma è ovvio che è un obiettivo che è di fronte anche alle pubbliche amministrazioni nazionali. E quindi da questo punto di vista la scuola vuole portare il suo saluto a questa iniziativa ritenendola un'iniziativa importante, estremamente importante anche perché si rivolge, lo dicevo prima, a giovani della scuola. Spero che possa essere utile, possa essere anche questa iniziativa di oggi uno degli elementi capaci di far crescere la consapevolezza tra tutti quanti voi, soprattutto dai più giovani, di ciò che è il sistema europeo, di sgombrare l'immagine del processo di integrazione europea da tante imprecisioni che si diffondono facilmente come delle fake news nella comunicazione relativa al processo di integrazione europea, vi auguro nel frattempo buon lavoro e un ringraziamento al CNR che ci ospita. Grazie. Adesso chiudiamo i saluti e apriamo le danze. Iniziamo con le due sessioni, quindi faremo brevemente un change, un po' di pazienza. Allora, iniziamo questa prima sessione. Io sono Claudia De Stefani, sono responsabile del settore comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea e quindi in qualche modo coordino la rete dei centri di documentazione europea in tutta Italia e sono molto contenta che in questo programma che avete ricevuto e che avete visto ci sia il logo del sessantesimo e che questo evento faccia parte di un progetto di rete di centri di documentazione europea italiani. Progetto di rete appunto per le celebrazioni del sessantesimo che in realtà vanno avanti appunto dal 25 marzo per tutto il 2017. 2017 che è un anno di celebrazioni per l'Unione Europea perché oltre al sessantesimo dei trattati abbiamo anche la celebrazione del trentesimo di Erasmus e ne parleremo proprio in questa sessione, parleremo di Erasmus e delle possibilità per voi ragazzi. Però è anche un anno di riflessione il 2017 proprio sul progetto europeo e sulla sua attualità. Perché? Perché insomma gli ultimi anni sono stati molto critici e l'opinione pubblica è diventata molto scettica nei confronti del progetto europeo che forse proprio in Italia invece aveva una grande base di consenso. E negli ultimi anni la crisi economica, la crisi migratoria, l'insicurezza alle frontiere esterne dell'Unione, l'insieme delle condizioni, la ripresa economica che è stata molto più letta del previsto nel nostro paese hanno fatto sì che tutto sommato si sia perso di vista i valori di fondo dell'Unione, quelli che ci hanno portato finora qui. E le conquiste concrete di cui l'Unione è stata motore e artefice, conquiste concrete come la libera circolazione delle persone, ne parleremo proprio quando parleremo di Erasmus, come la protezione dell'ambiente, come la protezione dei consumatori, conquiste che fanno ancora oggi dell'Europa un polo di attrazione per l'esterno perché sono l'eccezione nel resto del mondo, non sono la regola. Certo l'Unione Europea non è perfetta, questo è il punto, non vogliamo fare un autolode dell'Unione Europea, vogliamo però creare degli strumenti per capirla l'Unione Europea perché ci rendiamo conto che a parte gli aspetti l'Unione Europea non è perfetta c'è anche un problema di percezione. E questo lo vediamo perché l'Unione Europea, la Commissione, realizza dei sondaggi di opinione, realizza due volte l'anno, si chiamano Eurobarometro per capire cosa pensano i cittadini e in particolare i cittadini italiani si sentono poco cittadini europei, cioè il 53% soltanto dei cittadini italiani che si sente cittadino dell'Unione Europea. Se poi si va a vedere però perché, da un lato si capisce che c'è una scarsa conoscenza, i cittadini dicono non capiamo come funziona l'Unione, non sappiamo in cosa consiste, che cosa fa, quali sono le sue politiche, ovviamente come facciamo se non la capiamo. E dall'altro c'è anche una sensazione di essere impotenti, cioè di non avere gli strumenti per essere protagonisti, cioè prendono tutte le decisioni sopra le nostre teste e noi non sappiamo esattamente di che cosa si parli e non abbiamo mezzi per influenzarla. Questo è un pochino il punto da cui la Commissione ha deciso di ripartire presentando a marzo, poco prima proprio della celebrazione dei trattati, un libro bianco. Un libro bianco che presenta, adesso non entro nei dettagli perché non è l'obiettivo, l'obiettivo è suscitare la vostra curiosità, vari scenari per l'Europa di domani. L'Europa a 27 senza più il Regno Unito nei prossimi dieci anni. Questi vari scenari sono diverse possibilità per l'Europa che incideranno fortemente sulla vita dei cittadini, quindi è bene che i cittadini li conoscano e capiscano in che modo relazionarsi con questi scenari. Perché? Perché ci saranno le elezioni europee nel 2019, voi sarete chiamati a votare nel 2019 e quello che voterebbe in realtà si trasformerà in un modello di Europa. Quindi non è così indifferente il vostro voto, la vostra partecipazione, perché la possibilità di viaggiare liberamente, la possibilità di certe politiche piuttosto che altre sono fortemente legate a questi aspetti. Quanti di voi sono sotto i 18 anni, quindi non hanno ancora mai votato? Quindi insomma una bella percentuale. Avrete questa occasione di votare nel 2019 per le elezioni europee, dovete essere informati. La Commissione come fa? Cerca innanzitutto tutte le occasioni pubbliche per far conoscere i cittadini i documenti. Allora vi dico il libro bianco sul futuro dell'Unione Europea, voi siete velocissimi, ve lo cercate su internet. È scritto in un modo per cui anche chi non conosce a fondo l'Unione Europea può capire però quali sono gli scenari del futuro dell'Unione e farsi un'idea sull'Europa che vuole. La Commissione ulteriormente partecipa a questa idea che il dibattito debba essere pubblico, che non debba essere soltanto nelle segrete stanze dei ministri o solo nelle aule parlamentari ma con tutti, organizzando varie occasioni di interazione pubblica, soprattutto quelli che si chiamano dialoghi con i cittadini, quindi i commissari e altre personalità della Commissione e delle altre istituzioni vengono e parlano con il pubblico, rispondono alle domande del pubblico su questioni che stanno a cuore alle persone e la possibilità comunque di scambiare, di fornire informazioni dirette a ogni cittadino che ha bisogno. In questo abbiamo questa rete, la rete Europe Direct, che è una rete di centri di informazione e una rete di centri di documentazione. I centri di documentazione oggi sono stati nominati varie volte, sono presso università e presso istituti di ricerca. Quelli italiani sono particolarmente all'avanguardia perché non forniscono soltanto pubblicazioni ma contribuiscono ad alimentare il dibattito e l'informazione sull'Unione Europea. L'evento di oggi ne è un esempio. Chiudo qui, volevo fare questa breve introduzione per anche dimostrare il senso. Noi siamo interessati a farvi capire che avete gli strumenti per influenzare il futuro dell'Unione Europea e quindi darvi la possibilità di conoscerla per poi anche dare il vostro parere informato nel momento in cui andrete a votare. Quindi grazie e iniziamo con la sessione e passo la parola a Pier Vigilio D'Assoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Grazie dell'invito, preciso appunto un'organizzazione che esiste dal 1948 e che il 1948 nacque in un congresso che si svolse all'AIA, il congresso dell'Europa a cui parteciparono 700 personalità europee nel mondo della cultura e nel mondo della politica, anche poeti come Quasimodo erano presenti all'AIA, e un poeta dell'Europa che era Altiero Spinelli che non si occupava soltanto di costruire l'Europa ma la scritta anche, vi consiglio per se volete approfondirlo di leggere la sua autobiografia che è una sorta di poesia della dimensione democratica dell'Europa. Mi avete dato un compito che potrei esaurire o in pochi minuti, ma sarà molto breve, visto che i saluti iniziali si sono trasformati in relazioni, cercherò di trasformare le mie relazioni in un saluto strutturato, diciamo. L'evoluzione delle istituzioni europee, si potrebbe fare un lungo discorso da partire dal Trattato della Ceca fino al Trattato di Lisbona, e cercherò insomma di introdurvi in questo meccanismo delle istituzioni europee in maniera, se possibile, relativamente semplice, anche se poi il linguaggio cambia. Per esempio il vostro futuro preside vi ha detto che se ne andava all'inglese se voi state assistendo al modo in cui il Regno Unito se ne sta andando dall'Unione Europea non se ne sta andando poi all'inglese. Stanno facendo, diciamo così, un raro rumore, quindi bisogna anche cambiare un po' il linguaggio e le parole, non usiamo più l'espressione andarsene all'inglese, possiamo utilizzare anche altre espressioni di altri paesi. L'integrazione europea si è andata sviluppando nel corso degli anni, come dice, parlo sotto il controllo dell'amico professor Adama, una famosa sentenza del 1963 della Corte di Giustizia che inventò l'espressione ordine sul generis. Siccome i giuristi, come io anche sono giurista, qualche volta mancano un po' di immaginazione, non sono stati in grado di definire in maniera adeguata che cos'è il diritto comunitario o adesso il diritto dell'Unione Europea o qualcuno dice, in un'espressione molto brutta, lo chiamano qualcuno il diritto unionale, perché non si sa bene come chiamarlo. Nel 1963 la Corte di Giustizia, siccome l'ordine comunitario non è né internazionale né nazionale, adottò questa sentenza in cui disse che in quel momento la comunità europea era un ordine sui generis che si collocava a metà strada fra l'ordine internazionale e il diritto nazionale. Se voi guardate l'impianto del sistema europeo, voi vi rendete conto che questo impianto è il frutto in qualche modo di una convergenza oppure di un misto di vari elementi. C'è la dimensione comunitaria che è rappresentata soprattutto dalla Commissione Europea che in qualche modo dovrebbe rappresentare il governo dell'Unione, ma non lo è, adesso ci verrò per quanto riguarda il Trattato di Lisbona. C'è la dimensione intergovernativa che è rappresentata soprattutto dal Consiglio Europeo e dal Consiglio Ministro, ma non soltanto da loro e che nell'interno del quale sono rappresentati gli Stati e ci sono delle istituzioni in qualche modo che, come posso dire, si ispirano a un modello federale. Soprattutto il Parlamento Europeo è l'unica assemblea nel mondo che è eletta sul fraggio universale diretto e che fra l'altro dispone anche di una parte di poteri di carattere legislativo e di carattere di controllo politico. C'è la Banca Centrale Europea e c'è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo che in qualche modo sono tre istituzioni che appartengono più a un modello di tipo federale che a un modello di tipo comunitario. Giustamente Roberto Santanello ci ricordava il passaggio dalla comunità all'unione, dalla parola comunità che carica anche i significati di carattere morale alla parola unione, quando si sono fatti, anzi faccio un passo indietro, quando è stata fatta la dichiarazione Schumann, la dichiarazione Schumann è la dichiarazione del 1950, 9 maggio del 1950, da cui è nato poi tutto. Vi consiglio di andare a leggere una dichiarazione molto ben fatta che fu ispirata dalla Jean Monnet, uno dei padri dell'integrazione europea, io poi per l'altro quando parlo dei padri dico anche che ci sono anche le madri dell'integrazione europea, quindi sarebbe molto meglio parlare dei genitori dell'integrazione europea. Quando fu fatta quella dichiarazione ci fu un piccolo gruppo di collaboratori, di Schumann che era il ministro degli esteri francese, che scrissero la bozza della dichiarazione consegnandola poi a Jean Monnet, che era il collaboratore principale di Robert Schumann. Allora Monnet, io sono stato qualche settimana fa a leggere gli archivi di Monnet a Lausanne, Monnet con la penna, non so se aveva una penna Mont Blanc come la mia, ha portato tre correzioni fondamentali a quel testo della dichiarazione che si ritorna, corrette a penna nel testo conservato nei suoi archivi. E le tre correzioni fondamentali sono due che riguardano due aggettivi. Molti giuristi ritengono che l'aggettivo sovranazionale sia la stessa cosa dell'aggettivo federale, e non è così invece. E nel testo iniziale dei collaboratori c'era per due volte la parola sovranazionale, Monnet ha cancellato la parola sovranazionale e l'ha sostituta con la parola federale. Come vedete la dichiarazione Schumann, la dichiarazione Schumann parla di finalità federale, e in un altro punto della dichiarazione Schumann del 1950 si parla appunto di passi successivi, graduali verso la dichiarazione di una federazione europea. e secondo Monnet appunto l'obiettivo delle comunità nate con la comunità europea del Capone d'Acciaio non doveva essere soltanto quello di costruire una dimensione sovranazionale, cioè sovrapposta agli Stati nazionali, ma doveva essere quello di darsi l'obiettivo di creare la federazione europea o gli Stati Uniti d'Europa. In più già Monnet, che aveva anche una forte capacità di visione, ha aggiunto anche un paragrafo che riguardava i rapporti tra l'Europa e l'Africa. In questo momento sappiamo tutti quanto questi rapporti siano fondamentali. Allora dicevo che l'impianto comunitario è in qualche modo l'incontro di varie scuole di pensiero. La scuola di pensiero monetiana, oppure come si dice, la scuola di pensiero funzionalista. Jacques Delors ha chiamato il metodo funzionalista il metodo dell'ingranaggio, cioè un metodo che progressivamente deve funzionare in maniera automatica e che deve svilupparsi garantendo lo sviluppo delle relazioni comunitarie. Qualche volta però gli ingranaggi si incepano. Adesso ci verrò parlando del trattato di Lisbona. Qualche volta gli ingranaggi si incepano, si incepano soprattutto se si cargano gli ingranaggi di obiettivi, di compiti e di velocità che gli ingranaggi stessi non sono in grado di portare avanti. Quindi c'è la scuola di pensiero monetiana, c'è la scuola di pensiero intergovernativo confederale che è rappresentata in buona parte dalle istituzioni di carattere intergovernativo, Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo, e poi c'è la scuola di pensiero federalista di Altiero Spinelli. Ora, le istituzioni europee sono in qualche modo la fotografia di queste tre scuole di pensiero. Nel corso degli anni, dal 1950, cioè dalla dichiarazione di Schumann, più o meno fino al trattato di Lisbona, il percorso in cui si è sviluppata la comunità prima, l'unione poi è andata avanti in maniera graduale rispettando, se voi volete, l'idea e l'ispirazione di Monet. Poi a un certo punto siamo arrivati al trattato di Lisbona in cui quell'impianto è stato in qualche modo sottoposto a uno stress, come qualche volta capita negli ingranaggi, è stato sottoposto a uno stress che ne ha in qualche modo cambiato la natura. La mia opinione da federalista è che il trattato di Lisbona ha messo fondamentalmente in discussione l'impianto monetiano. Dal trattato di Lisbona la Commissione europea ne esce fortemente indebolita, nella sua capacità non soltanto dal punto di vista degli articoli del trattato, ma anche dal punto di vista della sua capacità politica, il Consiglio europeo ne esce fortemente rafforzato. La mia opinione, condivisa anche da altri, è che il trattato di Lisbona, come sa il professor Adam, nell'articolo 15 attribuisce al Consiglio europeo dei compiti precisi, però dice con molta credenza che il Consiglio europeo non ha il potere di prendere delle decisioni. Invece in questi ultimi 10 anni il Consiglio europeo non ha fatto altro che prendere le decisioni scavalcando in qualche modo le altre istituzioni e si è creato un sistema che ha in qualche modo, del resto lo diceva anche la dottoressa De Stefani, si è in qualche modo creato un sentimento di frustrazione dei cittadini europei. Cioè i cittadini europei si trovano di fronte a un'unione che non è in grado di dare delle risposte ai loro problemi. Perché questo impianto è un impianto all'interno del quale ha prevalso la dimensione intergovernativa o sono tornati in qualche modo con piena forza gli Stati nazionali e la dimensione comunitaria o addirittura la dimensione federale sono state fortemente indebolite. La conseguenza di questo non è stata quello che è stata tradita l'immagine spinelliana di fare un salto verso gli Stati Uniti d'Europa, ma la conseguenza molto più concreta di questa involuzione che c'è stata nel sviluppo dell'integrazione europea dalla firma del Trattato di Lisboni in poi, cioè dal 2009 ad oggi, è stata quella che in tutta una serie di settori fondamentali della vita dei cittadini dell'Unione Europea, l'Unione Europea non è stata in grado di dare delle risposte. Prendete il caso dell'immigrazione che è il caso più evidente nel quale l'Unione Europea in tutti questi anni ha balbettato e non è stato in grado di rispondere a un problema che non è un'emergenza, ma perché è un problema epocale di flussi che proveranno a lungo nel tempo, di fronte ai quali l'Unione Europea non ha dato delle risposte adeguate. Prendete il caso del terrorismo, che non è un terrorismo che proviene da fuori dell'Unione Europea, ma la maggior parte dei terroristi che hanno fatto degli attentati sono nati e sono cresciuti in Europa e non si è creato un sistema, un meccanismo. Giustamente il Presidente Macron ha lanciato l'idea di una procura federale che si occupa non soltanto della lotta alle frodi del bianco comunitario, ma anche della lotta al terrorismo. Oppiliate per esempio il caso che vi riguarda direttamente ancora di ieri sono i dati dell'Ocse per quanto riguarda l'Italia, che è il caso per esempio della crescita della disoccupazione giovanile che in alcuni paesi come l'Italia è arrivata a livelli assolutamente insopportabili. Questo per dire che l'Unione Europea non ha in qualche modo nei suoi compiti, nel suo funzionamento istituzionale quegli elementi, quei meccanismi appunto che sono in grado di dare le risposte o se volete di garantire ai cittadini europei quei beni comuni che gli Stati nazionali non sono in grado di offrire ai loro cittadini. Allora, da questo punto di vista, e mi avvio alla conclusione, ci sono due strade parallele o complementari che sono percorribili. La prima strada è quella di cercare di sfruttare i trattati esistenti là dove ci sono delle basi giuridiche che consentono ai trattati di andare avanti effettivamente delle basi giuridiche ci sono, qualche volta sono anche utilizzabili passate per esempio al tema del reddito minimo di cittadinanza o del reddito di inclusione la Commissione nel suo documento sulla dimensione sociale ha lanciato l'idea di garantire ai cittadini che non hanno un reddito minimo, un reddito di dignità diciamo. Però questa proposta della Commissione è rimasta sul tavolo, rischia di andare a finire negli archivi dell'Unione Europea ma ci sono delle basi giuridiche nel trattato e nella carta di diritti che consentirebbero per l'Unione Europea di agire in questa direzione sapendo che in Europa esistono 120 milioni di persone a rischio di povertà e ci sono degli strumenti come per esempio quelli della cooperazione rafforzata che consentono a un numero più stretto di paesi o di governi di andare avanti nei settori nei quali l'Unione Europea nel suo insieme non è in grado di avanzare. Detto questo però è abbastanza evidente che quello che è avvenuto in questi anni dal 2009 ad oggi ha messo in luce il fatto che i trattati così come sono non sono adeguati e quindi bisogna cambiarlo. Lo ha detto il Presidente Mattarella quando ci sono celebrati i 60 anni dei trattati di Roma quando ha detto con molta chiarezza che se noi non cambiamo il sistema dell'Unione rischiamo di trovarci in una paralisi fatale e ha detto a partire dalla firma della digrazione di Roma bisogna aprire una fase costituente e lo ha detto con molta più chiarezza il Presidente Macron nell'intervento che ha fatto alla Sorbonne di fronte degli studenti come voi nel quale l'intervento Macron ha indicato anche un metodo per andare al di là dell'Unione attuale. Non ha utilizzato l'espressione fase costituente Macron ma ha detto con molta chiarezza che il Parlamento che sarà eletto nel 2019 la data nella quale anche voi andrete a votare molti di voi fanno parte appunto della generazione del millennio cioè quelli che sono nati fra il primo gennaio del 2000 e il 31 maggio del 2001 che il Parlamento dovrà svolgere un ruolo sostanzialmente costituente cioè dovrà dare una risposta al problema che il sistema dell'Unione non funziona deve essere cambiato. Allora da questo punto di vista si vuole un problema di metodo, di coinvolgimento dei cittadini il Presidente Macron ha lanciato l'idea di organizzare nei paesi europei forse non in tutti, ha detto di farlo in un numero più stretto di paesi delle convenzioni di cittadini che devono nascere dal basso e non dall'alto noi come Movimento Europeo, e qui l'ultima cosa che voglio mettere sul tavolo come riflessione abbiamo lanciato da un anno a questa parte un inserito un po' provocatore che si chiama Processo all'Europa in cui i giovani si trasformano in pubblica accusa, difesa e giuria popolare in questo format che noi abbiamo inventato e che si è già sviluppato in 11 processi in tutta Italia in questo anno scolastico e accademico che di fronte a noi ne faremo altri 30 i processi devo dire che il risultato è stato abbastanza stupefacente pensate che a Trento i ragazzi che noi abbiamo coinvolto il dottor Santanello era presente come testimone informato dei fatti non c'era nessuno studente che voleva far parte dell'accusa tutti quanti vogliono far parte della difesa e a Vicenza che è una città abbastanza frequentata da movimenti un po' eroscettici gli studenti che sono entrati nel processo all'inizio volevano in qualche modo disgregare l'Unione alla fine del processo hanno detto ci siamo resi conto che la maggior parte dei problemi di cui abbiamo discusso richiedono più Europa e non meno Europa e allora l'offerta che io vi farei nella sede del CNR, alle scuole e all'università sarebbe quella di organizzare qui a Roma l'abbiamo fatto due volte al Palazzo di Giustizia abbiamo emesso anche delle sentenze in cui il Consiglio è stato condannato senza i benefici senza le attenuanti generiche e specifiche la Commissione è stata condannata con attenuanti generiche e specifiche il Parlamento proprio con molta generosità è stato assolto con formula piena mentre la... eh? è come sul fatto è come sul fatto i giudici che stanno a Rossemburgo allora a giro ecco vi propongo noi sul nostro sito www.movimento.it abbiamo pubblicato tutte le sentenze i video dei processi se la cosa vi piace organizziamola insieme potrebbe essere anche l'occasione per voi di essere parte attiva e quindi di essere cittadini attivi e non soltanto ascoltare le relazioni i saluti istituzionali di questa bella giornata di oggi grazie e buon lavoro grazie a Pier Virgilio Dastoli che peraltro è stato anche capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea quindi conosce le istituzioni bene e da dentro le istituzioni mi veniva in mente giusto un un piccolo così aneddoto sul aggettivo unionale venendo dalla traduzione abbiamo avuto il problema perché a un certo punto ci è stato detto proprio non si può più utilizzare l'aggettivo comunitario quindi queste grandi discussioni su quale aggettivo utilizzare al posto di comunitario e poi è uscito questo orribile unionale che a noi fa venire in mente più che altro condominiale e con tutto quel carico di litigio che c'è nei condomini e quindi forse condominiale questa idea che ci sia un consesso di litigiosi anziché una comunità di intenti non c'è esatto dell'amministratore unico e questa idea del processo all'Europa la rappresentanza ovviamente è anche molto lieta di ospitarla nei suoi locali quindi se ci sono comunque delle scuole di Roma che lo vogliono organizzare anche presso la rappresentanza noi siamo assolutamente disponibili Passo la parola a Roberto Adam professore ordinario di diritto dell'Unione Europea presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Grazie Presidente Sì giusto una parentesi Unionale è un termine orribile per fortuna che ho utilizzato pochissime volte che lo sappia c'è un termine molto più semplice europeo non capisco perché non posso essere utilizzato se non altro poi servirebbe anche a diciamo a rispondere a un frontendimento che si attribuisce comunque all'Unione tutto ciò che succede in Europa che lo faccia il Consiglio d'Europa che lo faccia l'OSCE allora visto che è così allora chiamiamo europeo punto e basta che mi sembra il termine più esatto fermo restando che poi il termine comunitario bello rimane ancora ad attualità per alcuni perché è insostituibile da questo punto di vista per alcune espressioni non so a chi comunitario il metodo comunitario il modo più semplice per definire quella questione a cui ci si definisce ciò detto e devo parlare di cittadinanza europea la cittadinanza europea per chi non lo sapesse tra di voi è stata creata ai primi anni 90 è stata istituita con il trattato di Maastricht prima non si riusciva a questo termine cittadinanza europea e quindi in un evento che si ricollega se ho ben capito anche per l'anno in cui capita ai diversi festeggiamenti o interventi che si sono realizzati anche in Italia in questo anno al sessantennale del processo di integrazione europea potrebbe sembrare un pochettino diciamo fuori tempo in quanto è nata formalmente molto più tanto in realtà non è vero non è vero come idea la cittadinanza europea trova scusate il gioco di parola piena cittadinanza nelle origini del processo di integrazione europea e in una frase che sta che è stata citata prima anche da da Roberto Santaniello che si trova nel preambolo del trattato del 57 quindi 60 anni fa il preambolo del trattato della comunità economica europea l'unione sempre più stretta con quel trattato quello che c'era scritto nel preambolo gli stati membri gli stati contraenti di quel primo trattato in realtà non era il primo perché prima c'era stato quello della ceca del carbone dell'acciaio ma insomma gli stati contraenti esprimevano la loro intenzione di porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta un'unione sempre più stretta fra chi? e qui voglio esprimere il mio amiche ore di senso per quello che ha detto prima Roberto Santanieri un'unione sempre più stretta fra i popoli d'Europa dice l'articolo 57 per questo e qui vediamo il collegamento con la cittadinanza europea non si parlava di un'unione tra gli stati si parlava di unione fra i popoli ed è anche se ci pensate un attimo per il momento in cui si è scritta quella frase assolutamente logico che fosse così e che avesse quindi quella frase un orizzonte diverso da un orizzonte meramente istituzionale che cosa era successo prima che cosa ha portato a creare ad avviare il processo di integrazione europea una guerra mondiale appena finita anzi ci erano state due in poco tempo in metà secolo ma l'ultima una guerra devastante nel cuore dell'Europa che aveva contrapposto sono popolazioni europee le più importanti se noi ragioniamo in termini attuali di dimensione demografica il popolo tedesco per semplificare il popolo francese il popolo inglese e in qualche misura del popolo italiano da quella guerra devastante dove ci sono stati un numero di morti enormi il processo di integrazione europea scaturiva come tra i tanti obiettivi anche di meno nobili diciamo così anche più concreti economico commerciali scaturiva come un obiettivo di creare una comunità un'unione sempre più stretta per riprendere quel titolo quel preambolo un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa a pieno titolo la cittadinanza dell'Unione Europea creata poi tanti anni dopo nel 92 si collega a quello obiettivo tanto che in una è interessante vedere come in una in due conclusioni di due avvocati generali gli avvocati generali chi sono? gli avvocati generali sono dei membri della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che prima ha citato Virgilio Dastoli che hanno una funzione di suggerire la soluzione di una controversia che pende dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in maniera autonoma indipendente cioè non partecipano poi alla Camera di Consiglio che porta la sentenza ma suggeriscono quasi come si dice in termini tecnico amicus curie suggeriscono una certa soluzione ai giudici che poi vanno a prendere la sentenza ebbene due avvocati generali paradossalmente devo dire gli scherzi dell'ironia della storia tutti e due inglesi a distanza di quindici anni l'uno dall'altro Sir Jacobs prima e la Sharpton quella l'attuale avvocato generale inglese hanno fatto un'osservazione molto giusta e ve la leggo quella di Jacobs che è veramente illuminante dice nessun altro aspetto del diritto comunitario parlando della cittadinanza europea nessun altro aspetto del diritto comunitario riguarda più direttamente l'individuo e sviluppa in misura maggiore il senso di comune identità e di comune destino senza il quale l'unione sempre più stretta tra i popoli europei proclamata nel preambolo del trattato resterebbe uno slogan primo di fortemente in questa frase c'è il significato della cittadinanza dell'Unione Europea e c'è il significato se vogliamo dello sviluppo che ha avuto dell'evoluzione che ha avuto anche attraverso la creazione della cittadinanza europea il processo di integrazione europea il processo di integrazione europea fino a Maastricht è stato un processo tendenzialmente principalmente essenzialmente di carattere economico commerciale con il trattato di Maastricht cambia e diventa qualche cosa di più politico entra un'anima politica nel processo di integrazione europea e la se volete un esempio chiaro di questo passaggio è dato proprio dalla cittadinanza europea al cuore della cittadinanza europea lo dirò meglio tra un pochettino c'è un diritto che abbiamo noi cittadini europei che è quello della libera circolazione del soggiorno in qualsiasi altro stato o membro diverso dal nostro non è che questo diritto non esistesse prima della cittadinanza europea prima del 92 prima dell'istituzione della cittadinanza europea esisteva ma esisteva segmentato per categorie di cittadini e tutte categorie legate alla a un come dire al fatto che quelle categorie erano impegnate in un'attività produttiva era prevista la libera circolazione dei lavoratori dipendenti era prevista la libera circolazione dei lavoratori autonomi sotto il profilo dello stabilimento in un paese diverso dal proprio che svolge di un'attività di idraulico tanto per citare gli idraulici polattici ci si è tanto parlato o per prestarvi meramente occasionalmente una professione un servizio immaginatevi l'avvocato inglese che va davanti al tribunale francese ma comunque la libera circolazione quindi esisteva anche prima ma era stava a indicare sostanzialmente la mobilità dei fattori di produzione con Maastricht e la creazione della cittadinanza dell'Unione Europea quello stesso diritto diventa un diritto politico cioè un diritto legato al fatto stesso di essere un individuo cittadino di uno stato membro e di avere la cittadinanza europea e gli si ricollegono a quel punto una serie di diritti e di arricchimenti della sua situazione giuridica personale situazione giuridica e politica personale che sono ormai sganciati dalla sola dimensione economica e commerciale e soprattutto e soprattutto quel passaggio assegnato anche come giustamente rilevava Jacobs nelle sue parole nelle sue conclusioni assegnato il passaggio della dell'Unione Europea o della comunità economica allora ancora a una comunità di diritto a una comunità sociale a una comunità di cittadini a una comunità di cultura l'obiettivo della cittadinanza europea è un obiettivo anche giuridico ma è anche un obiettivo di carattere politico e forse prevalentemente un obiettivo di carattere politico cioè farci sentire noi cittadini degli stati membri cittadini non soltanto del nostro stato membro ma di una comunità più larga che quella che comprende tutti gli stati membri dell'Unione Europea e non è guardate una cosa strana tutti noi ci sentiamo cittadini romani cittadini laziali cittadini italiani ci si può sentire cittadini di varie entità di varie comunità con tutte abbiamo dei rapporti e la cittadinanza dell'Unione Europea vuole segnare essenzialmente questo e vuole rafforzare questo senso di identità non soltanto con lo stato nazionale o con altre entità sottostatali substatali ma anche con una comunità più vasta che quella dell'Unione Europea e attenzione non è qualche cosa che cresce dal nulla che esce dal cilindro di una così di alcuni visionari ma sganciati dalla realtà la comunità europea cioè la comunità intendo dei popoli europei in realtà al di là delle divisioni provocate dalle guerre eccetera c'è sempre stata il territorio europeo è sempre stato un territorio uno spazio di cultura di socialità di frequentazione tra i popoli degli stati membri fatevi un giro interessante è bellissima la città è ancora più bello il museo che si può andare a vedere ad Amsterdam a vedere il museo Van Gogh e scoprirete un museo bellissimo che traccia la fa vedere la vita di un pittore e di tutta una comunità di pittori di artisti in epoche in cui non c'erano i Frecciarossa non c'erano i Locosto eccetera che giravano l'Unione Europea e che si sentivano esattamente a casa loro indifferentemente nei Paesi Bassi come in Francia pensate un evento che forse qualcuno di voi sarà capitato di vederlo sul online su non mi ricordo più quale giornale che gli ha dato spazio di un concerto fatto da un grandissimo direttore d'orchestra alla London Symphony Orchestra Barenboim che al termine del concerto ha attaccato fortemente sul piano politico il governo inglese per la Brexit e l'idea della Brexit e ha citato la musica in particolare dato la sua specifica preparazione e specializzazione nel campo della musica la musica classica come un elemento unificante dell'Europa dice io per un francese non c'ha bisogno di sapere il tedesco per sentire la musica di Beethoven viceversa un tedesco non ha bisogno di sapere il francese per ascoltare la musica di Bizet o la musica di Verdi il cui dell'italiano giravano le opere liriche di Verdi per esempio in tutta la la l'Europa senza bisogno di una traduzione con il libretto e abbiamo insegnato forse di più l'italiano attraverso i libretti delle opere musicali che attraverso altre strade detto questo che chiudo con una piccola notazione personale io ho una figlia che vive e lavora negli Stati Uniti ormai da sette anni in un ambiente internazionale la banca mondiale la banca mondiale sapete che cos'è la Washington ha quindi frequentazione con americani e con colleghi di tutto il mondo e lei mi dice costantemente che ha molta più sintonia con un danese trova molta più sintonia con un danese con un svedese con un portoghese di quanto ce l'abbia con un americano e lì sta l'identità europea sostanzialmente detto questo che cos'è questa cittadinanza europea? questa cittadinanza europea è una formula che è stata creata a Maastricht non è la stessa cosa di una cittadinanza nazionale perché per due motivi da un lato è tributaria della cittadinanza nazionale si può essere cittadini europei in quanto si è cittadini di uno Stato membro e si perde la cittadinanza dell'Unione Europea se si perde la cittadinanza dello Stato membro quindi è una cittadinanza diciamo di secondo grado potremmo definirla in questo modo e non è non ha i contenuti tutti i contenuti che ha una cittadinanza nazionale che che si riconoscono nell'essere un cittadino di uno Stato membro la cittadinanza la cittadinanza nazionale da cosa è caratterizzata? è caratterizzata da diritti costituzionali di cittadinanza nei confronti del proprio Stato nazionale così come caratterizzata da dei doveri costituzionali nei confronti dello Stato nazionale che sia prima il servizio militare o il servizio civile o altri aspetti dei doveri costituzionali la cittadinanza europea non è così la cittadinanza europea è una cittadinanza che crea dei diritti essenzialmente nei confronti degli altri Stati membri ma non dell'Europa in quanto tale lo status i diritti che compongono lo status di cittadino dell'Unione Europea sono tutti diritti da far valere nei confronti di un altro Stato membro la libera circolazione in un altro Stato membro il soggiorno in un altro Stato membro l'esercizio dell'elettorato passivo alle elezioni comunali in un altro Stato membro l'elettorato attivo e passivo alle elezioni europee in un altro Stato membro di residenza non ci sono diritti nei confronti dell'Unione come ente ma nei confronti degli Stati membri e allo stesso tempo non ci sono doveri legati alla cittadinanza europea per quale motivo? per lo stesso motivo che in realtà l'Unione Europea non ha competenze in quelle materie in cui si esprimono i doveri costituzionali ad esempio non ha competenze in materia di esercito per fare un esempio più banale e quindi è difficile concepire dei doveri costituzionali europei legati alla cittadinanza è quasi impossibile nello Stato attuale dell'Unione e quindi qual è la funzione di questa cittadinanza dell'Unione? è quella è quella da un lato l'ho appena detto prima quella di creare una identità un elemento politico simbolico forte creare rafforzare anzi secondo me quell'identità che i popoli europei hanno comunque al di là di tutto quello che può essere successo nel territorio europeo negli ultimi due secoli e dall'altra parte di arricchire la posizione a questo fine la posizione la situazione giuridica di ciascuno di noi con quei diritti che vi dicevo prima a partire da uno che non è elencato tra tutti i diritti tra i diritti specifici della cittadinanza dell'Unione dell'istituto della cittadinanza dell'Unione il principio di non discriminazione o il diritto di non discriminazione da ragioni di nazionalità che è un diritto che è tipico dei cittadini europei perché non è non ha come beneficiare i cittadini di paesi terzi ma è tipico dei cittadini europei e quindi quando si parla di non discriminazione per ragioni di nazionalità si parla di non discriminazione per ragioni di nazionalità di un altro Stato membro questo diritto è l'elemento fondamentale che insieme alla libera circolazione e all'esercizio dell'elettorato passivo dà il significato vero a questo obiettivo di creare una comunità di cittadini nelle frontiere dell'Europa voi girate potete girare liberamente in qualsiasi altro Stato membro se però siete trattati esattamente come i cittadini di quello Stato membro perché sennò significherebbe che non varrebbe la pena di girare se vi foste trattati come degli stranieri non girereste e quindi l'anticipo di non discriminazione ha proprio la funzione di rafforzare da questo punto di vista l'idea della libera circolazione nello spazio fisico dell'Unione Europea Allo stesso tempo il diritto di elettorato alcuni diritti tipo l'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e alle elezioni europee se ci pensate bene in fondo ha la stessa finalità non soltanto dovete essere godere degli stessi diritti senza nessuna discriminazione dei cittadini nazionali dei cittadini dello Stato dove vi trovate in quel momento ma potete anche diventare parte della comunità più piccola costituita da quello Stato membro o dal comune di quello Stato membro dove vivete e quindi vi viene riconosciuto vi viene riconosciuto l'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali del comune dove residete in un altro in un altro Stato membro come vedete quindi la costruzione di questo dei diritti che compongono lo Stato sul cittadino europeo ha una sua intima funzionalità e coerenza che mira tutto l'obiettivo che vi dicevo prima la Corte di Giustizia ha definito la cittadinanza dell'Unione Europea lo status fondamentale dei cittadini degli Stati Uniti status fondamentale perché viene riconosciuto appunto una serie di diritti importanti status fondamentale perché rappresenta una diciamo la via attraverso cui si consolidano i rapporti sociali economici e culturali tra i popoli d'Europa ma è uno status fondamentale talmente fondamentale che addirittura in certi casi ha detto la Corte di Giustizia può essere fatto valere nei confronti del proprio Stato nazionale quindi è vero che come vi dicevo prima i diritti che compongono lo status di cittadinanza sono essenzialmente diritti da far valere contro gli altri Stati membri nei confronti degli altri Stati membri sono loro che sono obbligati a riconoscere i diritti che vi ho citato prima però ad alcune condizioni ha detto la Corte di Giustizia la cittadinanza dell'Unione è uno status che può essere fatto valere anche nei confronti del cittadino nazionale e scusate del cittadino nazionale anche nei confronti dello Stato nazionale dello Stato di cui si è il cittadino io non so se eh devo interrompermi qua perché non ho visto quando ho cominciato e non so quanto dovevo parlare eh comunque sono a disposizione per eventuali altri eh interventi grazie applausi 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 io ringrazio il professor Adam tra l'altro ecco volevo chiedere se avete domande finora sulle relazioni che sono state presentate finora non ci sono domande e allora passeremo a una sessione leggermente interattiva per la quale dobbiamo però spostarci io mi sposto e tu rimani qui eh Roberto Santaniello che è il consigliere speciale media e comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea ci parlerà chi? uno specie di 007 sono no eh allora ragazzi eh credo che la la comunicazione che ci ha che stai fatto il professor Adam ci porta dentro eh un tema del tema cioè oggi si parla del cammino dell'Europa dalla comunità all'Unione Europea quello che tenteremo di fare secondo me lo farà ancora meglio di me la eh Ricci quando parlerà di Erasmus è il vostro cammino all'interno dell'Unione Europea perché mi sembra giusto e doveroso poiché siete qui siete attenti pazienti anche per ascoltarci di darvi alcune indicazioni su quello che può darvi eh l'Unione Europea per esempio mi viene in mente che tutta la parte dei fondi strutturali di cui parleremo più in seguito che naturalmente dirige una serie di investimenti per la crescita ha a che fare con il nostro ma soprattutto con il vostro futuro e eh riprendo l'espressione ma non provocativamente rispetto a Roberto Adam cioè che l'Unione Europea è soprattutto una comunità di diritti e quello che avete appena ascoltato cioè il fatto che voi siete cittadini dell'Unione Europea vi dà una serie un sistema di diritti che in precedenza non erano attribuiti a giovani eh anziani donne bambini insomma è un è qualcosa di interessante e di importante io però che devo parlare di oggi era di come eh comunica l'Unione Europea e a voi sembrerà qualche cosa dell'istante poi vi accorgerete che invece voi stessi siete eh attori della comunicazione anzi cominciamo subito ragazzi quanti di voi alzino la mano hanno un account Facebook per cortesia partecipate chi non ce l'ha è interessante capire chi non ce l'ha di voi ragazzi ah lei non due non ce l'avete tre quattro non ce l'avete va bene eh andiamo sul più sofisticato Twitter chi ha un account è Twitter le mani già scendono sono di meno quindi immagino che per converso non ce l'avete ve ne facciamo un terzo a caso Instagram chi c'ha Instagram scusate non ho scusate abbiate pazienza che insomma non so parlare inglese quindi ho difficoltà nel chi non ce l'ha vabbè insomma però è strano perché sembrerebbero che ci sono degli astenuti perché non ho visto alzare mani corrispondenti va bene allora e questo si l'ha scaricato ma non lo utilizzo questo perché perché senza poi magari lo farò dopo senza entrare nel dettaglio l'Unione Europea la chiamerò così ha intrapreso tutto un percorso di comunicazione anzi di informazione che dopo è diventato di comunicazione informazione per cosa e per chi lo ha già detto all'inizio ancora Roberto Adam per i settori che interessavano il progetto europeo l'economia il commercio tutte le questioni economiche per chi soprattutto per coloro che erano interessati a questo cioè le elite nazionali le burocrazie nazionali scusate le amministrazioni nazionali e semmai le categorie economiche e sociali che interagivano con questo mondo vedete erano sostanzialmente scusi i cittadini le cose cambiano lentamente ma cambiano quando si passa dall'informazione per cosa e per chi per cosa e per chi a una comunicazione per cosa e con chi questa è la differenza ci sono tutti quegli esperti che si arrovellano ma che differenza c'è tra informazione e comunicazione questa è la proposizione per chi e con chi e la comunicazione è fatta con coloro che vogliono interagire e qui cominciamo a vedere qualche cosina che ci interessa primo il sito della rappresentanza è il sito che dà informazione e e anche consente comunicazione a coloro che sono interessati alle questioni riguardanti l'Unione Europea naturalmente ciascuna rappresentanza ce ne sono 28 perché c'è ancora una 28esima stiamo parlando di quella di Londra naturalmente che hanno i loro rispettivi seti e che naturalmente si dirigono a giovani donne, bambini e chi altro dei loro rispettivi paesi e poi naturalmente c'è il sitone europeo cioè c'è la base dati c'è il sito europeo che naturalmente si rivolge all'insieme dei cittadini europei quindi anche a voi quindi già avete due possibilità informarvi e comunicare attraverso il sito ma perché vi ho chiesto di alzare le mani su Facebook Instagram e Twitter perché ormai la comunicazione della Commissione Europea viene canalizzata anche da questi strumenti soprattutto da questi strumenti e la bravissima Claudia ce li fa vedere cioè inizierei dal profilo Facebook Claudia cioè quindi da Europa in Italia e in questo caso vedrete che abbiamo una comunicazione friendly amicale non unionale con con voi con chi ci con chi ci segue e anche qui diamo informazioni e naturalmente con Facebook abbiamo una persona potrei anche dire nome e cognome non lo faccio ma si lo dico Stefano Castellacci che ci risponde a tutti coloro che postano su Facebook alle domande che rivolgono che vengono rivolte a noi e noi abbiamo e sentiamo il diritto e dovere di rispondere a tutti quindi anche a voi se volete risponderci e naturalmente seguirci quindi primo consiglio non obbligo prendete nota di questo profilo e seguiteci secondo secondo canale di trasmissione è Twitter che appunto è chiocciola Europa in Italia e anche qui naturalmente riceverete tutta una serie di input gemellateci quindi twittateci mettete anche voi il vostro seguiteci in qualche maniera e anche qui avrete la possibilità non solo di ricevere informazioni ma di comunicare con noi ed avere quindi un dialogo se vi interessa poi naturalmente vedremo che cosa vi interessa e terzo naturalmente più una cosa moderna fresca magari leggera che è Instagram il nostro abbiamo anche questo naturalmente credo che abbiamo ancora pochi post parlo bene perché Claudia viene dalla direzione generale della traduzione e quando io parlo in inglese vuole che utilizzo bene le S e i plurali e mi raccomando eh e non ci vuole mi sta ancora mi sta ancora allora ragazzi perché vi ho dato questi canali perché naturalmente il vostro dato la cornice giuridica che vi ha eh eh con chiarezza definito il professor Adam eh eh posta la l'inquadramento politico che ci ha dato Pier Virgilio Dastoli ciò che ci ha ricordato Claudia quando ci ha detto che probabilmente anzi no probabilmente sicuramente parteciperete nel 2019 al prossimo alla prossima tornata elettorale per scegliere i vostri rappresentanti al Parlamento europeo ma tutto questo a voi che cosa interessa beh interessa e penso di dirvi che interessa molto perché perché ci sono tutta una serie di strumenti a volte sconosciuti a volte non chiarissimamente definiti o comunque nella vostra testa non sono ancora percepiti in nella loro eh totalità e profondità che possono interessarvi a condurvi a la vita di cittadini europei adulti pienamente dentro il mondo del lavoro la prima considerazione da fare ancora una volta mi rivolgo il mio sguardo a Claudia è l'importanza delle lingue è fondamentale io personalmente ne parlo poche cioè parlo a stento l'italiano il romano poi parlo un po' inglese e francese e va sicuro che ancora oggi avere un'accumulazione di capitale vostro umano riguardante le lingue è fondamentale è strategico per il vostro cammino di cittadini europei e di giovani professionisti in Europa e per l'Europa dopodiché il naturalmente esistono una serie di altre possibilità lo scopriremo con Erasmus ma quello che vorrei sottolineare è che probabilmente la percezione che oggi abbiamo dell'Europa anche grazie o naturalmente purtroppo a certe distorsioni del di vari soggetti e lì entro nel grande capitolo che ha per un attimo evocato il professor Adam cioè le fake news che noi con orgoglio chiamavamo già vent'anni fa le eurobufale cioè quelle che gli inglesi chiamano le euromiti cioè quelle notizie false e tendenziose che mirano a discreditare le istituzioni europee ce ne sono tantissime ve le voglio ricordare le fragole quadrate le noci triangolari i fagiolini verdi o lunghi le orecchie dei cocker che dovevano essere regolamentate dall'Unione Europea ce ne sono una panoplia alcune certo nascoste dal fatto che per un certo periodo della 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 sua attività la Commissione Europea ha voluto regolamentare alcuni settori economici per garantire la libera circolazione delle merci ma in linea di massima goccia a goccia la percezione di queste notizie sostanzialmente possono giustificare il fatto che ha ai cittadini l'Unione Europea non sta proprio simpatica eppure ma non perché devo dirlo perché istituzionalmente sono obbligato a farlo l'Unione Europea ha fatto tutta una serie di cose utili per noi che non ci rendiamo conto che difficilmente la stampa o i media coprono allora per esempio sul sito della rappresentanza troverete una bella pubblicazione che vi invito a leggere se avete tempo se avete curiosità che è 60 ragioni per essere europei correggimi se sbaglio 60 buone ragioni per cui abbiamo bisogno dell'Unione Europea per esempio ve ne posso citare alcune ma non vorrei annoiarvi per esempio quando eravate probabilmente già quando eravate bambini voi esisteva una direzione generale una direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e un'altra sui giocattoli che ha consentito e le statistiche sono da questo punto di vista importanti di salvaguardare la vita dei bambini perché? perché i giocattoli prima erano fatti senza criterio potevano smontare i pezzi e come probabilmente potete immaginare molti di questi bambini si ringogliavano con conseguenze che spesso sono state anche mortali e questo vale anche per la legislazione ambientale se l'Italia ha una legislazione ambientale all'altezza delle sue ambizioni e del fatto di essere un paese comunque che ha un livello di inquinamento non statosferico questo è grazie all'Unione Europea alla legislazione comunitaria se abbiamo una legislazione per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare questo deriva dalla legislazione comunitaria e questi sono soltanto esempi questo vi per spiegarvi ancora una volta per quale motivo parlare essere qui oggi ha un senso e soprattutto ha un senso cercare immaginare e cercare di riflettere quale può essere il vostro futuro e quale cammino potete intraprendere all'interno dell'Unione Europea dopo di che posso naturalmente parlarvi ma lo farò veramente brevemente del fatto che la Commissione Europea comunica attraverso dei comunicati stampa in particolare ciascun il mercoledì quando si riuniscono quando si riunisce il collegio dei 28 commissari dando quindi conto informando e comunicando sulle iniziative che la Commissione ha preso per quella specifica settimana esattamente come fa il Consiglio dei Ministri credo il venerdì quando si riunisce il sede del Consiglio dei Ministri se un giorno siete incuriositi dai canali televisivi c'è un canale satellitare Euro by satellite dove almeno una volta potrete non vedere soltanto quelle che le immagini che ci fanno e che ci propongono i media nazionali cioè la stretta di mano di fronte al giusto dei capi di Stato e di Governo che entrano e che poi naturalmente continuano a discutere la stessa cosa vale per il Parlamento europeo con questo canale chi è curiosito di voi anche attraverso internet ci arriva e vede quello che fanno le istituzioni comunitarie in trasparenza e così altre iniziative tra cui una che ha preso avvia da un po' di tempo all'interno della nostra rappresentanza il blog cancelletto insieme siamo Europa che è un'altra dei nostri canali di comunicazione attraverso cui via con post scritti o con immagini possiamo comunicare con voi soprattutto presentamente facendo capire quali sono le iniziative più importanti quali sono i percorsi da intraprendere quale e cosa conoscere per essere cittadini europei e quali sono le opportunità che l'Unione Europea la Comunità scusate la Commissione Europea vi offre e questo in sintasi quello che devo dire non so se come account del di Facebook o di Twitter o di Instagram vi ho incuriosito scusito magari con qualche domanda da parte vostra che sarebbe davvero la benvenuta c'è qualcuno di voi che ha voglia di dire qualcosa? senza paura timori? ho visto una persona che forse non siete resa conto ma ha alzato la mano per sbaglio che non più guarda nemmeno lei ha alzato la mano prima? no ragazzi non ci sono veramente domande? nessuno ha una curiosità lei ha va beh va beh un diversamente giovane come dice ci dà un accompagnamento musicale anche questo è il massimo bene comandio comandio allora credo che qualche rispostina grazie 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 colonnello sentite a questo punto bisogna che qualcuno di voi si parli dopo il colonnello un ragazzo che vuole dire una cosa per coltesia hai da!" c'è e ecco l' momento iniziamo ma Facciamo un trittico, chi fa la terza domanda poi ci fermiamo ringraziandovi, guardo sempre in fondo. Un ragazzo, avremo più... Vi verranno, credo che ciò che ha detto il coronel sia abbastanza interessante e in realtà ti sto prendendo il ruolo, scusami Claudio. Io volevo mostrare, nel tratempo stavo mostrando questo documento di riflessione sul futuro della difesa europea perché a seguito del libro bianco che è stato pubblicato a marzo, il libro bianco sul futuro dell'Unione Europea, la Commissione poi ha pubblicato cinque documenti di riflessione che spaziano, che riguardano il contesto e il futuro dell'Unione. E' un documento di riflessione sulla globalizzazione, un documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa, uno sull'Unione economica e monetaria e poi c'è un documento sulle finanze e uno sul futuro della difesa. Quindi lì ci sono gli scenari per il futuro. Però adesso non volevo entrare in questo merito ma almeno mostrare questo documento di riflessione perché appunto è recente ed è la base di discussione per il futuro dell'Europa che vogliamo. Sottolineo che ho finito il mio compito, che lascio a Claudia la moderazione, credo che sia D'Aspoli che Roberto sia Reggio hanno qualcosa a cui rispondere. Tutte e due le domande però molto velocemente anche per non togliere spazio ai relatori successivi, infatti forse sarebbe stato meglio ragionare le domande alla fine per tutti quanti. Comunque, politica estera di difesa, il colonnello ha sollevato questo problema, lei è particolarmente avvertito, gli altri ascoltatori non lo sono probabilmente quanto lei. Non voglio entrare nei dettagli, sarebbe impossibile, ruberei non dico tutta la mattinata ma tutta la giornata. L'unica cosa che mi sento di dire è che il trattato prevede un orizzonte lontano, la difesa comune, ma è un orizzonte molto lontano che dovrebbe essere raggiunto all'unanimità. E tenete conto di una cosa che vale per la politica estera ma vale anche per la politica di difesa in senso stretto, che sono due settori in cui la diversità tra gli Stati membri è talmente forte perché immaginare a breve la possibilità di una difesa comune è molto complicato, soltanto rimanendo sul campo della difesa. Ci sono stati che hanno l'arma nucleare, stati membri dell'Unione Europea che hanno l'arma nucleare e altri che non ce l'hanno. Ci sono stati neutrali e altri che non lo sono e così via. Quindi diventa estremamente difficile. Quello su cui si sta lavorando oggi è un cammino da fare che potrà portare in un lontano futuro alla difesa comune, ma basato molto su un'integrazione differenziata, su un'attuazione differenziata di azioni in materia di politica e di difesa. L'ultima di queste è finalmente l'avvio della cooperazione rafforzata, la cooperazione rafforzata in materia di difesa che l'ultimo Consiglio europeo ha avviato. Naturalmente sono i primi passi che si dovrebbero fare tra gli Stati che dispongono di capacità militari adeguate e che sono disponibili a metterle insieme al fine di sviluppare le capacità complessive di difesa dell'Unione Europea. È un settore comunque, e qui chiudo, essenziale per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea non si occupa dei fagiolini, ma certamente si occupa di tante cose importanti che la portano ad essere una delle principali potenze economiche mondiali, economico-commerciali mondiali. Però a questa potenza economica-commerciale non corrisponde è una potenza in materia di politica estera e in materia di politica di difesa. Quindi è un attore globale che è claudicante per certi versi e la dimostrazione qual è? Che se ci pensate bene è l'attore globale forse più importante, ma che ha ai suoi confini una serie di focolai di conflitto che gli altri non c'hanno e che non è in grado di gestire più di tanto proprio per le carenze che ha sul piano della politica estera e di difesa, che opera sulla base di una regola di voto, l'unanimità. Malta può bloccare le decisioni degli altri 27. Venendo invece alla seconda domanda che ha fatto lei, i seggi del Regno Unito, lasciamolo prima uscire il Regno Unito. Siamo sicuri che poi alla fine uscirà. Ecco, se uscirà, uscirà a fine marzo del 2019. Le elezioni europee saranno prevedibilmente ai primi di giugno del 2019. Prima che escono non è possibile fare nulla, perché non si può vendere la pelle dell'orso prima di averla ammazzata. E quindi bisognerà cominciare eventualmente, dopo marzo, a fare qualche cosa. E per fare quel qualche cosa è talmente complicato che semmai si potranno utilizzare e avrà senso utilizzare i seggi lasciati liberi al Parlamento Europeo dal Regno Unito, se ne parlerà per le elezioni europee del 2024. Prima è estremamente complicato. Si sono sentite voci di fare idee, facciamo una circoscrizione europea. Attenzione, fare una circoscrizione europea che cosa vuol dire per chi non è addetto ai lavori? Significa fare un... Oggi noi votiamo per circoscrizioni nazionali, noi italiani votiamo sulla circoscrizione italiana. E leggiamo dei parlamentari che sono eretti lì, soggetti a una legislazione elettorale italiana, così come Francia viene altrettanto e compagnia bene. Questa circoscrizione europea dovrebbe portare alle elezioni di parlamentari europei che non fanno capo a nessuno Stato, formalmente, però hanno una nazionalità, perché non sono appogli. Quindi hanno una nazionalità e quindi l'idea di creare un sistema ibrido in cui accanto a dei parlamentari eletti su una circoscrizione nazionale regolata da regole nazionali e dei parlamentari europei eletti invece sulla base di regole europee può creare una serie di problemi tecnico-giuridici anche sulla base del principio di uguaglianza. Non vi dico cosa può rappresentare. Faccio un solo esempio e poi chiudo e poi taccio. Alcune delle incompatibilità con il carico parlamentare europeo sono fissate a livello nazionale. Ogni Stato c'ha le sue, a parte quelle europee che sono comuni. Noi ce n'abbiamo una. Non si può essere contemporaneamente parlamentare europeo e governatore di una regione, presidente di una regione o sindaco di una grande città, sopra un certo numero di abitanti. Questa incompatibilità si applicherebbe ai parlamentari europei eletti nella circoscrizione nazionale. Applicherebbe all'eventuale parlamentare italiano eletto nella circoscrizione europea. Questo significherebbe che due persone che hanno la stessa cittadinanza, uno potrebbe fare contemporaneamente avere due mandati e l'altro non potrebbe avere. Questo sarebbe evidentemente un qualche cosa che non può funzionare dal punto di vista, se non altro, del principio di ugualiazza. Naturalmente il professor Adamo vi ha descritto la situazione, come si dice in latino, e poi qualche volta i trattati delle leggi possono essere anche cambiati. Mi ricordo che quando facevamo il progetto Spinelli andammo al Bundestag e ci fu il presidente della commissione estera del Bundestag che dice a Spinelli che dice che lei si rende conto che se noi dovessimo adottare il suo trattato dovremmo modificare la Costituzione tedesca. E modificatela. Nel senso che per esempio lo stessa cosa avviene in... Adesso ho letto sul televideo che il governo spagnolo ha deciso di andare avanti con la procedura dell'articolo 150 che è arrivata alla sospensione dell'autonomia catalana e quando fu sospesa l'autonomia della Catalogna, lo statuto nuovo dell'autonomia del 2006, il Tribunale Costituzionale disse che questo statuto dell'autonomia contrasta con la Costituzione. Forse la cosa migliore in quel momento sarebbe stato di modificare la Costituzione spagnola per consentire di fare entrare in vigore quello statuto dell'autonomia che avrebbe evitato tutti i problemi che abbiamo in questo momento con la Catalogna. Però al di là di questo volevo aggiungere a quello che diceva il prossimo anno che dal punto di vista della discrizione dell'Unione Europea qual è molto giusto. Primo è che il trattato comunque prevede che un giorno o l'altro, nel 1979, l'Unione Europea dovrà adottarsi di una procedura elettorale unica. Quindi adottando una procedura elettorale unica effettivamente si può risolvere il problema di una certa discresia tra le leggi nazionali che stabiliscono dei criteri diversi. Il Consiglio del Ministro ha stabilito dei criteri di carattere generale che devono essere applicati in ogni stato la possibilità di ogni stato di introdurre un'aggiunta a dei criteri. Un giorno o l'altro ci sarà, e noi speriamo il più rapidamente possibile, una procedura elettorale unica. La seconda cosa è che certo i deputati sono espressioni del voto nazionale, però il trattato ha introdotto anche due principi fondamentali. Il primo è che possono essere candidati a livello nazionale dei cittadini di altri paesi. Quindi non tutti i deputati italiani possono essere di nazionalità italiana, noi abbiamo una deputata, ex deputata italiana, Monica Frassoni, che è stata eletta in Belgio, e quindi il trattato consente la possibilità di avere dei deputati eletti provenienti da paesi diversi rispetto a quelli in cui sono candidati. La seconda cosa è che il trattato di Lisbona ha introdotto il principio che differisce rispetto ai trattati precedenti, secondo il quale i parlamentari europei rappresentano l'insieme dei cittadini dell'Unione. E quindi questo per esempio pone un problema tra quelli che dicono che bisognerebbe creare all'interno del Parlamento europeo una zona di deputati soltanto dell'eurozona, perché i deputati italiani non rappresentano l'Italia, ma rappresentano l'insieme dei cittadini dell'Unione. E il terzo elemento originale è che il trattato con molta saggezza ha introdotto il principio secondo il quale la composizione del Parlamento europeo è decisa non modificando i trattati, ma attraverso una proposta del Parlamento europeo al Consiglio, il quale promette di decidere l'animità, ma che non richiede la modificazione dei trattati. E quindi nella misura in cui un domani si dovesse decidere che dei 751 deputati, 73 potessero essere eletti su una lista transnazionale, questo potrebbe avvenire attraverso una proposta del Parlamento europeo, una decisione della comunità del Consiglio dei Ministri, senza chiedere una modifica del trattato. L'ultimo elemento che vorrei dire è che noi abbiamo un paese nel quale i deputati possono essere eletti su circoscrizioni diverse. In Germania gli elettori tedeschi possono votare o per eleggere un deputato in una circoscrizione, chiamiamola regionale, oppure eleggere un deputato su delle liste federali, diciamo così come avviene nelle elezioni europee in Germania. I deputati europei tedeschi non è che si sentono in qualche modo discriminati se alcuni vengono eletti nelle liste dei lender e altri vengono eletti nelle liste federali. Nel Parlamento europeo ci sono deputati che provengono di circoscrizioni diverse, che è un sistema federale come quello tedesco. Il che ci vuol dire che ci sono degli esempi che possono in qualche modo, perché la possibilità che un domani anche nel Parlamento europeo ci possono essere deputati eletti su dimensioni territoriali diverse, una dimensione territoriale nazionale e anche una dimensione territoriale transnazionale. La proposta che aveva lanciato Andrew Duff nello scorso Parlamento europeo dicendo che eleggiamo a livello europeo 25 deputati su liste prenazionali ed è una proposta che è stata lanciata dal governo italiano e dal governo belga e che è stata sostenuta anche da Macron nel discorso che ha fatto alla Sorbonne in cui ha detto dei 73 deputati, non ridistribuiamoli tra i 27 paesi e noi mandiamoli a casa ma eventualmente immaginiamo la possibilità, però ha ragione Adamo quando dice che tra il 29 marzo del 2019 le elezioni europee che saranno al più tardi all'inizio di giugno sarà complicato effettivamente adottare una decisione genere. Però Macron ha detto che pensiamo alla possibilità che nel 2014-2024 ci siano dei diputati che saranno eletti su liste transnazionali in una composizione del Parlamento europeo diversa rispetto a quella attuale, quindi diciamo così, qualche volta la realtà può essere diversa rispetto al diritto. Credo che le risposte siano state in entrambi i casi esaurienti. Passiamo ad un argomento che per quanto riguarda i ragazzi è veramente importante e cioè Erasmus, i 30 anni di Erasmus, ma credo anche per un po' di descrizione che cos'è Erasmus, con Alessia Ricci, Agenzia Nazionale Erasmus Plus, il dire settore comunicazione e studio di analisi. Buongiorno, perdonate se devo passare qui, in questa posizione. Buongiorno a tutti, io sono Alessia Ricci e lavoro per l'Agenzia Nazionale, Erasmus Plus Plus, l'ente che in Italia si occupa dell'addizione dei programmi comunitari afferenti all'istruzione, all'istruzione superiore e all'educazione degli adulti. Come lo posso sperimentare? Scusate, un secondo di tecnicismo. Sono solo io che lo vedo così, perdona, pensavo anche voi, perdonatemi. Perfetto. Bene così, allora vi dicevo, io in particolare lavoro sull'istruzione superiore e quindi sul ben noto programma, mi auguro almeno, programma Erasmus. Erasmus nasce nel 1987, siamo quindi quest'anno a celebrare i 30 anni del programma comunitario probabilmente tra i più noti e di maggior successo in Europa. nasce nel 1987 con pochi di quelli che noi definiamo pionieri, cioè coloro i quali che all'era sufficientemente curiosi si informarono su questa possibilità, erano poco più di 3.000 in tutta Europa, poco più di 220 in Italia. abbiamo raggiunto oggi e anzi superato i 4 milioni di studenti che in Europa dal 1987 hanno partecipato al programma di mobilità internazionale Erasmus, da tutti, da tanti quindi conosciuto. l'Italia è un paese che fortunatamente da sempre riveste un ruolo e un paese specifico all'interno della gestione del programma, siamo quarti per numero di outgoing, quindi di quegli studenti che decidono di partire per andare a studiare o a lavorare come vedremo in un altro paese d'Europa e quinti per ospitalità, per numero di incoming, quindi per quegli studenti che invece europei decidono di venire a studiare presso le nostre sedi comunitarie o a lavorare presso imprese italiane. Allora per cercare come diceva anche la dottoressa Covassi, in realtà l'invito inizialmente come anche da programma era per riferito in particolare, insomma con un intervento in particolare sulle celebrazioni per il trentennale del programma Erasmus, ma essendo una platea così ricca di giovani, tra l'altro nell'ultimo anno, credo se non vado errata, di istruzione secondaria e superiore, quindi gli italiani europei che a breve, vi auguro, decideranno di iscriversi all'università, allora abbiamo cercato di dare un taglio a questa presentazione che potesse anche informarvi delle possibilità appunto di mobilità, di cui potete approfittare una volta iscritti all'università o a un conservatorio o a un'accademia di belle arte, a tutti appunto quegli istituti di istruzione superiore per i quali si intende insomma tutto quanto viene dopo il liceo per banali termini, istituti di istituzione secondaria e superiore. Quindi Erasmus consente quella che sicuramente è la più nota, cioè la mobilità internazionale a fini di studio, ma dal 2007 la Commissione ha integrato le possibilità riferite agli studenti anche con mobilità internazionali a fini di training ship, quindi di tirocinio, ciò vuol dire che a seconda del percorso accademico che state svolgendo potrete andare a svolgere un tirocinio all'estero. Questo è possibile quindi come vedete dal secondo anno di iscrizione, dal secondo anno accademico di iscrizione all'università per la mobilità a fini di studio, dal primo anno per i tirocini con un minimo di permanenza all'estero che va rispettivamente da due mesi per i tirocini, tre mesi per lo studio fino a un massimo di 12 mesi. È importante sottolineare che questi 12 mesi sono per ciclo di studio, che vuol dire sicuramente insomma anche qui volendo banalizzare i termini per capirci avrete sentito la laurea triennale, il primo ciclo, il secondo ciclo, il terzo ciclo, Erasmus consente la mobilità appunto sia nel periodo di laurea che di laurea magistrale che di dottorato, abbiamo qui una dottoranda che pertanto può approfittare se mai volesse, l'unità di mobilità internazionale Erasmus e avrete a disposizione 12 mesi per ciclo di studio. Questo vuol dire che quindi si può ripetere, cosa che ai miei tempi quando io partì in Erasmus non era possibile. Oggi la Commissione ha deciso di appunto consentire l'opportunità di rinnovare l'esperienza. Per ciclo di studio vuol dire che banalmente potete partire nella vostra triennale per esempio candidarvi e ottenere una borsa di studio Erasmus per svolgere sei mesi di mobilità a fini di studio Svezia, dico per dire, e altrettanti sei mesi di mobilità a fini di tirocinio in Spagna. Quindi insomma una grandissima novità, una grandissima opportunità. Questi 12 mesi per quanto riguarda il tirocinio si estendono nel post laurea, ma ciò vuol dire che chiaramente è riferito solo al tirocinio perché insomma gli esami li avete terminati per allora e pertanto insomma se comunque sarete risultati vincitori durante l'iscrizione all'università nell'ultimo anno accademico potrete disporre comunque di questo arco temporale, di questa finestra temporale a seguito del conseguimento del titolo per ulteriori 12 mesi. Insomma davvero un'opportunità ulteriore importante. Che succede? Succede però che Erasmus insomma cresce e si evolve continuamente perché ci crediamo tutti tantissimo, la Commissione è con noi e con voi e quindi dal 2015 Erasmus si è aperto al rest of the world, ai cinque continenti e quindi la mobilità internazionale Erasmus adesso è consentita appunto per qualsiasi altro paese oltre confine europeo. Vuol dire che insomma potrete andare in Sri Lanka come in Cina, in Giappone, in Canada, negli USA e allo stesso modo chiaramente i nostri atenei, gli atenei europei accoglieranno studenti dai cinque continenti e questa possibilità verrà estesa dal 2018 anche alle mobilità a fini di tirocinio. E dunque questo insomma per darvi davvero in pillola, in pillole il macro insomma frame di entro il quale muoversi nel programma Erasmus, ci tengo però a precisare che appunto Erasmus ha un'attenzione particolare verso tutti ed Erasmus vuol dire tantissime altre opportunità e appunto come vediamo si rivolge assolutamente ed include assolutamente studenti con esigenze speciali che vuol dire studenti con disabilità di un grado più o meno importante, tra l'altro l'Italia ha sempre rivestito un ruolo di primordine nella mobilità outgoing di studenti con esigenze speciali e oggi siamo stati superati solo dalla Polonia, ma Erasmus ha anche un'attenzione particolare verso quegli studenti con condizioni economiche svantaggiate e quindi questo vuol dire che c'è un upgrade economico per coloro i quali appunto provengono da un background con condizioni economiche svantaggiate, ma Erasmus vi aiuta anche in quella che è notoriamente dei limiti vissuti prima della partenza da tanti studenti che è la barriera linguistica, la paura di confrontarsi con altre lingue all'estero e allora la Commissione Europea ha in posizione l'online linguistic support, quindi uno strumento dei corsi per i propri di lingua online gratuiti che chiaramente aiutano e supportano lo studente anche nella fase di integrazione nel paese che lo andrà ad ospitare. Erasmus come vi dicevo e anche tante altre cose, questo è già un grado più articolato, elevato, ma insomma è anche Erasmus Mundus Joint Master Degree che vuol dire corsi di studio congiunti, banalmente avrete la possibilità di partecipare a questi percorsi accademici altamente qualitativi, formativi, tra l'altro con ricadute occupazionali eccezionali che sono siglati da più università in paesi differenti. Quindi si concorda un unico percorso accademico che obbliga in qualche modo lo studente a seguire almeno un semestre in ciascuna università per raggiungere un titolo unico però riconosciuto da tutti i paesi che partecipano a questo Joint Master Degree. Ci sono chiaramente delle borse di studio ad hoc anche tra l'altro cospicue anche per questa opportunità che va detto comunque è abbastanza selettiva. Da ultimo non certo per importanza il sistema di garanzia dei prestiti Erasmus Plus anche qui siamo a livello insomma un po' più in là nel tempo rispetto alla vostra all'avvio del percorso accademico perché questo si riferisce a livello Master quindi secondo ciclo di studio però tutti coloro che avessero voglia di svolgere appunto un intero ciclo Master all'estero hanno la possibilità di fare richiesta di prestiti assolutamente agevolati che vanno di 11.000 euro per un anno di corso appunto di laurea specialistica e 18.000 euro per laurea specialistiche di due anni questo appunto laddove chiaramente non se da Roma vuole studiare a Roma ma se da Roma andate in Spagna piuttosto che in Inghilterra. Insomma Inghilterra non è l'esempio più azzeccato forse in questa fase. Bene quindi questo diciamo ripeto il macro schema di possibilità riferita agli studenti e benvenuti insomma poi si possa approfondire quando volete come volete. Chi parte visto che insomma siete voi o anzi meglio ancora verso dove partiamo abbiamo detto che siamo quarti in Europa per numero di studenti outgoing dove vanno questi studenti? In prima battuta sicuramente in Spagna per forse ovvie ragioni seguita dalla Francia, terzo posto della Germania, il Regno Unito è davvero molto gettonato per le mobilità a fini di tirocinio ed ecco invece chi parte. Dunque mi fa piacere insomma una nota di parte perché da sempre sono le donne a rappresentare la fetta più importante del programma e l'età media insomma per lo studio si aggira intorno di tre anni, cresce un pochino per i tirocini che appunto toccano i 25 anni, la permanenza media all'estera è di sei mesi per lo studio, di tre mesi per il tirocino vedete anche qui una nota sul contributo economico comunitario che diciamo elargiamo noi come agenzia nazionale che chiaramente riceviamo sono fondi comunitari quindi insomma riceviamo dalla Commissione europea queste sono sicuramente notate che per i tirocini è più consistente, vero è che sebbene esigue sono cifre che di norma sono integrate da fondi di Ateneo, da fondi ministeriali, nonché chiaramente va detto che se siete beneficiari di una borsa per il diritto allo studio regionale è assolutamente valida diciamo la portabilità delle borse all'estero quindi andando fuori comunque potrete continuare ad usufruire di quei fondi aggiuntivi, insomma si riesce a raggiungere una cifra un po' più cospicua che chiaramente è un supporto, non riesce a coprire come dire le intere esigenze di vita all'estero allora dicevamo 1987-2017, 30 anni di Erasmus, programma comunitario come detto di maggior successo ed è assolutamente vero che il successo diventa anche personale, sono tantissimi i FEMUS che hanno svolto un periodo di mobilità internazionale Erasmus, qui ve ne ho riportati solo qualcuno qualcuno, molti li avrete già riconosciuti, Pierluigi Pardo giornalista sportivo che insomma sarà facilmente noto ai maschietti, conduttore di trasmissioni televisive, Luca Argentero probabilmente ha più appeal tra le donnine ma insomma un attore altrettanto famoso Andrea Sironi che è stato rettore dell'università di Bocconi sino all'ultimo mandato Roberto Saviano scrittore che insomma tra i giovani riscuote abbastanza successo per cui dovreste conoscerlo altrettanto Christian Greco che è il bravissimo direttore del museo egizio di Torino museo di importanza insomma mondiale, secondo nel mondo solo al museo del Cairo e mi fa piacere insomma dire che abbiamo intervistato la settimana scorsa ospiti diciamo dei locali del museo egizio appunto a Torino e che la cui intervista sarà disponibile sul nostro sito e sui nostri canali social della prossima settimana ultima ma di certo anche qui non per importanza Martina Caironi che è una studentessa eccezionale, una di quelle di cui vi facevo menzione poc'anzi una studentessa con esigenze speciali una studentessa oro alle Paralimpiadi di Londra oro a Rio, porta bandiera a Rio è una studentessa davvero brillante, eccezionale con una carica unica che è andata in mobilità internazionale Erasmus in Spagna e che in Spagna è riuscita ad indossare la gonna cosa che probabilmente per evidenti ragioni non riusciva come dire a superare fino a quel momento e che evidentemente Erasmus invece l'ha aiutata anche nel superamento di questo limite mentale in qualche modo e dunque qui abbiamo, vi mostro un video di davvero una clip di un minuto e mezzo di Pierluigi Pardo, è un messaggio molto poco istituzionale per cui insomma mi scuso sin d'ora vedrete che Pardo è così simpatico non mi conto di essere tra noi però diciamo nel suo messaggio dice delle cose interessanti che mi andava di ciao ragazzi, sono a Pierluigi Pardo avrei voluto essere lì con voi oggi ma qui era sempre serato in programma tutti i giorni quindi riunioni, provo e tutto il resto volevo dirvi però che insomma sono sono comunque che Pardo è stata forse l'esperienza più bella della mia vita è stata una cosa fantastica i migliori mesi della i migliori perdona mi hanno aspettato e non si vedeva ciao ragazzi, sono Pierluigi Pardo avrei voluto essere lì con voi oggi ma qui era sempre serato in programma tutti i giorni quindi riunioni, provo e tutto il resto volevo dirvi però che insomma sono sono con voi perché l'album è stata forse l'esperienza più bella della mia vita è stata una cosa fantastica i migliori mesi della nostra vita per me è stato assolutamente così dieci mesi vissuti alla University of Greenwich a Londra tra il 95 e il 96 sono stati mesi fantastici nei quali mi sono divertito tantissimo nei quali ho fatto gli esami mi ricordo la corsa dopo il primo semestre per andare a trovare i pretesti per le notizie se ci sono riuscito è stato tra l'altro anche clamorosamente utile per la mia vita perché lì ho conosciuto una persona dell'allora delle più che cercava telecronisti e dal laboratorio dell'università di Greenwich ho inciso la telecronaca che ho spedito e mi hanno preso le pienze alla mia camera quindi mi ha portato anche un certo culo se devo essere molto onesto ma poi soprattutto credo che essere erasmo significa essere aperti nei confronti dell'Europa avere un sentimento nei confronti di curiosità più che altro perché poi alla fine la questione è sempre la stessa di fronte a questo tipo di mondo complicato è stato globalizzato essere curiosi oppure avere paura e io nonostante tutto continuo ad essere curioso felice e mi sento europeo europeo, italiano, romano di villada, di piazza Issa, di corso di estel italiano ma anche molto europeo ed è un sentimento che penso che abbia in tanti vi saluto, vi abbraccio so che c'è gente meravigliosa lì oggi e so che l'Erasmus è veramente una cosa che a me personalmente a cambio della vita consiglierei ai figli se mai mi produrrò cose che magari fanno anche baci ragazzi, dai dai vabbè lui insomma è carino e quindi ecco ma vi dicevo lo volevo condividere con voi soprattutto perché soprattutto perché oddio siamo ripartiti da zero non va bene soprattutto perché mette in evidenza dei punti importanti non ultimo eccoci qua non ultimo quello appunto delle ricadute occupazionali insomma vi ha raccontato come un po' anche no per caso l'esperienza di mobilità Erasmus ha poi dato il via lo ha agevolato in quello che è stato il suo percorso professionale la sua carriera professionale ebbene insomma sono gli stessi dati comunitari gli studi di impatto della commissione europea scusate se uso sempre questo termine comunitario comunque a dirci che al 51% primi in Europa al 51% degli studenti italiani che vanno all'estero insomma in mobilità internazionale per traineeship viene offerto un contratto di lavoro formale quindi insomma questo chiaramente come dire anche a sottolineare evidentemente la solidità ancora della nostra formazione accademica ma appunto anche per dirci che Erasmus consente tante cose sicuramente di arrucchire il proprio curriculum consente di confrontarsi con altre realtà accademiche di migliorare o di acquisire competenze linguistiche di acquisire quelle tanto care al mercato del lavoro competenze trasversali che qui sono in inglese ma insomma facilmente intellegibili self confidence tolleranza problem solving curiosità capacità decisionale team building quindi accrescere opportunità di occupazione sviluppare lo spirito di imprenditorialità la cittadinanza europea sinora richiamata e sicuramente di creare un networking insomma tanto sociale quanto professionale ma sicuramente internazionale questo solo un suggerimento perché so che ci sono dei professori insomma in aula se volete l'Erasmus Student Network è un'associazione riconosciuta dalla Commissione Europea presente in Italia in 54 Atenei quindi con una presenza insomma abbastanza capillare su tutto il territorio italiano loro vengono nelle vostre scuole per così fare sessioni informative agli studenti dell'ultimo anno di liceo quarte e quinte liceo Askerasmus è invece un progetto sempre da loro promosso che insomma consente mette in contatto matcha diciamo via Skype studenti tornati da una mobilità internazionale facciamo conto a Stoccolma con studenti che invece devono andare a Stoccolma e quindi chiaramente poi riescono a scambiarsi informazioni non banali su come si svolgerà la vita in quella città questo insomma venendo ai 30 anni solo per dire che le iniziative nazionali sono state tantissime un impatto mediatico molto forte tanti vostri colleghi studenti universitari di tutte le facoltà che sono intervenite in numero importantissimo di trasmissioni radiofoniche televisive insomma siamo riusciti a creare una eco davvero importante qui ricapitolata in questo slide in alcuni insomma momenti i nostri social anche sono pieni di followers beh insomma devo chiudere perché mi dicono che devo chiudere ma insomma l'unica cosa che volevo dire ecco l'ultimissima per chiudere perché tra l'altro si è parlato anche di musica e questa insomma è una delle tante brillanti iniziative avute l'orchestra Erasmus che è composta da studenti Erasmus di conservatori italiani che come vi dicevo partecipano altrettanto al programma è un'orchestra che ha avuto un successo davvero internazionale tanto internazionale che in questo in basso a sinistra eravamo la settimana scorsa a Strasburgo dove siamo stati ospitati appunto dall'università di Strasburgo voluti dall'agenzia nazionale francese perché insomma l'iniziativa è piaciuta tanto e quindi la musica le note Erasmus arrivano un po' ovunque io vi ringrazio parlando della Commissione Europea ecco l'ultimissimissima cosa è dicevamo di come si rinnova la forma di comunicazione anche della Commissione nei confronti insomma dei cittadini c'è un'app che potete scaricare sin d'ora dove trovate tantissime informazioni sul programma e quindi a riprova di quanto diceva il dottor Santaniello insomma è più che vero grazie buon Erasmus a tutti grazie ad Alessia Ricci suppongo che su Erasmus ci potrebbero essere domande però lascerei le domande alla fine perché siamo un pochino stretti con i tempi e passerei la parola a Roberto Volpe ricercatore al servizio di prevenzione e protezione del CNR però non vedo non c'è eccolo beh tanto benvenuti essendo come CNR non lo posso permettere grazie dell'invito a questa interessante giornata anche se la salute in Europa è un po' la cenerentola la cenerentola se se avete visto il ma però qui non riesco a fare forse da qui perché qui non lo vedo qui non c'è l'Europa la cenerentola la cenerentola è un po' la cenerentola non so se avete visto il documento che vi è stato dato i 12 punti per l'Europa la parola salute non c'è ma non c'è perché l'Europa dà i stati membri quindi a noi il ministero della salute la 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 possibilità di coordinare le attività della della salute quindi si occupa soltanto di piccole cose si possono essere per esempio leggi sui farmaci di coordinare leggi sui farmaci ma avete visto per esempio il discorso della vaccinazione la vaccinazione è un problema nostro italiano che non è italiano e rumeno che noi non possiamo risolvere demandando in Europa l'Europa ha delle comunque delle strategie per quanto riguarda il per quanto riguarda la salute strategie che riguardano soprattutto la prevenzione ma ma sì forse come vedete riguardano spesso in questa diapositiva ripeto la parola invecchiamento perché uno dei problemi dell'Europa è quello che stiamo andando verso una società che per fortuna è anziana l'anziana il problema è coniugare gli anni ma coniugarli con una buona salute e vediamo come stiamo in Europa come vedete considerando al di sotto dei 65 anni perché al di sopra dei 65 anni l'età è di per sé già un fattore di rischio cambiano le cose al di sopra dei 75 anni la malattia cardiovascolare diventa femminile perché diventa femminile perché gli uomini muoiono prima quindi chiaramente a 80 anni 85 anni un decesso viene considerato un collasso un infarto e quindi viene catalogato come malattia cardiovascolare però andiamo a vedere al di sotto dei 65 anni come vedete un 20% dei maschi muore per infarto per ictus 22% di tumori le donne come vedete un po' meno per quanto riguarda il cardiovascolare ma un po' di più un po' troppo di più per quanto riguarda i tumori e c'è stato una riduzione delle malattie pari quindi dell'infarto dell'ictus in Europa negli ultimi decenni come vedete però l'Italia non è che partiva bene però non è che ha fatto tanto non è migliorata guardate come si è ridotta la differenza tra noi per esempio la Gran Bretagna oppure la Germania sia per gli uomini ma anche per le donne e questo perché perché in effetti siamo uno di due paesi che mangiamo tanto mangiamo troppo mangiamo bene però mangiamo troppo come calorie non a caso non a caso siamo tre paesi che hanno valori di colesterolo più alto in Europa e guardate Ferenza c'è stato in dieci anni adesso il 34% degli uomini e il 37% delle donne è per colesterolo stiamo parlando di ipercosemia grave non al di sopra dei 200mg ma al di sopra dei 240 e guardate la differenza con dieci anni fa 21-25% e l'attività fisica beh l'attività fisica anche qui siamo un po' pigri cioè siamo tra quei popoli che ci muoviamo di meno e per il fumo per il fumo altri hanno fatto passi avanti noi sì dopo la legge Sirchia c'è stato una buona riduzione però come vedete ancora siamo tra quei paesi sia per quanto riguarda i maschi sia per quanto riguarda le donne che ancora sono tra quelli che fumano di più ma il problema è il fatto che ci siano diversi ragazzi in sala guardate i ragazzi italiani sia maschi ma anche le femmine siamo tra quelli che fumano di più in Europa se dopo ci aggiungiamo che siamo quelli che si muovono di meno di meno a livello di attività fisica agonistica ebbene è chiaro che alimentandosi male poco siamo tra quelli che presentano come ragazzi non come adulti perché adulti lo vedremo un po' avanti gli italiani si comportano bene se non molto bene però invece i ragazzi italiani non proprio così quindi c'è questo rischio come suggeriva Clinton accompagnato la prefazione di un libro di un suo amico che diceva attenzione attenzione perché magari arriveremo che le future generazioni vivranno i figli vivranno meno dei propri genitori cosa che è successo ma è successo nel tempo di guerra quando andavano a morire sul fronte o in guerra i ragazzi i militari che erano giovani rispetto anche se dopo ci sono morte anche per i bombardamenti civili via dicendo però però è successo soltanto nel tempo di guerra invece c'è questo rischio c'è il rischio anche della insostenibilità economica perché malattie cardiovascolari come anche i tumori chiaramente sono malattie che hanno fatto allo Stato alla società e quindi tutti dobbiamo fare qualcosa e non è così difficile perché al di là dell'età come vedete i principali fattori di rischio cardiovascolare possono essere modificati e quelli sottolineati in verde sottolineati possono essere modificati con un semplice cambiamento del stile di vita ma la stessa cosa per quanto riguarda i tumori pensate i due terzi dei tumori possono essere prevenuti con un buon stile di vita vedete l'importanza dell'alimentazione scorretta dell'obesità del fumo o dell'inattività fisica e guardate le linee guida sono linee guida di 2500 anni fa Ippocrate che è considerato il padre della medicina aveva già individuato qual'erano le la strategia giusta cioè mangiare in maniera corretta muoversi chiaramente non c'era il fumo perché sappiamo che fu importato dopo la scoperta delle Americhe avrebbe portato anche di fumo chiaramente però perché la dieta mediterranea prolunga la vita non lo dicevano lo dice il British Medical Journal quindi i britannici ci riconoscono questo non sempre però ci riconoscono questo privilegio e guardate che basta perdere 10 kg del proprio peso in un soggetto obeso 10 kg 10% diciamo quindi non non passare da 100 a 70 kg ma passare a 90 kg guardate che il beneficio possiamo possiamo ottenere in termini di prevenzione del diabete della mortalità per tutte le cause di tumori è importante smettere di fumare a qualsiasi età meglio se all'età vostra all'età di giovani perché guadagniamo ancora di più ma anche a 50 anni anche a 70 anni è sempre utile smettere di fumare purtroppo il fumatore sappiamo vive 7 anni di meno rispetto al non fumatore però come vedete i benefici ma i benefici anche dal trattamento le statine per esempio sono farmaci noti per ridurre il colesterolo quindi prevenire l'infarto l'ictus ma guardate possono prevenire la mortalità totale perché hanno un'azione anche antinfiammatoria quindi trattiamo questi questi ma purtroppo che succede invece ma questo per il colesterolo ma vale lo stesso per la pressione arteriosa vale lo stesso per il diabete come vedete se andiamo a vedere quanti soggetti sono adeguatamente trattati cioè raggiungono l'obiettivo terapeutico per minore di 200 mg del colesterolo si è migliorato in 10 anni ma ancora basso è un 24% per gli uomini e 17% per le donne qui c'è una differenza di genere differenza di genere che anche nel trattamento cioè è inconcepibile come ancora adesso le donne vengano trattate meno dal punto di vista del cardiovascolare per la prevenzione nonostante documenti come il nostro da SIPREC delle HN ma c'è ancora la sindrome di Yentl quel bel film interpretato da Barbara Streisand in cui lei per studiare da una scuola ebraica si doveva travestire da maschio quindi le donne in certi casi nel caso della cardiologia hanno questo rischio cioè di essere preso meno sul serio e non a caso la società europea di cardiologia ce l'ha ricordato attenzione trattate le donne come se fossero uomini per aggiungere una buona prevenzione però uomini donne ma la cosa interessante siete voi sono i ragazzi ce lo ricordava Aristotele che siete l'avevano ricordato anche i professori che mi hanno preceduto il discorso dell'importanza dei giovani alla Ricci del Rasmus di investire nei giovani perché è fondamentale e come vedete una famosa dichiarazione della commissione europea quella sulla dichiarazione di San Valentino perché era del 14 febbraio del 2000 dice appunto che noi dobbiamo impegnarci affinché i nostri ragazzi non abbiano un impatto nittus prima dei 65 anni come CNR facciamo diverse cose da questo punto di vista con i ragazzi e lo facciamo sempre come alleanza con il servizio prevenzione il disba che si occupa di bio alimentare e quindi gli agronomi dell'isba l'ufficio stampa facciamo tutta una serie di programmi perché le alleanze sono fondamentali che sono fondamentali anche a livello europeo l'European Arter Network è un fada tramite con la commissione europea per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare abbiamo come vedete diverse alleanze alleanze anche in Italia il ministero della salute recentemente ha lanciato questa alleanza delle società che si occupano di prevenzione cardioceremonica e che sia importante questo perché fare politici illuminati è fondamentale in Italia ce l'ha dimostrata la legge circa noi ci siamo tanto impegnati a livello di fumo di messaggi per il pubblico per il fumo e tutto ma è stata la legislazione che è stata interessante perché il divieto di fumare in luoghi pubblici ha un po' ridotto è chiaro c'è ancora da lavorare però è importante la legislazione come vedete è un po' a rilento l'unione europea da questo punto di vista però nel 93 per la prima volta cominciò a parlare di salute e dopo come vedete nel 94 la parola cardiovascolare nel 2004 il promuovere una salute per quanto riguarda il cuore e un'azione nel 2007 quindi ci sono voluti un po' di anni però c'è c'è questa questa disponibilità e anche grazie a un gruppo di parlamentari un po' ristretto ma vedete intorno al 5-6% che soltanto due italiani che fanno parte di un gruppo il gruppo del cuore per intenderci squadre transnazionali come il per esempio Real Madrid a più fan club del nostro gruppo del cuore a Bruxelles però è importante anche perché queste persone portano il verbo della prevenzione a livello della commissione europea e un esempio personale come rappresentante dell'associazione europea della SIPREC della società italiana prevenzione cardiovascolare siamo in contatto con l'allora commissario Borg mi ha risposto ci ha risposto preoccupandosi del problema che avrebbero sarebbero intervenuti sul discorso del semacoro che hanno fatto i britannici i britannici appunto hanno detto che hanno che i prodotti grassi l'olio extravergine oliva è 100% grasso essendo grasso bene doveva essere bandito doveva essere dato come come rosso quindi non poteva essere venduto non è così perché non è non è questione di quantità ma di qualità ebbene dopo due mesi da questa risposta c'è stata l'infrazione nei confronti dei britannici ma guardate anche l'importanza delle interazioni con politici bene siamo partiti nel 2003 con i documenti dell'EHN nel 2011 l'editettatura è uscita fuori quindi per cercare di proteggere non sempre come vedete ci sono ancora dei punti su cui si potrebbe lavorare ma la cosa importante è anche regolamentare la pubblicità pubblicità a cui siete esposti siete voi esposti anche tramite il telefonino pubblicità non sempre corretta un esempio di pubblicità non corretta il regalino dei vari fast food quando eravate più piccoli quella pubblicità non corretta o anche il discorso a livello televisivo che vengono propagandati prodotti che sono ricchi in grassi ricchi in sale ricchi in zuccheri proprio nelle fasce orarie in cui i ragazzi vedono la televisione un altro esempio gli zuccheri le bibide con gli zuccheri sappiamo quanto sia pericoloso bere queste bevande perché una lattina delle note bevande 130 calorie vuol dire 30 minuti di cammino per smaltire una lattina perché ci sono tre bustine e mezzo di zuccheri ebbene però che cosa succede ci sono delle lobby trasversali a livello europeo che bloccano queste nostre azioni ma anche in Italia se voi pensate che tassare di 3 centesimi non è passata nel 2012 perché c'è il rischio della perdita di lavoro e via dicendo c'è la necessità di rispettare la libertà personale c'è un trattato del trattato europeo l'articolo 26 dice della liberazione dei prodotti l'abbiamo visto questo l'abbiamo chi ha visto ieri la partita ebbene su 22 giocatori in campo uno solo italiano e giocava dall'altra parte nel Celsi non è vero sono entrati tutti e tre gli italiani sono entrati dopo questo perché la libera circolazione possiamo avere di una squadra di tutti gli europei la legge Bosman per intenderci però a meno che non ci siano le buone ragioni queste sono le buone ragioni quello di andare a proteggere i ragazzi a proteggere le categorie meno avvantaggiate dal punto di vista economico vi dicevo dell'obesità guardate la differenza l'Italia sta bene come a tutti ma guardate tra laureati e invece soggetti che hanno studiato il meno come sia importante proteggere quindi le categorie svantaggiate e gli altri l'hanno fatto la Danimarca ha bandito gli acidi grassi trans quelli parzialmente etrogenati che troverete nelle vostre merendine la ha fatto da parecchio sta lavorando ha tassato le bibite ha cambiato le vending machine nelle scuole ma anche la Gran Bretagna non lo sta facendo ma possiamo fare anche qualcosa anche noi però la legge è parcheggiata perché purtroppo sta finendo la bella legge di questi parlamentari e non è passata è rimasta un po' bloccata anche se si può fare qualcosa si può fare qualcosa noi al genere lo stiamo facendo perché c'è cambiando il modo del bando basta chi vince si deve preoccupare anche di mettere una macchinetta con cibi salutari le ultime due diapositive per dirvi non è un discorso da tutti guardate investire nella vostra salute è importante certo ricordiamoci di Senega se me le inanno talice in salire ogni tanto nel sociale si può chiudere un occhio ma guardate questa cosa interessante per quanto riguarda gemelli monosissimi guardate il patrimonio genetico dopo tre anni e guardate a 50 anni è diverso perché c'entra l'ambiente l'ambiente quindi cercano le nostre scelte che possiamo influenzare nella nostra salute perché come dicevo all'inizio l'obiettivo è quello di avere una buona salute ma raggiungere una giovedad con buoni anni però di qualità della salute e questo si inizia già da ragazzi e si inizia anche con l'aiuto della Commissione Europea per la Salute grazie dell'attenzione e concludiamo con Giulia Amato dirigente dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che presenta un video su 60 progetti per 60 anni un video al quale teniamo particolarmente perché la rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha contribuito e sono tante belle realizzazioni dell'Europa in Italia grazie pochissimi minuti siete stati parissimi diciamo e abbiamo colto la vostra attenzione la vostra motivazione ad ascoltarci e ad ascoltare contenuti salienti del percorso che è quello della Comunità Europea Unione Europea solo alcuni flash riassuntivi abbiamo sentito parlare dell'importanza della comunicazione la comunicazione dei contenuti delle attività dei finanziamenti delle realizzazioni poste in essere dalla Comunità Europea dall'Unione Europea importanza del cittadino il cittadino è il centro del flusso di informazioni che riguardano i diversi settori abbiamo avuto qui settori della formazione della salute eccetera quello che voglio presentarvi è un po' un prodotto che abbiamo realizzato insieme con la rappresentanza dell'Unione Europea partendo da un'idea che è nata nella riunione dei comunicatori che si è tenuta a Salerno l'anno scorso abbiamo prodotto quindi un che è questo che io vi presento dal punto di vista cartaceo sono 120 pagine per descrivere 60 progetti 60 progetti che hanno rappresentato un po' la sintesi di ciò che è possibile realizzare per migliorare la qualità della vita dei cittadini vi faccio solo alcuni esempi la realizzazione della tramvia di Firenze la metropolitana di Napoli la realizzazione di una università nel quartiere di San Giovanni a Tettuno a Napoli la realizzazione di allestimenti per il museo archeologico di Reggio Calabria il finanziamento di progetti di formazione a distanza per gli studenti come voi la casa la realizzazione di un museo Motor Valley in regione nella regione dell'Emilia Romagna i corsi di formazione cinematografica come vedete abbiamo un ventaglio di settori un ventaglio di potenzialità io vi presento insieme alla dottoressa De Stefanis questo prodotto che troverete anche sul sito dell'agenzia sul sito della rappresentanza abbiamo solo tre minuti di video sono immagini parlanti hanno avuto già risonanza a livello mediatico nazionale presentata in Europa abbiamo in pianificazione anche una serie di sovralluoghi mirati per enfatizzare per dare lustro all'attività di collaborazione che si è instaurata nel corso di quest'ultimo triennio con le autorità di gestione responsabili della selezione e dell'attuazione di questi interventi quindi grazie a tutti voi e possiamo vedere il video credo grazie a tutti 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 i titoli di chiusura il nostro sito seguite i nostri social e se avete delle domande non esitate a scriverci grazie un attimo di attenzione un attimo di attenzione perché iniziamo questa seconda sessione di questa giornata informativa il cammino dell'Europa dalla comunità all'unione riflessioni ai nuovi scenari di un'intervento e quindi la prima cosa che faccio è la prima cosa che faccio per fare il primo intervento che è un'intervento di maggioramento e il futuro di amico e anche la seconda di un'intervento di un'eropera Quindi sono stato costretto a fare delle scelte di che cosa parlare, volendo comunque fare riferimento, come dice la locandina, della iniziativa al passato, al presente e al futuro. Ma lo faccio in maniera molto didascalica perché i tempi sono quelli che sono, le questioni sono tante. Sul passato, diciamo che dopo il fallimento, storicamente dopo il fallimento della comunità europea di difesa nei primi anni 50 del 900, per lungo tempo il tema della politica estera, della politica di sicurezza, della politica di difesa è rimasto a sé. Per lungo tempo significa 30 anni perché io lo ritrovo, almeno la politica estera e di sicurezza la ritroviamo menzionata nell'atto unico europeo dell'86. Però da questo la vera svolta, questo è il punto, uno dei due punti che prendo in esame per chiarire di cosa sto parlando. La vera svolta sia con il trattato di Maastricht nel 92 perché è lì che abbiamo la istituzionalizzazione della politica estera e di sicurezza comune. La PESC con questo obiettivo abbastanza ambizioso, preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la cooperazione internazionale e al tempo stesso sviluppare e con questo obiettivo è la democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostanzialmente Maastricht dà un senso a questo nuovo slancio del percorso dell'integrazione in seno alla comunità-unione, perché da quel punto incominciamo a parlare di comunità europea-unione europea. Come è noto il trattato di Maastricht, questo è il punto che io metto in evidenza per riflettere sulle cose che mi sono stato affidati, il trattato di Maastricht che a tutti i conti prevedeva questo funzionamento attraverso i pilastri che funzionavano con un sistema istituzionale e procedurale differenziato. Che cosa voglio dire? Il pilastro dell'esco per andare al punto, ma lo stesso riguardare il pilastro di giustizia e affari interni, funzionava secondo il metodo di cooperazione intergovernativo, cioè nel quale erano i governi sostanzialmente attraverso il Consiglio per lo più attraverso determinazioni che non erano vincolanti e che venivano adottate attraverso il consenso tra gli stati membri, quando non la vera e propria unanimità. E questa dimensione di questo pilastro comunitario che riguarda il tema di cui devo trattare era ben diverso dal primo pilastro, il pilastro dei trattati, il pilastro dell'integrazione economica comunitaria, dove si applicava il metodo comunitario. Il metodo comunitario del primo pilastro significa che l'obiettivo non è la cooperazione tra governi, ma è l'integrazione e per lo più questa integrazione viene realizzata al contrario del secondo pilastro attraverso atti vincolanti e che coinvolgono le istituzioni politiche dell'Unione attraverso un processo dialettico di queste istituzioni, vale a dire Commissione, Consiglio e Parlamento. Certo poi con una differenziazione di paesi che sono il frutto dell'evoluzione che queste istituzioni hanno avuto e in particolare il Parlamento europeo, certo anche all'epoca del trattato di Maastricht il Parlamento incominciava a conquistare dei poteri per poter dialogare più o meno paritariamente con le altre istituzioni. La fine degli anni 90 invece costituiscono il punto di riferimento per l'altro aspetto che prendo in considerazione cioè quello che riguarda la politica europea di sicurezza e difesa comune con il trattato di Lisbona l'ultima grande modifica dei trattati comunitari. Prima c'erano state le missioni, ci sono alla fine degli anni 90 le missioni di Petersburg che erano fatte prevalentemente dall'Unione europea occidentale. In realtà il motivo per il quale all'interno dell'Unione si sviluppa anche questa dimensione dovuto alla crisi del Kosovo 1998, la riluttanza della Nato ad intervenire da un lato e dall'altro lato le difficoltà poste da alcuni stati membri insomma fanno maturare, guarda caso, nel Regno Unito l'idea di sviluppare una capacità militare indipendente dell'Unione europea indipendente dalla Nato ovviamente finalizzata a rispondere alle situazioni di urgenza e di emergenza. Sono Francia e il Regno Unito nel vertice di Saint-Méliot a adottare una dichiarazione che dà un impulso in questo senso e questa dichiarazione viene individuata come il punto di origine e il punto di avvio della politica europea di sicurezza e di difesa. in più dico che questa politica, quest'ultima è strettamente legata alla politica estera e di sicurezza e quindi come tale anche questa viaggia su un metodo intergovernativo queste politiche non le fanno completamente le istituzioni dell'Unione le fanno gli stati membri, i governi degli stati membri. Il passato è questo, l'attualità, attualmente la politica estera di sicurezza e di difesa è contenuta in diverse parti dei trattati europei sia nel trattato sull'Unione europea sia in quello sul funzionamento e in diversi atti e dichiarazioni. Non è evidente che io non posso trattare completamente, motivi di tempo mi impediscono di trattare completamente quindi anche qui farò di da scalicamente degli accenni a quelli che dicono le cose più importanti. E in premessa voglio dire che una delle cose più importanti come momento di sviluppo di queste dimensioni politiche mi sembra l'affermazione nel trattato sull'Unione europea del principio di coerenza. L'affermazione del principio di coerenza significa sostanzialmente che i vari settori dell'azione esterna e i vari settori e le altre politiche devono avere dei rapporti tra di loro coerenti. E questo obbligo alle istituzioni dell'Unione, Consiglio, Commissione, assistiti dall'altro rappresentante a cooperare strettamente tra di loro per raggiungere questo fine. Secondo luogo, sempre in premessa, già nel peambolo del trattato sull'Unione europea si dice che gli stati sono decisi ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune che potrebbe condurre a una difesa comune a norma dell'articolo 42 di cui dirò la cosa dopo, rafforzando così l'identità dell'Europa, la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso sia in Europa sia nel mondo. Un degli obiettivi abbastanza importanti legati a questi aspetti politici. La dimensione normativa sta nel titolo quinto del TOE, più o meno gli articoli che vanno da 21 a 46. Qui vado abbastanza velocemente, richiamo nuovamente l'articolo 21 per dire che l'articolo 21 riprende poi, ampliandolo ma di poco, le cose che erano state a suo tempo dette dal trattato di Maastricht, forse in più a democrazia, a diritti umani, Stato di diritto e quant'altro, mette questo riferimento che stava in altra parte del trattato, al rispetto della Carta delle Nazioni Unite che in questo contesto sono molto importanti e soprattutto del diritto internazionale che poi sono coincidenti, Carta delle Nazioni Unite di diritto internazionale in questi aspetti. Anche con il trattato di Lisbona, perché stiamo parlando di questo, viene fuori una centralità delle istituzioni intergovernative che significa segnatamente Consiglio europeo, quindi vertice dei capi di Stato e di Governo e Consiglio, sui quali il trattato opera una divisione di lavoro, Consiglio europeo spetta di orientamenti generali, il Consiglio lavora più specificamente all'elaborazione della pesca e a prendere le decisioni necessarie per la sua attuazione, mentre invece all'altro rappresentante e ai membri, l'altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza aspetta il compito di attuare le politiche sia attraverso i mezzi nazionali, sia attraverso i mezzi dell'Unione. Carattere intergovernativo permane sostanzialmente, perché sono gli organi che rappresentano il governo, Consiglio europeo e il Consiglio, a mettere in essere queste politiche, tra l'altro deliberando per lo più all'unanimità, è esclusa la possibilità di adottare degli atti legislativi, insomma, la dimensione intergovernativa vera e proprio. Vi dicevo, voglio dire qualcosa anche a proposito, nell'attualità, anche a proposito dell'articolo 42, la norma, diciamo così, di maggior rilievo per quanto concerne la politica di sicurezza e di difesa comune. E qui l'articolo dice che l'Unione deve disporre di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari messi a disposizione dai singoli stati membri, ai fini di spiegare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale. C'è un'altra cosa che voglio dire del TUE, perché è un aspetto che fornisce un'indicazione per il futuro. L'articolo asserisce che questa politica debba tendere a una graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, ma solo quando il Consiglio europeo deciderà all'unanimità in tal senso. Una decisione ancora, una decisione unanime dei governi per giungere a una politica di difesa comune, che è il punto, o dovrebbe essere il punto più avanzato. Vi dicevo, ci sono poi delle dichiarazioni e dei protocolli, delle dichiarazioni alla gara del Trattato che evito qui di riprendere per problemi di tempo, ma che danno ulteriormente il senso del carattere intergovernativo. Quindi dalla scarsa partecipazione, dalla scarsa incidenza che hanno per questo tipo di politiche sia il Parlamento europeo, sia la Commissione europea. Vengo al futuro, vedo i tempi e mi rendo conto che devo tagliare qualche cosa che avevo previsto di dire. Allora la dico veramente didascalicamente. Avevo provisto di concentrare l'attenzione su due documenti. Il primo è la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che è stata elaborata dalla Mogherini, Federica Mogherini, l'altro rappresentante dell'Unione nel giugno del 2013. Si tratta di un documento molto importante che dà delle indicazioni importanti perché segue una strategia diversa da quella che segue una filosofia diversa da quelle delle precedenti strategie, in particolare quella del 2003 elaborata nel contesto dell'Unione. Ma al di là della strategia in sé, è importante il piano di attuazione di questa strategia globale che è stato messo in essere e il quale tra priorità, cioè reagire alla crisi e ai conflitti, potenziare le capacità, proteggere l'Unione e i suoi cittadini, segna anche, fa anche delle proposte tra le quali io vorrei menzionare sicuramente la revisione annuale coordinata della spesa per la difesa tra gli Stati, una migliore risposta rapida dell'UE mediante ricorso a gruppi tattici europei, nonché una nuova cooperazione strutturata permanente, questo è il punto sul quale attiverò la vostra attenzione per le mie conclusioni, unica per gli Stati membri che intendono, gli Stati membri che intendono assumere impegni più ambiziosi in materia di sicurezza e di difesa. L'altro libro, scusatemi, l'altro documento invece è il libro sul futuro dell'Europa, presentato quest'anno, la Commissione l'ha presentato quest'anno e questo libro bianco, in realtà io trovo degli elementi che mi permettono più agevolmente poi anche di fare delle conclusioni un po' critiche, perché questo documento presenta cinque scenari possibili. Il primo scenario che si chiama Avanti così, nell'Unione a 27 ci si concentra su un programma di riforme e si approfondiscono così come si sta facendo ora le cose che riguardano Poligresta, la sicurezza e difesa, con l'idea che in questo modo si riesce un pochettino di più a parlare all'unisono e forse si riesce a gestire un pochino meglio le crisi e le frontiere esterne dell'Unione. Secondo scenario invece è solo il mercato unico, il titolo di questo scenario lo dice, quindi ci si concentra di più sulla realizzazione del mercato, la dimensione economica, si agisce sempre di più negli ambiti importanti per il mercato, certo gli altri non è che sono completamente disconosciuti, ma diciamo che sono presi in considerazione soltanto se hanno delle incidenze negative rispetto all'incremento del mercato unico. Terzo scenario, chi vuole di più fa di più, qui l'Unione Europea consente agli Stati membri che lo vogliono fare di fare di più insieme in settori specifici e questa cosa è la istituzionalizzazione dell'Europa a più velocità di cui nel processo di integrazione si discute da sempre fondata sulle cooperazioni rafforzate tra gli Stati membri con l'idea che forse potrebbero emergere delle coalizioni di volenti che approfondiscono le loro collaborazioni nell'ambito della politica estera di sicurezza ma soprattutto di difesa. Il quarto scenario è quello che io capisco meno, fare meno ma in modo più efficiente, uno scenario un po' contraddittorio devo dire la verità per come lo si presenta, detto dall'interno dell'Unione, ma due dei settori sui quali si potrebbe concentrare questa attenzione per dare maggiore efficienza sono proprio quelli della sicurezza e la difesa indicati nel documento. Il quinto scenario è uno scenario invece più da futuro, fare molto di più insieme perché è quello che più somiglia ad un'idea di Europa federale, è quello che mira a fare in modo che l'Unione si integri maggiormente in tutte le aree politiche e sulla scena internazionale significa un'Unione che parla con una voce sola, che agisce come soggetto unico anche sotto il profilo economico e commerciale, che è rappresentata da un seggio unico in tutte le organizzazioni internazionali possibili, mentre invece sotto il profilo della difesa qui c'è sempre il problema di dover considerare questa sorta di complementarità con la Nato e oggettiva, però verrebbe creata una Unione europea della difesa, per non dire poi delle ricadure che ci potrebbero essere sotto diversi altri profili per citare un tema, quello delle migrazioni in questo momento. Brevi considerazioni conclusive, vado a concludere in qualche minuto. Direi che nonostante il processo di integrazione in questi settori di cui vi ho parlato sia andato avanti, perché è innegabile che sia andato avanti, è anche innegabile che è andato avanti tra incertezze e battute di arresto, però io devo dire la verità, sono abbastanza pessimista, perché penso che sia impossibile pensare, anche in tempi medio-lughi, pensare che si possa realmente a divenire a delle politiche comuni in questi ambiti. Sono diversi i segnali che mi inducono a essere poco ottimisti. Faccio un paio di esempi. L'esercito europeo, secondo me, con le condizioni attuali non vedrà mai la luce, in quanto la difesa è personata dagli Stati membri come il pilastro fondante della loro sovranità, un elemento irrinunciabile per perseguire le proprie finalità strategiche e tra queste ci metterei qualcosa di economico che spesso siamo portati a dimenticare, la ricerca tecnologica per le armi. L'alto rappresentante è il Servizio europeo per l'azione esterna, anche se sono molto presenti, lo sono certamente molto di più che nel passato, sulla scena politica internazionale, nelle occasioni che contano risultano costantemente scavalcati da quei governi che hanno assunto, volente o nolente, la guida della diplomazia e della proiezione esterna dell'Unione, in primo luogo la Germania e la Francia. L'Agenzia europea di intelligence stenta a decollare, secondo me è una pietra tombale con la posizione della Germania recentissimo, il dinero della Germania alle proposte di Avramopoulos di creare un servizio unico di questo genere e anche questo è un elemento estremamente importante. In definitiva dotarsi di sicurezza e difesa come significerebbe per l'Unione compiere un significativo passo in direzione di un assetto autenticamente federale. Contro questa prospettiva mi pare ci siano ancora le posizioni di troppi governi poco disposti a comprendere che le sfide alla pace, alla sicurezza, alla stabilità, agli interessi stessi dell'Unione europea sono troppo grandi e complessi e richiedono un'azione autenticamente complessa. Al momento non posso fare altro che registrare l'assenza di volontà politica, di coraggio, di lungimidanza, di slancio europeista che pure retoricamente ogni volta che c'è un'occasione solenne o una ricorrenza vengono sbagliati. Vi ringrazio per l'attenzione. proseguo ora nel mio compito di moderatore della sezione di questa giornata e do la parola al professor Maurizio Franzini, professor ordinario di politica economica qui di fronte all'Università della Sapienza, che ci parla delle politiche ambientali europee tra ambizioni e timidezze. Prego, professor. Grazie. Aspettate che vediamo per il video. Inizio. No, per parte. Mi dà una mano. No, no, è andato. Non ci vogliamo fare. Grazie. Allora, comunque a tutti, confermo che vi devo parlare di politica ambientali. inizio dicendogli perché è importante parlare di politica ambientale, ammesso che non lo sappiate già. Una delle questioni fondamentali che diciamo l'umanità è chiamata a fronteggiare è quella della sostenibilità ambientale, di fronteggiarti enormi come sono quelli del cambiamento climatico di cui i segnali sono già evidenti in moltissimi ambiti. un punto di riferimento per comprendere l'importanza di quello che dico è che secondo le analisi più accreditate da parte degli scienziati che si occupano di queste cose qualora la temperatura media del pianeta dovesse crescere ancora di 2 gradi da qui alla fine del secolo, quindi stiamo parlando di 2100 succederebbero cose catastrofiche che vanno dal scioglimento degli acciai che significherebbe l'innalzamento delle acque, la sparizione di gran parte delle coste e delle isole a rischi di esplosione della pancia degli oceani dove c'è un'enorme quantità di gas che producono questi effetti perché se voi aumentate la pressione rischiate di provocare una catastrofe inenarrabile perché si spingerebbe una quantità enorme di gas serra con effetti assolutamente controllabili quindi si tratta di rischi che proprio bisogna chiamare catastrofici in senso proprio e sapete che molti sostengono, alcuni sostengono che in realtà questi rischi vengono enfatizzati troppo per qualche strano motivo ci sono i negazionisti anche in questo campo, quelli che ne hanno l'esistenza di questo problema e il Presidente degli Stati Uniti attuali fa parte di questa categoria con conseguenze che si manifestano subito, si vedono già in atti politici significativi tra cui quello del ritiro degli Stati Uniti dagli accordi che erano stati raggiunti alla fine del 2015 a Parigi tutti i paesi più industrializzati, non soltanto loro per cercare di evitare di raggiungere questo limite dei due gradi in più entro la fine del secolo, oltre a varie altre cose e allora l'Europa che ruolo ha in questo, che ruolo ha storicamente avuto rispetto alle politiche ambientali che ruolo svolge, che ruolo potrebbe svolgere perché io parlo di ambizione e timidezza perché anche, venendo fuori un po' dalla relazione del professor Gargiulo prima l'Europa è una combinazione di ambizione e di timidezza nel senso che fissa obiettivi ambiziosi e largamente condivisibili e poi quando si tratta di realizzarli mostra qualche incertezza che possiamo chiamare timidezza allora io vi dirò brevemente da dove nasce la politica ambientale dell'Europa che rapporto ha con le politiche ambientali nazionali che risultati più o meno ha raggiunto e che cosa impedisce alle ambizioni di essere realizzate con un po' meno di timidezza di quella che registriamo attualmente vediamo se c'è quel tasso allora le origine politiche ambientali europee come molte altre cose ci sono gli accordi degli anni 50 che riguardavano l'energia l'ambiente, non l'ho detto, lo dico adesso è naturalmente un campo molto ampio che comprende tutto quello che riguarda fattori da cui la vita umana in qualche modo dipende dall'acqua all'aria al suolo eccetera eccetera ai rifiuti naturalmente è un problema grosso e l'energia fa parte di questo insieme quindi gli accordi sull'energia degli anni 50 hanno precorso in qualche modo lo sviluppo di una politica europea su tematiche connessi all'ambiente però il primo passo importante è stato fatto nel 1973 quando fu formulato il primo programma di azione ambientale che conteneva anche dei elementi notevoli di novità ma lo slancio verso una politica ambientale europea più ambiziosa lo diede come in molti altri anni di Jacques Delors il famoso presidente della Commissione 80 il quale tra l'altro disse una cosa che ci dà un quadro abbastanza preciso di quale fosse la situazione parlando con Carlo Ripa di Meana che fu il commissario dell'ambiente italiano di quegli anni gli disse fino adesso abbiamo avuto una lista di direttive in campo ambientale abbiamo bisogno di una politica coordinata cioè abbiamo bisogno di una visione dalla quale discendano una serie di interventi delle quali per l'ambiente e Delors ci fa anche capire in qualche modo da dove nasce l'ambiezione e la timidezza dell'Europa questa frase di Delors sulla timidezza è la prima delle due che va a parlare lì dice stiamo andando troppo piano eppure noi che siamo i difensori del mercato unico quindi difendiamo l'economia dovremmo riconoscere che non c'è nessun conflitto tra l'economia e l'ambiente questo è un punto su cui ritornerò perché è cruciale per capire la timidezza la timidezza dell'Europa e poi però appunto tira fuori l'ambizione tira fuori anche un po' di orgoglio dicendo l'Europa è sempre stato il continente che ha maggiormente difeso l'ambiente l'equilibrio tra la società e la natura e di questo noi ci dobbiamo fare in qualche modo portatori per rinnovare a livello mondiale questo tipo di capacità da quel momento sono i nostri aumentate le competenze dell'Unione Europea in campo ambientale e tutto questo si trova riflesso anche nelle percezioni dei cittadini europei secondo questa indagine che viene fatta con un campione significativo e consistente dei cittadini europei l'Eurobarometro dell'Unione 2014 qualche anno fa il 77% dei cittadini contiene che l'Europa è necessaria per l'ambiente quindi superando un po' la dimensione nazionale questo è un dato che naturalmente ha risultati diversi tra i vari paesi però nella media si tratta di un valore che dimostra la consapevolezza che l'Europa è in qualche modo indispensabile per le politiche europee mi piace notare che gli anni della crisi economica 2011-2014 ci sono anni in cui questa certezza sia un po' indebolita poi dovremmo eventualmente valutare le ragioni di questo piccolo repramento ora al di là di quello che pensano i cittadini europei il fatto di avere una politica coordinata europea in campo ambientale ha dei vantaggi enormi i vantaggi della centralizzazione del coordinamento in questo ambito sono notevolissimi pensate solo al fatto che le emissioni di CO2 le emissioni inquinanti che provocano se ne fanno i belgi danneggiano anche gli italiani e se ne fanno i finlandesi danneggiano Malta quindi c'è un notevole incentivo a ragionare in maniera coordinata su queste cose e a usare strumenti di intervento omogenei e l'Europa ha sviluppato un approccio a questi problemi ambientali in maniera coordinata basandosi su due principi che io considero assolutamente azzeccati assolutamente giusti che sono il principio del pollute space cioè vuole dire chi inquina paga e poi capiamo le implicazioni di questa cosa è il principio di precauzione il quale sostanzialmente dice che di fronte all'incertezza sulle conseguenze di alcuni atti quindi di fronte all'impossibilità di sapere per certo quali saranno i danni e i svantaggi di alcune azioni bisogna assumere la linea maggiormente conservatrice maggiormente precauzionale e quindi l'incertezza va risolta con un atteggiamento che sia che non sappiamo che combinano gli OGM tanto per dire una cosa non si fa ricerca su OGM finché non si dimostra che è un'attesa perché non si dimostra che non ci sono sicuramente dei danni invece di dimostrare che forse ci sono probabilmente dei vantaggi capire la differenza quindi quando c'è questo elemento quindi è un principio di precauzione è un modo per affrontare le incertezze collegate il pollute space è un principio molto importante che dice appunto chi inquina paga questo ha un'influenza di strumenti che dovrebbero essere usati per fronteggiare il rischio per esempio di emissioni inquinanti se io dico pollute space dico che l'impresa che inquina paga paga una tassa se poi andiamo a guardare le politiche europee come sono state fatte le tasse non ci sono le tasse ambientali di fatto non ci sono a livello europeo alcuni paesi le hanno ma sono minoritarie sono stati usati altri sistemi che indeboliscono enormemente il principio del pollute space quello esattamente opposto qual è? è quello del sussidio è quello che dice cara impresa tu sei libera di inquinare ma io ti sussidio se non inquini capite che è l'opposto del pollute space è ti pago se non inquini invece di paghi tu se inquini e allo stesso modo non è certamente coerente con il pollute space il principio per il quale se vuoi ridurre le emissioni puoi farlo se non no accordi volontari che è un altro strumento che è stato ampiamente utilizzato a livello europeo non rientrano in questa categoria neanche gli strumenti che invece hanno avuto un enorme sviluppo a livello europeo e mondiale che sono stati confermati dagli accordi di Parigi cioè quelli che si chiamano permessi negoziabili permesso negoziabile vuole dire più o meno che un'impresa che vuole inquinare può comprare l'impresa di inquinare in un apposito mercato come si compra una qualsiasi altra cosa quindi c'è il diritto però qual è la cosa rilevante è che alle imprese vengono date inizialmente un sacco di questi permessi gratis quindi loro pagano soltanto per l'eccesso rispetto a un quantum che viene con c'è e quindi è chiaro che stiamo violando il principio del Pognute Space stiamo anche creando una situazione di potenziale enorme influenza delle lobbies delle imprese che vanno dai governi e gli dicono ma dimettine un po' di più di quelli gratis e dannoli a me e questo è successo quindi avete una quantità enorme di negoziabili che consentono alle imprese di inquinare senza pagare e il prezzo lesivo cioè quanto si deve pagare se vuoi fare un po' di più è un prezzo bassissimo un prezzo diciamo così che non funge da scoraggiamento come dovrebbe essere quindi ecco un esempio di ambizione e timidezza la timidezza sta nel fatto di avere poi paura di usare un sistema come Pognute Space che peraltro gli economisti in generale considerano il migliore per una serie di ragioni tra cui ve ne dico una tra breve e di ricorrere a un sistema più amichevole diciamo così nei confronti degli inquinatori di dirgli ma per cortesia non lo fare ma se lo fai ti pago io eccetera è un sistema veramente libero quali sono i vantaggi anche delle tasse ambientali che venissero messe è un vantaggio di Carlo Liba di Meana quando faceva il commissario un'opera queste cose le disse con molta forza un secondo vantaggio è un secondo vantaggio il primo è naturalmente che se tu devi pagare la tassa prima di pagare la tassa ci pensi bene inquini di meno e quindi in termini ambientali il secondo beneficio è che se tu inquini fai entrare soldi nelle casse dello Stato i quali soldi possono essere usati per rinforzare i risultati ambientali facendo per esempio degli interventi di tipo strutturale o di altro genere che comunque migliorano quindi c'è quello che si chiama il doppio dividendo il doppio vantaggio di un momento di questo tipo capite bene che se fate i sussidi il doppio dividendo non ce l'avete ce l'avete mai un secondo danno che è quello di trovare i soldi da dare a coloro che devono ridurre le loro emissioni inquinanti ok? quindi questo è un classico esempio di ottime idee quindi buone ambizioni e di cattivi risultati questo cattivo risultato da che cosa è dovuto? è dovuto in buona parte al fatto che si affermano delle idee abbastanza singolari e non confermate dai fatti circa il rapporto tra l'intervento sull'ambiente e quello che succede all'economia la tesi di fondo è che se tu fai un intervento per l'ambiente che costi in qualche modo le imprese paghi pegno cade l'occupazione la crescita economica ne risente eccetera eccetera è vero o falso? allora quello che noi abbiamo dalle indagini che si sono fatte su questo risulta che è falso cioè non è vero perché quando tu usi o i paesi che usano politiche più severe poi hanno da pagare questo pegno sotto forma sotto forma di riduzione dell'occupazione si riconverte l'occupazione le occupazioni verdi cioè quelle che vengono generate quando fate politiche ambientali di protezione tendono a moltiplicarsi abbastanza facilmente dipende anche dalle altre politiche che è usata però l'idea che se tu proteggi l'ambiente fai un danno all'economia è un'idea molto forte e molto infusa adesso qui vi porto questa frase per esempio all'inizio della recessione l'allora primo ministro italiano disse abbastanza chiaramente che le imprese avrebbero subito dei danni terribili se si fossero attuate le politiche si avrebbero in mente di attuare oppure nello stesso periodo a un summit dell'Unione Europea moltissimi sostendono che bisognava rivedere tutti gli obiettivi che quando le cose in economia vanno male non si può permettere il lusso di intervenire a difesa dell'ambiente quindi tutte queste cose provocano tra l'altro dei danni che possono protrarsi molto a lungo perché danno come dire rinforzano l'idea che l'ambiente è il nemico dell'economia e che quindi se vuoi proteggere l'economia l'idea è in qualche modo disinteressare l'ambiente è più o meno quello che dice Trump insomma l'idea di Trump di fondo è questa partiamo da lì partiamo da questa quindi il carbone va bene perché se noi cominciamo a togliere il carbone quindi la capacità di modificare le caratteristiche dell'economia non conta ma neanche si ha fiducia e questo è singolare per l'Unione Europea che è nata con la fiducia del mercato non si ha fiducia nel mercato e nella sua capacità di adattarsi da solo a questi nuovi stimoli a questi nuovi incentivi che vengono dati attraverso le politiche ambientali e quindi dobbiamo chiederci perché accade tutto questo e lo farò negli ultimi tre minuti adesso quello che volevo dirvi comunque è che tra le ambizioni c'è il fatto che l'Europa è percepita a livello mondiale come un leader le cose di Delors hanno avuto un seguito della percezione dello stato dell'ambiente dei vari paesi i paesi europei soprattutto i nord europei occupano quasi sempre i primissimi posti cioè nella percezione mondiale di come sta l'ambiente la Norvegia la Finlandia la Germania la Germania sono tutte ai primi posti se puoi andare a fare un esercizio come ho fatto rapidamente qui ma insomma non so se c'è tempo se andrò a fare un esercizio di questa percezione corrisponde a indicatori che abbiamo dello stato dell'ambiente e trovate che c'è una grande varietà di risultati la prima colonna è la posizione in classifica mondiale dei vari paesi europei la seconda colonna è non quello che viene percepito ma la performance secondo indicatori più oggettivi e vedete che vi posso dire che la Germania è percepita come il primo paese numero uno però si trova al quinto posto quando vai a guardare le performance effettive quindi l'ultima colonna vi dà differenze di posizione nel caso della Polonia è clamoroso ha 14 posizioni di differenza e così la Gran Bretagna quindi le percezioni non sono un indicatore assolutamente affidabile per quello che riguarda l'Italia siamo considerati peggio di come siamo nel senso che la percezione che riguarda la situazione dell'ambiente in Italia lo vedete qui in rosso ci colloca al 29esimo posto mentre invece stiamo al 15 a 15esimo con gli indicatori con gli indicatori effettivi ma tutto questo mi serve per dire prima di passare alla parte finale per dire che la percezione che hanno i cittadini europei di quello che si potrebbe fare in campo ambientale è molto più avanzata di quello che si fa realmente che cosa voglio dire che una grande percentuale di cittadini europei 56% li tiene che l'Unione Europea non sia facendo l'ambiente e i governi nazionali ancora peggio il 70% li tiene che non stiano facendo abbastanza questi stessi cittadini poi dicono che sono convinti che proteggere l'ambiente aiuta l'economia il 74% di protezione dell'ambiente può aiutare la crescita economica e la gran parte di loro dichiara che sarebbe disposto addirittura a pagare di più prodotti che fossero il risultato di una produzione ottenuta con una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente cioè sono disposti a sopportare dei costi per tutelare l'ambiente quindi come se voi come consumatori andare al supermercato vedete questo prodotto è stato ottenuto magari vi dicono con quanti emissioni inquinanti e un altro con più emissioni inquinanti uno con meno quello che ne ha meno costa di più e poi comprate quello cioè siete disposti a pagare di più per avere un ambiente più inquinito questo ragionamento sull'Europa e i singoli paesi ha un pandan che mi pare interessante e cioè un pandan che riguarda il conflitto anche che c'è tra l'Europa e i singoli paesi riguardo alle applicazioni delle normative in campo ambientale un modo per misurarlo è quello di guardare le infrazioni delle direttive europee queste infrazioni in larghissima da parte dei governi nazionali in larghissima misura sono concentrate in campo ambientale cioè i paesi non rispondono gli ambientali su una scala abbastanza ampia che cosa vuole dire questo che l'Europa potrebbe dire giustamente l'ho detto noi le direttive le facciamo poi sono i paesi che non le applicano e quindi le conseguenze sul stato dell'ambiente è il frutto non tanto della nostra incapacità di fissare delle regole quanto quella di stati nazionali e di farle rispettare un altro fenomeno in questo ambito che mi pare significativo è quello dello smantellamento delle direttive cioè questo fenomeno è tornare indietro sulle decisioni prese ok c'è uno studio recente che l'ho potuto approfondire ma mi sembra interessante che sostiene l'auto ambientale l'Europa ha fatto maccia indietro su molte cose cioè come se l'ambizione iniziale sia stata poi frenata da un ritorno che ha portato ad alleviare ad allentare le indicazioni che erano state originariamente fornite quindi questo è un'idea del conflitto di nuovo tra ambizione e timidezza e anche del conflitto che ci può essere tra gli stati nazionali e l'Unione Europea rispetto agli obiettivi da raggiungere gli accordi di Parigi anche lì l'Europa si è mostrata molto ambiziosa l'Europa si è impegnata a ridurre del 40% le sue emissioni di gas serra rispetto al livello del 90% entro il 2040 quindi l'obiettivo ambizioso è disponibile a fare ancora di più se gli Stati Uniti come certo dovessero ritirarsi dall'accordo tenete presente che gli Stati Uniti erano entrati con un obiettivo molto meno ambizioso di questo cioè quello di ridurre del 25-30% rispetto a un livello molto più alto di partenza perché era quello del 2005 e non quello del 1990 quindi siamo di fronte a un'Europa che di nuovo dice io ci sto sono ambizioso ma poi rimane il dubbio che gli strumenti messi in campo per raggiungere questi obiettivi siano riguardi allo scopo in particolare lo strumento è quello di rendere disponibile un sacco di soldi finanza per fare interventi strutturali nell'economia in grado di fare questo e siamo ancora molto lontani dal capire il problema e vengono le conclusioni allora più o meno che cosa possiamo dire possiamo dire che da un lato abbiamo un'Europa dove si fissa gli obiettivi molto alti abbiamo gli statini europei che dicono all'Europa fai di più abbiamo gli stati nazionali che tendono a frenare abbiamo l'idea che l'economia sia in qualche modo danneggiata dall'ambiente questa idea come vi ho detto non trova riscontro in quello che noi sappiamo e conosciamo vediamo che l'Europa diciamo così nega la sua fiducia nel mercato nel momento in cui aderisce l'idea che il mercato non riesce alla giustanza perché capita tutto questo una spiegazione purtroppo non particolarmente ottimista è quella che dice c'è una sorta di influenza degli interessi settoriali degli interessi di chi verrebbe danneggiato dal cambiamento delle politiche che riguardano l'ambiente allora se voi considerate che nell'ambiente gli interessi economici spesso sono molto concentrati cioè si tratta di giganti economici quelli che verrebbero danneggiati al cambiamento delle normative diventa facile immaginare che questa forma di incidenza sugli interessi forti di qualcuno si trasformi in un blocco in una forma di rallentamento dell'iniziativa politica e quindi determini la timidezza di cui vi dicevo in precedenza vi faccio notare una cosa non riferita agli Stati Uniti cioè è accettato che la ESSO dove non fare i nomi pagava fior di milioni a fior di scienziati per sostenere la tessica e il cambiamento climatico di una bufala cioè capite che quando sono in ballo gli interessi di questa portata è facilissimo anche portare dalla propria parte chi dovrebbe svolgere un ruolo di autonomo cultore della scienza per così dire e quindi probabilmente queste attività di lobbying sono molto importanti e quindi è decisivo rafforzare il potere e l'indipendenza politica di questo organismo europeo nei confronti di pressioni fortissime nel caso dell'ambiente sono probabilmente irresistibili in molti casi possiamo quindi concludere con il sospetto ma speriamo sbagliare che diciamo così ci sia una sorta di timore distributivo di timore di sconvolgere gli assetti distributivi che probabilmente è un fattore frenante per moltissime altre politiche europee e non soltanto per quelle dell'ambiente di cui ho parlato perché a me sembra che si è fondamentale per il futuro dell'umanità e quindi l'Europa se deve far chiarire grazie grazie al professor Franzini per la sua efficace relazione passiamo ora invece al professor Umberto Triunzi ordinario di politica economica europea nella facoltà di scienze politiche sempre della sapienza lui ci parla invece di due anni sui quali in realtà la timidezza non c'è stata l'ambizione c'è stata assoluta timidezza mercato e moneta unica però almeno il secondo è uno di quelli che sta dando maggiori preoccupazioni sotto il profilo dello sviluppo dell'anti europeismo prego professore grazie sì bene l'argomento che vorrei affrontare oggi non è un argomento facile perché in genere quando inizio le lezioni all'università e devo parlare ai miei studenti del mercato interno della moneta unica che tutti noi abbiamo in tasca sono necessari solo per entrare a raccontare che cos'è l'unico o la moneta unica sono necessari dalle 6 alle 8 ore certamente non abbiamo il tempo di fare tutto ciò però la domanda che io mi pongo prima di cominciare a discutere ma voi quanto sapete di questo argomento quanto pensate che questo argomento sia utile da sapere e cosa credete che sia necessario oggi per essere un cittadino europeo soprattutto per foglio di vantaggi dell'Europa dall'informazione che stiamo cercando di darvi ho l'impressione che noi siamo sempre un paese in ritardo un ritardo nell'informare un ritardo nel formare un ritardo nell'avvicinarsi a determinate tematiche per cui poi spesso non riusciamo a cogliere i vantaggi di essere europei magari nel profondo del cuore ci sentiamo europeisti convinti ma se dovessimo per ipotesi vi faccio questa domanda ditemi che cos'è il mercato interno dubito che si possa abbossare e possa soddisfacere però questo è il tema e io ci provo a darvi qualche informazione parto con riportarvi qualche dato che ho tratto dall'eurobarometro cioè questa iniziativa della commissione che ogni tot mesi fa un sondaggio presso i cittadini europei per capire la situazione sullo Stato dell'Europa vediamo cosa si dice l'opinione pubblica nell'Unione Europea il primo elemento è questo quali sono le preoccupazioni principali o i temi principali di cui si dovrebbero preoccupare i cittadini europei non mi pare che ci sono di dubbi la gran parte delle risposte sono che i problemi centrali per gli europei sono soprattutto il terrorismo e l'immigrazione in terzo luogo viene la situazione economica ma molto distanziata rispetto ai due temi quindi la preoccupazione principale questo è un sondaggio fatto nel maggio di questo ma recente e ci dice che la sensazione dei cittadini europei è che i problemi principali sono questi due il resto ci sono ma meno avvertiti se passo poi a una scomposizione dei temi a livello dei singoli paesi beh ci accorgiamo che in realtà ci sono differenze tra paese e paese quella era una domanda rivolta a tutti qui una rivolta specifica per paese per paese e in realtà ci accorgiamo che la situazione è molto diversa per molti paesi il problema principale resta quello della disoccupazione per altri la principale resta invece io vedo malissimo qua nel computer non so perché ma è quello dell'immigrazione dunque l'approccio che i singoli paesi hanno nei confronti dei temi proposti da sondaggi europei è molto diverso e c'è anche una forte differenzazione tra i paesi che noi chiamiamo della core europe cioè i paesi centrali che hanno fondato l'Europa e quelli che sono i paesi periferici quindi l'impressione è che a livello nazionale le opinioni dei cittadini possono essere molto divergenti da quelle complessive terza riflessione che cosa pensate dell'Unione Europea ecco questo è un punto di partenza che sembrava interessante in genere come vedete la risposta deve essere c'è fiducia nell'Europa c'è quindi il colore blu non c'è fiducia è il colore arancione oppure non lo so ecco quello che possiamo vedere è che tutto sommato ancora c'è una certa fiducia nell'Unione Europea in molti paesi quelli diciamo segnati dal rosso ovviamente non c'è fiducia ed è una gran parte dell'Europa ma comunque ancora un po' di fiducia c'è anche se realmente si ha l'impressione che vivere in Europa oggi comporti grandissimi problemi per i quali l'Europa non sembra attaccata per dare risposte certe se poi vado a vedere la situazione a livello nazionale quindi faccio la stessa domanda ma a livello nazionale come voi percepite la situazione del vostro paese buona o total blu blu quindi non abbiamo una sensazione che forse quello che stiamo facendo sia sufficiente o sia in grado di farci uscire dalla situazione di crisi è un altro elemento molto molto preoccupante altro elemento e vi teniamo un discorso che volevo questo breve intervento è quali sono come considerate questi sono i temi proposti tra questi temi quali sono quelli che effettivamente condividete maggiormente questo stranamente al primo posto troviamo la realizzazione di un mercato unico cioè il tema del mercato unico l'80% dei cittadini intervistati risponde che tra i temi suggeriti il mercato unico una politica per la difesa e così via digital divide la risoluzione dei problemi del digital divide e il tema del mercato interno europeo quindi un'unica area libera nel cui si muovono i beni servizi capitali è un tema sostanzialmente considerato importante molto importante da gran parte dei cittadini europei ultima slide che riguarda questo parere di un'unica in cui appunto si chiede quale di queste condizioni sono quelle più interessanti per i cittadini europei lo vedete a livello singolo paese ancora una volta il libro movimento dei cittadini e dei beni è il punto più importante quindi c'è da parte di tutti i paesi dell'unione europea e lo vedete perché la collina blu è la più ampia in assoluto rispetto a quella tutti i paesi europei anche quelli che oggi sembrerebbero meno europeisti quindi compresa la stessa terra sembrerebbero orientati a non fare a meno del mercato interno europeo e la stessa impressione si ricava nella slide che riferisce quanto siete sensibili e approvate ovviamente l'unione economica e monetaria secondo termine che dovrebbero affrontare e qui abbiamo naturalmente cinque anzi sei paesi che sono totalmente contrari che sono gli ultimi disegnanti nella slide ma la gran parte si sono favoribili all'unione economica e monetaria ora il problema quindi questo è un breve riassunto se volete di come la popolazione europea e i cittadini europei reagiscono a queste domande che la commissione ha a loro posto e allora vediamo vado avanti sul mercato interno europeo è evidente che l'europeo dovrei raccontarvi come si è arrivati a questa grande soluzione inizialmente l'Europa è nata come un'unione doganale in cui circolavano solo i beni e i servizi poi questa integrazione è cresciuta lato europeo a posto degli obiettivi più abieziosi siamo oggi di fronte ad un mercato che possiamo dire sì come un mercato europeo è un mercato unico in cui ci sono molte leggi e molti regolamenti che prevedono norme comuni per tanti paesi in tantissimi campi e non solo in termini in dimensione economica quindi parlare del mercato interno è veramente complesso perché gli argomenti affrontati dal mercato interno europeo spaziano dalle banche alle assicurazioni ai trasporti all'energia all'ambiente alle norme che riguardano la sicurezza all'innovazione ai servizi per le imprese cioè è veramente la dimensione che oggi ha raggiunto il mercato interno europeo e noi poi di questa grande realtà sappiamo ben poco per i motivi a cui ho accennato all'inizio e sono oggi in forma anche i grandi vantaggi che noi oggi otteniamo nella libertà e nel basso costo dei trasporti non è dovuta a un'intelligente di qualche governo italiano dipende da una liberalizzazione nel cabotaggio cioè nel fatto che tutti possono esercitare un'attività di trasporto di passeggeri in tutta Europa e quindi le grandi compagnie low cost sono entrate in questo mercato e noi tutti viaggiamo spendendo molto meno di quanto costruivano i biglietti aere quando avevano la vostra età questa è una piccolissima cosa ma è molto importante perché ha garantito una crescita della mobilità dei cittadini degli studenti delle imprese notevolissime tutt'ora quali sono i successi dovrei raccontare che sono stati immaturati nel corso almeno a partire da quando noi abbiamo completato questa prima configurazione del mercato europeo interno europeo cioè nel 92 dal 92 in poi ma li riassumo brevemente innanzitutto più mobilità per i cittadini e le imprese e gli studenti non c'è dubbio oggi ha una libertà di muoversi al proprio interno a parte le ultime vicende drammatiche che tutti abbiamo assistito ma sostanzialmente le imprese cittadini si spostano più facilmente il fatto di avere un grande mercato unico composto oggi da ancora per poco da 500 milioni di europei probabilmente di meno come l'intero scira definitivamente abbiamo la capacità di garantire più sicurezza e più concorrenza nella scelta che noi fa giornalmente per acquistare dei beni abbiamo una armonizzazione tecnica è importante abbiamo quindi delle regole che dobbiamo rispettare nel consumo e nella distribuzione dei beni abbiamo la libera prestazione dei servizi cioè ognuno di noi che esercita un'attività può decidere di esercitare questa attività o di costruire o di impiantare una sua attività in un altro paese senza chiedere nessuna autorizzazione basta che abbia l'autorizzazione del proprio paese sembrano poco che fino al 1992 tutto ciò era evitato quindi se io volevo andare a installare le mie attività in una banca voglio costruire un mio ufficio una mia filiale in Francia in un altro paese devo ricorrere a una serie di autorizzazioni che ovviamente il governo francese poteva o non poteva rilasciare non c'è ognuno di noi si può decidere di esercitare la propria attività in un paese dell'Unione Europea senza avere altre autorizzazioni più protezione dei diritti dei consumatori quindi ancora una volta siamo anche all'interno di normative che riguardano la difesa dei consumatori possiamo decidere di vivere in altri Stati membri senza nessun controllo abbiamo diritto alla sanità sembra poco ma in un paese in cui è importante garantita a tutti la sanità noi possiamo avere gli stessi diritti in Italia e in tutti i paesi membri europei minori costi dei servizi finanziari quindi possibilità di attivare operazioni ovviamente il grande mercato ha ridotto anche questi costi tutto ciò che poi è riassunto ovviamente nel fatto che questa enorme libertà che è stata assicurata da tutti i cittadini europei e anche alle imprese ha garantito una crescita del commercio intracomunità crescita di investimenti diretti esteri tutto questo naturalmente se noi guardiamo a quello che accade nel più importante mercato del mondo anche nel più importante integrato mercato mondiale che gli Stati Uniti tuttavia i dati che noi abbiamo sull'integrazione avvenuta all'interno del mercato in realtà ci vede in posizioni molto più ridotte rispetto agli Stati Uniti negli Stati Uniti per esempio il commercio intra all'interno degli Stati federati il 40% in Europa il 20% dovremmo quindi ulteriormente incrementare questa attività ma veramente i successi sono stati importanti e alcune analisi che sono state effettuate per valutare l'impatto del mercato interna europeo io ho riportato ovviamente alcuni autori che si sono occupati di questo argomento in genere indichano gli impatti positivi sul reddito sulla riduzione di tassi di inflazione quindi sostanzialmente seppur non un grande impatto ma un impatto significativo naturalmente in questi ultimi anni la crisi economica ha rallentato la crescita e quindi l'impatto del mercato interno europeo è stato meno avvertito e allora mi sono posto che faccio a voi ma è tutto positivo? no non a caso il titolo scelto per questo mio breve intervento l'intervento era mercato interno mercato europeo due punti ongoing projects cioè sono progetti che devono ancora essere stati che sono in fase di completamento e con un punto interrogativo la risposta è certamente sì c'è molto moltissimo da fare e io qui elenco alcuni dei ritardi maggiori che io intravedo ma neanche gli unici che io intravedo il primo forse più forte ritardo che è un'assurdità consentito di dire una grande giustizia sociale oltre che economica è il fatto che non c'è una politica fiscale comune che significa che significa che se io detengo i miei risparmi in un paese sono meno tassato se io investo in un paese o devo pagare le tasse utili i redditi subiscono livelli di imposizione fiscale diversi ma allora come si fa a immaginare che siamo in un grande mercato unico e però poi lei ha un'incidenza fiscale minore della mia e questa non è concorrenza questa è realtà nel campo fiscale e gli stati come sappiamo mantengono la loro autonomia quindi non si può decidere se non attraverso l'unanimità del consenso di tutti gli stati membri e noi sappiamo che quando ci sono argomenti che richiedono l'unanimità è molto difficile che su questi argomenti verso un'integrazione vera ma questo è l'elemento di maggiore io credo ingiustizia se vogliamo accelerare il mercato comune migliorare il mercato comune dobbiamo rendere il sistema fiscale uguale per tutti quindi non ci deve essere una scelta delle imprese a collocarsi su un mercato con una minore imposizione fiscale questa è totale ingiustizia sociale ed economica diversa l'idea che le imprese si collocano dove ottengono dei migliori servizi questo è uno sforzo che ovviamente gli stati in particolare il nostro deve assicurare ma diverso è dire che c'è una competitività fiscale che non è assolutamente giustificabile moltissimi barriere negli scambi trasfrontalieri noi abbiamo delle regioni che sono vicine l'una all'altra all'interno dell'Europa e qui naturalmente non sempre le regole che sono state trovate sono come dire rispondono agli interessi dei cittadini e delle imprese che vivono le zone trasfrontaliere ma viviamo in altri settori in cui si è fatto poco per esempio viviamo in una società che è post industrializzata quindi una società di servizi ma il settore dei servizi è uno dei settori dove minore è stata l'integrazione europea dove in realtà invece noi avremo bisogno di più servizi soprattutto servizi avanzati per le imprese una situazione nella quale il digital divide come si dice cioè le differenze che ci sono nella dotazione di strutture che utilizzano sistemi informatici avanzati sono molto differenziate abbiamo situazioni molto differenziate e purtroppo il nostro paese non sta molto bene messo in questo aspetto poi abbiamo un altro aspetto importante che riguarda il fatto che il mercato interno europeo è un'opportunità non è che il fatto che noi abbiamo aperto le frontiere di per sé garantisce immediatamente che tutti possono attrarre dei benefici traggono i bensinici quelli che fanno le riforme giuste quelle che consentono al proprio paese di sfruttare delle opportunità e quindi forse occorrebbe avanzare maggiormente nel portare avanti le riforme strutturali che possono come dire aiutare i paesi a rendere più vantaggioso l'appartenenza al mercato interno europeo c'è un altro aspetto che mi pare che diciamo tutti i giorni ormai molto spesso non c'è dubbio che il mercato interno europeo sembra aver favorito soprattutto le grandi imprese soprattutto alcune grandi imprese nel settore dell'informatica in generale i quali si spostano da paese a paese a seconda appunto delle condizioni che possono trovare e questo naturalmente sono tra i risorse all'Europa tra i risorse ai paesi dove queste imprese sono collocate e questo dà anche come dire un altro aspetto che mi preme mettere in evidenza è che noi abbiamo costruito questo mercato interno europeo per dare la la disponibilità dei mercati quindi far sì che le paesi potessero le imprese potessero realizzare delle economie di scala per un mercato di riferimento molto più ampio vendere su più mercati e quindi rafforzarsi essere più competitivi ma tutto questo ha portato anche a un grande problema di concentrazione delle imprese in tanti settori in alcuni casi questa concentrazione è diventata dominante nel senso che addirittura sono pochissimi gli operatori che hanno una dimensione che consente loro di poter operare su tutti i mercati nel settore bancario per esempio nel settore assicurativo ormai la leader è garantita da pochissime banche ora non è sempre detto che queste banche siano efficienti se poi andiamo a vedere come è successo nella finanza non è l'argomento di oggi ma certamente abbiamo qualche dubbio che i grandi operatori finanziari siano stati in grado di gestire bene la crisi e poi ci sono molte troppe rigidità nel mercato del lavoro nel mercato dei capitali cioè in sostanza questo processo è ancora da completare e non ha se non in minima parte raggiunto i risultati che aveva cercato di porsi quando appunto è stato in grado con l'attome europeo che cosa occorre fare? brevemente la prima cosa ovviamente è eliminare queste barriere fiscali non si può accettare che ci sia una divisione Europa tra chi paga di più e chi paga di meno noi italiani saremo tanto criticati ma siamo quelli che oggi paghiamo più degli altri a livello individuale a livello di imprese dobbiamo recuperare i ritardi nel settore dei servizi quelli che chiamiamo business services perché sono i servizi di cui hanno bisogno le imprese sono quelli di cui oggi i cittadini sentono necessità e le imprese devono fornire servizi in questa direzione bisogna pensare di costruire un mercato unico e decadificato beh semplicemente pensare a un luogo dove si possono originare afflussi di capitali sia entrate che uscita che interessi il mercato europeo oggi non avviene così l'Europa non è un mercato di riferimento forse lo è o lo è stato sino ad oggi l'Inghilterra che è riferimento finanziario mondiale ma non c'è un mercato unico europeo quindi bisogna costruirlo e questo dovrebbe luogo tutta una serie di iniziative importanti da realizzare in Europa e in questo senso la Brexit può aiutarci perché se l'Inghilterra effettivamente esce da questa grande settore probabilmente l'Europa può vantaggiarsi degli aspetti che interessavano principalmente e opportunità che interessavano principalmente l'Inghilterra poi ci sono troppi regolamenti non c'è dubbio il mercato interno per chi entra in questo ambito sono troppi regolamenti troppo dettagliati troppo complessi e poi soprattutto molte delle leggi europee devono essere trasferite nelle legislazioni nazionali e ognuno ha una certa libertà anche di non sempre adeguarsi completamente a queste direttive e a queste norme europee e poi c'è un settore su cui correbbe fare uno sforzo maggiore è il fatto che noi dobbiamo migliorare le infrastrutture di trasporto perché questo darebbe vitalità alle imprese operatività le imprese che potrebbero spostarsi più facilmente spostare merci servizi più facilmente certamente nel settore dell'ambiente lo diceva prima il collega Franzini nel settore dell'energia c'è tantissimo da fare e forse anche occorre che sia data maggiore attenzione alla scelta dei consumatori questo aspetto che sembra forse poco importante invece oggi è dirimente insomma il successo di un bene è sostanzialmente determinato da come i consumatori percepiscono l'importanza di quel prodotto e anche il rispetto del prodotto nell'essere realizzato secondo le norme che l'Europa si dà due parole sulla moneta unica anche se qui siamo di fronte a un fatto straordinario straordinario con un semplice motivo è che l'ingresso dell'euro in Italia è stato il peggiore perdonatemi la franchezza il più stupido e il più inefficiente in tutta l'Europa tant'è che abbiamo avuto il maggior aumento dei costi derivanti dall'ingresso di quel tasso di cambio di un 1936,27 uguale a un euro il che è immediatamente comportato che l'adeguamento dell'euro a 2.000 lire il 3,7% in più quindi un immediato aumento dei prezzi dovuto a una carenza di controllo di monitoraggio da parte di chi doveva controllare il rispetto del tasso di cambio ufficiale sanciso dell'Italia nell'Unione Economica e l'Italia il primo gennaio del 99 ora l'Unione Economica e Monetaria nata appunto il primo gennaio del 99 si poneva due obiettivi secondo me fondamentali anche se realizzati attraverso tante diverse iniziative ma quello che l'Europa ha cercato di fare con la metodità utica è l'indipendenza monetaria europea e la stabilità monetaria europea sono due valori della nostra società potremmo vivere in una società che ha il 20 il 30 il 40 il 50 per cento di inflazione certamente no abbiamo bisogno di stabilità abbiamo bisogno di affermare soprattutto la propria indipendenza nei confronti del dollaro ora per realizzare tutto ciò abbiamo dovuto mettere in piedi di un percorso che è durato 30 anni voi avete l'euro in tasca dal 2002 perché l'euro è entrato ufficialmente in circolazione con il 2002 ma è un percorso che noi abbiamo iniziato 30 anni fa quindi è vero che l'euro ha iniziato praticamente pochi anni ma per poterlo realizzare abbiamo impiegato un percorso che ha richiesto un migliore coordinamento delle politiche monetarie questo è stato garantito dal sistema monetario europeo nel 1979 abbiamo cercato di far convergere anche le politiche economiche nazionali c'è un bellissimo rapporto il rapporto dell'ordine del 1988 che spiegava esattamente cosa fare per avviare questo grande obiettivo dell'unione economica e monetaria realizzare i movimenti di capitale lo abbiamo fatto nel 1990 bisognava rispettare i criteri di Maastricht a cui è stato fatto c'era all'inizio il 1992 e poi abbiamo sostituito un sistema europeo delle banche centrali e la BCE che dovevano gestire la politica monetaria europea l'ingresso dell'euro l'abbiamo detto è iniziato nel primo gennaio dell'unione economica e monetaria il 1999 ma la sua circolazione piena circolazione solo nel 2002 e poi c'è un altro elemento che ho aggiunto ma a me sembra molto importante l'indipendenza della banca centrale europea che possiamo dire come banca centrale è sicuramente la banca che ha la maggiore indipendenza tra tutte le banche centrali anche qua successi abbiamo dei successi sicuramente perseguiti dall'euro ottenuti attraverso l'euro abbiamo una minore tassi di inflazione una riduzione anche dei tassi di interesse abbiamo raggiunto una certa stabilità del tasso di cambio abbiamo assicurato trasparenza nel mercato unico abbiamo questo grande mercato ma almeno in 19 paesi membri abbiamo un'unica valuta detto che è l'euro abbiamo facilitato la crescita degli scambi commerciali degli investimenti all'interno dell'Unione Europea ci siamo anche garantiti una maggiore protezione rispetto agli shock esterni provate a immaginare se avessimo avuto la lira e ora vi faccio un grafico che cosa sarebbe accaduto a seguito della crisi economica e finanziaria del 2007-2009 e poi comunque l'euro che praticamente era inesistente fino al 1999 quindi non si aveva nessuna informazione sulla capacità dell'euro di vivere questa città l'euro in pochi anni è diventato la seconda valuta internazionale di riferimento del dollaro quindi un successo per un principiante di tutto prestigio questi sono i tasse di inflazione dell'Italia tra gli anni 70 e il 2015 come è stato un periodo in cui il tasso di inflazione è stato molto elevato siamo arrivati al 20% oggi se qualcuno mi facesse pagare il 20% viene arrestato e avrebbero ragione l'ingresso dell'Italia nell'Unione Economica e Monetaria esattamente nel 1999 nel 1999 ha comportato un rallentamento dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse e vedete che da quel momento in poi addirittura siamo arrivati ad avere i più bassi tassi di interesse di inflazione mai percepiti nel nostro mai realizzato nel nostro paese quindi in cui diciamo che l'euro è stato bravo ha fatto bene il suo lavoro e in questo abbiamo anche ridotto i costi del nostro indebitamento perché noi abbiamo molti debiti come sappiamo che dobbiamo onorare guardate anche l'altro aspetto importante della convergenza e della divergenza negli anni tra il 90 e il 97 vedete come gli spread sono i tassi di interesse che noi paghiamo sui titoli del debito pubblico decennale in Spagna Francia Italia e vedete che noi pagavamo rispetto alla Spagna alla Francia pagavamo tassi di interesse molto spagna e Italia nei paesi pagavano problemi di credibilità delle loro politiche economiche pagavano e un debitamento molto elevato pagavano tassi di interesse molto elevato quando siamo entrati in Europa immediatamente i nostri tassi di interesse si sono allineati ecco la convergenza dove vedete invece gli anni di crisi dell'Europa quelli che vanno al 2011 o al 2012 l'impennata delle tassi degli spread si è avvertita per la difficoltà dei nostri paesi a dare garanzie sulla soldibilità del credito è quello che noi raccontiamo come problemi che vanno l'Italia ha un debito che oggi è il 132% del PIL una gran parte di questo debito è contratto con operatori finanziari ogni volta che noi rinnoviamo il debito ovviamente se non diamo certezza della capacità di applicare politiche economiche sagge civile come tali paghiamo tassi di interesse più elevati cosa che è chiaramente accaduta tra il gennaio e l'ottobre 2012 la situazione è molto migliorata ma certamente permangono ancora delle differenze ci sono la crisi è stata devastante non sto più ora a raccontarvi perché non abbiamo la possibilità ma è una crisi devastante l'Italia è stata per 5 anni con una crescita assolutamente una decrescita economica quindi un paese che ha sofferto tantissimo e l'Europa ha messo in piedi tutta una serie di meccanismi di intervento per aiutare i paesi qui ne ho riportato solo uno in realtà quello che noi chiamiamo il fondo salvastati è intervenuta per aiutare la Grecia il Portogallo l'Irlanda la Spagna la Cipro fornendo loro parecchi miliardi di euro per aiutarli a superare i problemi di finanziamento del debito e soprattutto per superare i problemi di riattivare le loro economie nei paesi colpiti dalla crisi anche l'Italia ha goduto di queste politiche in particolare la politica della Banca Centrale Europea quello che noi chiamiamo il quantitativism cioè una politica di alleggerimento monetario cioè dare più opportunità di accesso al credit più liquidità al sistema comportare per l'Italia qualcosa come ottenere 260 miliardi tutto questo se non ci fosse stato avrebbe comportato costi più elevati come abbiamo visto nel grafico precedente i nostri spread sarebbero cresciuti molto rispetto a quelli della Germania e anche qui la domanda è la stessa ma tutto quello che noi abbiamo attivato sono stati sufficienti? beh no certamente no quello che possiamo dire è questa costruzione nella quale noi viviamo che vi piaccia o non vi piaccia che ne sappiate qualcosa o ne sapete nulla è una costruzione incompleta è una casa con un tetto fatta a metà quindi piove e quando piove ovviamente questo significa che la situazione non è ottimale all'interno dell'unione economica monetaria quindi dei 19 paesi membri noi abbiamo stati membri che crescono di più stati membri che crescono di meno ci sono molte divergenze sotto ogni profilo e soprattutto ci sono paesi che vogliono mantenere l'autonomia nelle polie economiche nazionali un'area di libero scambio un'area valutaria ottimale come viene definita in qualche modo l'euro anche se non completa c'è un'area in cui si dobra un'unica valuta e un'unica banca centrale dovrebbe avere invece una maggiore convergenza delle politiche economiche nazionali visto prima della sua istituzione e allora anche qui le domande che ci possiamo porre ma di chi è la colpa? di chi è la responsabilità? è un problema dell'euro perché la casa appunto non è stata completata in modo adeguato è perché le politiche di bilancio che oggi siamo costretti a rispettare come dire incoerenti nel senso che se dobbiamo spendere poco perché dobbiamo ridurre il debito abbiamo pochi soldi da poter spendere per fare investimenti di cui avevamo detto prima cioè investimenti nelle infrastrutture investimenti nell'energia dell'innovazione dell'ambiente nel creare occupazione per i giovani e se io vado a guardare tutti gli accordi che abbiamo approvato a partire dal 2011-2012 e qui li ho tutti segnati perché sono io se fossi voi sarei rettamente terrorizzato a leggere tutto questo perché lì c'è il nostro futuro voi potete tranquillamente migliorarlo ma lo decide voi e questo è gravissimo ma se voi provate a mettere insieme qualche cosa leggendo da qualche parte vedete che abbiamo un semestre europeo il patto euro plus il six pact il two pact e il fiscal compact cinque strumenti applicati ai paesi membri quindi decise ai paesi membri fuori in genere dal rispetto delle regole comunitarie è quello che diceva prima chi ci ha preceduto cioè sono decisioni presi con accordi intergovernativi cioè significa che le istituzioni europee preposte formulazione di normative di decisioni sono la commissione europea l'unica autorizzata a proporre direttive regolamenti il consiglio dei ministri per il tema affrontato e il parlamento totalmente fuori da queste logiche sono decisioni a livello dei capi di Stato questa è un'altra limitazione forte che l'Europa ha subito perché la prima volta che di fronte a una crisi di queste proporzioni evidentemente non c'era accordo o almeno non si è ritenuto di rispettare le regole comunitarie che vedevano appunto questi tre elementi che lavoravano insieme commissione consiglio dei ministri e il parlamento arriva la fine ma il problema qual è? ecco lo problema i paesi che sono fuori dell'eurozona crescono di più rispetto ai problemi che sono i paesi che sono nell'eurozona vedete la linea rossa sono i paesi europei non l'eurozona quello è il tasso di crescita 100 e il 2000 quindi quelli sono paesi che crescono al 2 3 4 5 6 per cento il PIL e i paesi dell'eurozona crescono poco in alcuni casi la crescita è stata negata quindi la domanda se uno guarda questo grafico ma perché dovrebbe restare? questa è una bella domanda non è facile rispondere a una domanda del genere quello che posso dirvi è che innanzitutto prima ancora di decidere se andare fuori dall'euro speriamo non capiti male che qualche pazzo purtroppo c'è sempre in questo paese posso suggerire di uscire dall'Europa se voi minimamente ricordate quello che ho detto sul mercato interno europeo tutti quei vantaggi scomparirebbero ma il problema è che almeno quello che posso dire è completiamo la casa non è stata finita bene mancano tante cose che cosa in realtà non manca poco mancano alcune cose molto importanti la prima cosa che la BCE che comunque si è comportata in maniera adeguata ha fatto quello che doveva fare ha fatto tutto quello che doveva fare per venire incontro le esigenze singoli paesi ma la banca centrale controlla solo una cosa la stabilità dei prezzi il statuto della banca centrale questo dice la stabilità dei prezzi non fa finanziamenti all'economia e non finanzia al debito pubblico questo significa però che la banca centrale europea deve tornare a svolgere il ruolo centrale il ruolo che tutte le banche centrali hanno si chiama prestatore di ultima istituzione la banca centrale inglese la banca centrale giapponese la banca centrale americana possono finanziare il debito dei propri paesi come è sempre storicamente stato così forse dovremmo cominciare a pensare che la banca centrale europea ha dato tutte le prove di essere una banca affidabile trasparente e da sicurezza ai mercati e forse questa sarebbe l'ultima cosa da fare poi ci sono tre cose che sono veramente essenziali per dare sostanza a questa casa per rendere una casa bella che si può abitare con condivisione uno è che dobbiamo completare l'unione bancaria credo che anche questi giorni avrete letto qualche cosa su quante insoddisfazioni ci siano nei confronti di quanto poco si è vigilato sulle banche ma questa è una situazione che riguarda l'Italia riguarda molte banche anzi l'Italia in alcune misure ha avuto una minore incidenza della crisi a livello bancario ma dobbiamo completare la banca cioè significa che effettivamente c'è un'attività di sorveglianza sulle operazioni bancarie accentrata oggi nella BCE ma che deve dire anche le istituzioni nazionali impegnate a sorvegliare meglio la gestione del credito nei propri peggi dunque non è questa è un'azione che è stata avviata ma siamo a metà dell'opera quindi è come se avessimo affidato a qualcuno di fare i lavori hanno cominciato a mettere in palcatura per aggiustare la casa ma ci sono fermati gli operai perché coloro che sono dietro queste decisioni non condividono gli ulteriori passaggi cioè creare un meccanismo di risoluzione uno cioè quando c'è una crisi anche lì non è che le banche possono comportarsi in maniera diversa ci regoliamo tutti allo stesso modo questo è il significato del meccanismo di risoluzione unica cosa che non è stata così sino ad oggi e secondo creiamo un fondo per le banche che possono fallire e cercare di trovare risorse per aiutare i sistemi di credito in difficoltà ma siamo molto lontani da poter completare almeno questa parte della casa poi c'è l'unione fiscale e su questo non c'è nessun dubbio dobbiamo i paesi i 19 paesi che fanno parte dell'unione economica e monetaria devono anche fare la loro gestione fiscale in modo comune probabilmente gli altri non lo faranno ma continuo a ritenere che questa sperequazione fiscale sia un danno enorme che noi facciamo ai cittadini e alle imprese europee poi occorrebbe pensare a un bilancio unico dell'eurozone sapete o dovreste sapere che il bilancio scusate che viene gestito dall'unione europea è grosso l'un per cento del PIL europeo niente cioè proprio una miseria il bilancio americano è il 25% del PIL americano quindi dovremmo pensare un bel acqua perché ha un'influenza addosso e si sente anche questo mi pare un impegno molto importante cioè pensare che i paesi dell'unione europea possono contare su un bilancio molto più significativo dell'un per cento si trovassero in difficoltà quindi invece di applicare queste politiche rigide che oggi ci vengono richieste dal fiscal compact soprattutto ma possono contare sugli aiuti degli altri stati membri e poi bisogna pensare anche ad attivare in tanti settori strategici per l'Europa delle politiche comuni penso all'industria penso all'innovazione penso all'economia digitale cosiddetta o all'infrastrutture cioè ci sono settori che sono strategici per l'Europa meno male che ho finito per voi e per me non muoio qua in una parola questa è la conclusione occorre dare un sovrano all'Europa un sovrano all'Euro noi abbiamo una moneta unica ma non abbiamo uno Stato sovrano almeno una prima fase quindi senza modificare i trattati che vorrebbe pensare a una forma di integrazione più spinta tra gli Stati che condividono un progetto di costruzione di una Unione Europea che non sia solo economica e monetaria così si chiama ma anche politica è quello che io credo un obiettivo molto auspicabile ma possibile dipende da quella volontà politica a cui faceva facendo franzino grazie grazie al professor Triuzzi per l'esauriente relazione do la parola al professor Guido Perlegrini ordinario di statistiche politiche generali e regionali sempre alla favolta di scienze politiche della sapienza di Roma la sua relazione sull'efficacia della politica regionale europea prego grazie allora so di avere un compito difficile perché il mio è l'ultimo intervento di una lunga giornata che vi ha tenuto seduti per molto tempo e inoltre il mio intervento è anche il più metodologico quindi il più tecnico detto questo cercherò di essere conciso e come dire di darvi più o meno l'intuizione che ci sta dietro i termini e le parole che userò allora io vi parlerò della politica regionale europea la politica regionale europea è forse una delle politiche più note dell'Unione la politica viene fatta attraverso i fondi strutturali è una politica che nasce per è una politica che nasce per bilanciare gli effetti del mercato comune perché perché si pensava e si pensa ancora che creare un grande mercato comune creare un grande mercato comune porta a favorire le imprese e le regioni più forti e quindi bisognava controbilanciare questa tendenza centrifuga con una politica che aiutasse le aree più deboli quindi sulla base di un principio che è durato per molto tempo ovvero sulla base diciamo della distinzione fratta fra le regioni più forti e le regioni più deboli che erano quelle che avevano un reddito pro capite il 75% inferiore al reddito della media dell'Europa questa era la definizione regione debole si è deciso di aiutare queste regioni in maniera massiccia e quindi questo si è fatto si è fatto ormai da 30 anni e possiamo dire ora che la politica regionale è il più grande più duraturo esperimento che esista al mondo di redistribuzione di reddito tra paesi e tra regioni quindi è come dire una politica importante e tutti coloro che si occupano di politiche e economie regionali vedono la politica europea come il banco di prova di come dovrebbe funzionare una politica regionale nel senso che se la politica regionale europea non funziona non possiamo pensare che in genere le politiche regionali non funzionano detto questo che cosa è successo però è successo che proprio anche per l'ammontare molto elevato di risorse dedicate alla politica regionale europea che voi pensate ha finanziato strade aeroporti come voi vedete regioni più deboli per esempio in Italia il mezzogiorno quindi è successo che molta gente ha iniziato a pensare che questa politica fosse solamente uno spreco di risorse specialmente nei paesi più forti nelle aree più forti noi stiamo dando troppi soldi alle regioni più deboli e la risposta qual è stata la risposta la risposta beh verifichiamo se effettivamente questa politica funziona o meno e quindi non è sorprendente che ci sono stati tanti e tanti studi valanga di studi di valutazione degli effetti di questa politica e di questo di cui io vi parlo oggi valanga di studi ma questi studi hanno portato un unico risultato purtroppo la risposta è no ci sono stato un gruppo di studi che ha detto che la politica funziona ma è un gruppo di studi che ha detto che la politica non funziona questo risultato intermedio ambiguo non ci piace ovviamente perché da forza a chi dice che è meglio chiudere i rubinetti di queste politiche e dare i soldi un po' a tutti allora voglio capire quali sono i motivi per cui questi risultati sono stati così diversi i motivi sono fondamentalmente due il primo motivo è che questi analisi sono stati fatti su dati spesso differenti e il motivo per cui i dati erano facilmente disponibili l'Unione Europea non produceva i dati sulla spesa non li produceva a livello regionale ognuno si costruiva i suoi dati e arriva i suoi risultati d'altra parte invece un altro motivo è che ognuno si costruiva il suo modello e come vedremo questi modelli erano diversi e danno risultati differenti allora oggi la situazione è un po' diversa la situazione è un po' diversa perché innanzitutto la Commissione Europea in particolare la direzione generale che si chiama Regio cioè quella in analisi regionale ha prodotto finalmente un set di dati solido omogeneo comparabile tra regioni su cui finalmente possiamo fare tutti analisi e studi e quindi diciamo almeno i dati che possiamo usare sono comuni a tutti il problema rimane quello dei modelli utilizzati allora attenzione perché è un pezzo difficile come funziona il modello allora il modello è sostanzialmente un'equazione ovvero voi ci avete in mente tipo una retta in cui abbiamo una variabile dipendente in questo caso è la crescita regionale e una serie di variabili indipendenti che possono essere il reddito iniziale la quantità di strade il tipo di istituzioni e poi tra tutte queste variabili c'è anche la montata di fondi strutturali europei che noi diamo la regione e quindi l'idea di vedere quanto i fondi strutturali influenzano la crescita regionale questo è il modello così chiamato modello strutturale questo modello non è robusto che significa che non è robusto significa che ci ha dato risultati molto diversi nei vari studi e qual è il motivo? il motivo che i coefficienti di queste variabili dipendevano dalla quantità dal numero e dall'igualità delle variabili che noi ci mettevamo dentro al modello quindi se noi ci mettevamo dentro le strade ci dava un altro risultato se noi ci mettevamo dentro le autostrade ci dava un altro risultato se noi ci mettevamo gli aeroporti ce ne dava un altro e non sapevamo qual era quello giusto perché la verità è che non sappiamo qual è il modello giusto perché esistono tante e tante variabili che possono essere utilizzate per fare questa analisi quindi ognuno c'era in mente il suo gruppo di variabili da inserire dentro questa equazione usciva fuori con il suo risultato e diceva che i fondi funzionavano o non funzionavano come mai le cose sono cambiate sono cambiate perché anche l'economia si è iniziato a ragionare in maniera differente come? allora pensate tutti se noi dobbiamo qual è il metodo che noi utilizziamo per vedere se qualcosa influenza qualcosa la maniera che noi utilizziamo generalmente è l'esperimento l'esperimento è il modo con cui noi facciamo cerchiamo di verificare se un fatto influenza un altro fatto se voi ci pensate noi vogliamo vedere se effettivamente un po' di fuoco aumenta la lunghezza della barretta di ferro noi siamo in una situazione senza fuoco poi mettiamo il fuoco si allunga la barretta di ferro e quindi diciamo che tutto la lunghezza è la barretta di ferro è la barretta di ferro quindi che cosa fa l'esperimento l'esperimento fa sì che noi confronta due situazioni che noi controlliamo una situazione senza trattamento nel nostro caso senza fondi strutturali e una situazione con trattamento con i fondi strutturali le due situazioni quindi sono uguali in tutto tranne i fondi strutturali quindi se mettendoci i fondi strutturali poi cambia qualcosa noi possiamo dire che questa variazione è dovuta in maniera ai fondi strutturali perché questo discorso perché questo tipo di tecnica che si chiama metodo controfattuale ci permette di valutare esattamente qual è l'effetto dei fondi strutturali e in generale l'effetto di una politica indipendentemente da quali variabili ci mettiamo indipendentemente da come specificiamo il modello indipendente dal tipo di modello che noi facciamo quindi questo tipo di analisi l'analisi controfattuale è quella cosa più vicina a un esperimento che noi abbiamo in campo sociale quindi possiamo l'idea che c'è stata da una decida d'anni è di dire ce ne freghiamo noi del modello ce ne freghiamo sostanzialmente di quale variabile mettiamo prendiamo un gruppo di regioni che hanno avuto il traverso ovvero i fondi strutturali prendiamo un altro gruppo di regioni il più vicino possibile il più uguale possibile che non hanno avuto i fondi strutturali vediamo i risultati dopo i fondi strutturali e diciamo che la differenza è dovuta solo ai fondi strutturali questo è in maniera sintetica come sono funzionati i modelli naturalmente tutta questa operazione che semplifica molto il problema della valutazione ha un costo qual è il costo il primo costo che noi abbiamo che questa soluzione come si dice locale che cosa significa locale che molto spesso riguarda solo le regioni i gruppi che stiamo guardando non può essere stessa a tutti quindi diciamo non è una soluzione generale talvolta in alcuni casi non può essere secondo aspetto che è importante è che questa soluzione è così come si dice una scatola nera nel senso che noi sappiamo mettiamo il trattamento sappiamo mettiamo il risultato non sappiamo in realtà il perché il trattamento crea quel risultato questo non lo sappiamo perché non studiamo quali sono le relazioni noi abbiamo questa scatola l'esperimento in cui mettiamo dentro un trattamento otteniamo il risultato ovviamente è un limite però per esempio nel mio caso io preferisco avere una buona misura del risultato piuttosto che un'analisi senza fine su quali sono le relazioni che esistono tra le due cose ultimo problema che noi abbiamo risultato medio molto spesso sapere solo il risultato medio non ci soddisfa noi vogliamo sapere qualcosa di più vogliamo sapere per le grandi e piccole imprese per le grandi regioni per le regioni con il mare le regioni senza mare e così via e questo lo vogliamo sapere perché spesso l'impatto della politica è eterogeneo cioè non è uguale per tutti quando l'impatto della politica è per tutti noi siamo uguali perché non sappiamo se in una situazione una situazione particolare quella politica funziona o meno quindi dobbiamo adattare questi metodi e questo è possibile per verificare impatti eterogenei allora abbiamo due tipi di analisi una si chiama il propensi di score e l'altra il regression discontinuity design non entro in merito su come vengono fatti perché ci abbiamo anche poco tempo ci abbiamo una letteratura che utilizza o il general il propensi di score o il regression discontinuity design vi dico una parola su regression discontinuity design perché vi dico come funziona guardate questo grafico questo grafico c'ha sulle ascisse cioè sull'asse orizzontale il reddito pro capite delle regioni è i logaritmi quella linea che divide a circa 9,25 è come vi ho detto quel punto particolare il 75% del reddito quindi le regioni le regioni blu che sono le regioni ricche perché hanno più reddito della media del 75% della media le regioni rosse sono povere allora l'idea di questo metodo è che se gli effetti allora dall'altra parte dall'altra parte invece c'è il tasso di crescita quindi la relazione è tra reddito e tasso di crescita qual è il punto se diciamo quindi quelle rosse sono le regioni con il trattamento chiamiamole così le regioni blu sono quelle senza trattamento le regioni rosse sono quelle con i fondi strutturali quelle in blu senza fondi strutturali se non ci fossero stati effetti lo vedete su quella riga le due linee sarebbero state uguali invece il fatto che ci sono effetti si vede perché la linea dove ci stanno le palline rosse è più elevata di quella di dove ci stanno le palline blu e quella differenza esattamente l'effetto che noi possiamo dare alle politiche come vedete è un effetto positivo la linea delle palline delle regioni trattate è più elevata di quella questo è il metodo quindi in sintesi quali sono questi risultati che noi abbiamo usando questo tipo di metodi allora abbiamo una buona notizia innanzitutto la buona notizia è che l'impatto medio è positivo quindi la politica è positivo è dal punto di vista statistico significativo e questo ci fa piacere purtroppo è modesto il moltiplicatore fare 1 1.2 significa che se io do un euro in questa macchina alla fine ricavo da 1 a 1.2 euro cioè la politica funziona però non è che mi attiva poi tutto questo regno però dice questo è vero quindi in media funziona ci fa piacere però d'altra parte è anche una politica molto diversa con effetti molto diversi con effetti molto eterogenei e queste analisi mi dicono perché c'è eterogeneità questa dipende innanzitutto da un fatto ovvio è che l'intensità del trattamento è molto diversa da regione a regione cosa significa? Significa che l'Unione Europea non dà soldi a tutti nello stesso modo un po' di più alle regioni più povere povere più povere e da un po' di meno regioni povere ma meno povere lo vediamo in questo grafico come potete vedere più è scura un'area più l'intensità del contributo è grande meno scura un'area meno il contributo è grande come potete vedere nelle aree più povere vengono dati più soldi ovviamente se uno dà più soldi ci immaginiamo che l'effetto è più alto e poi dipende anche dalla capacità di assorbimento cioè se le regioni hanno capacità amministrativa per avere per poter fare i progetti e dipende dagli effetti spaziali l'ultima cosa che vi voglio dire riguarda proprio l'intensità perché nello studio che abbiamo fatto che ho fatto con il mio collega ottengo questo risultato questo risultato vuol dire che cos'è questa cosa strana questa cosa strana adesso non ve la spiego ve lo dico subito quindi potete dormire tranquillamente stanotte ma ha un significato il significato è che la relazione fra intensità cioè quantità di soldi che io do e risultati non è lineare ma è concava che cosa significa che sia concava significa che a un certo punto io ottengo un massimo dopo cui se do più soldi non ottengo più risultati quindi esiste un massimo di ammontare di risorse che io posso dare alle regioni oltre il quale io sto sprecando i miei soldi sostanzialmente e in questo tipo di analisi quello che noi vediamo è che questo massimo si colloca intorno ai 300-345 euro anno pro capite e nell'ultima fase di programmazione erano circa 10 le regioni che avevano ricevevano più di questa somma e che quindi ovviamente contavano per il 6% dei risultati quindi qual è la conclusione? La conclusione è che la politica regionale europea funziona funziona con effetti positivi potrebbe funzionare meglio se ci fosse un'allogazione migliore dei fondi tra le regioni grazie grazie a lei professor Perlecni per l'interessante e non lo dico per forma relazione dei fondi europei è uno dei temi centrali in diverse regioni del nostro paese afflitte specialmente quelle del sud afflitte da problemi di sviluppo atalici rispetto a Calenari io credo che abbiamo qualche minuto quindi come moderatore credo mi curra l'obbligo di chiedere se c'è rispetto ovviamente io lo chiedo rispetto ai temi che ho sentito se poi c'è qualche domanda anche sui temi che non ho sentito di questa mattina benvengano anche quelli ecco appunto se ci sono domande per movimentare una diecina di minuti di dibattito una diecina di minuti un quarto d'ora di dibattito se volete non è un obbligo se volete se no io vado mi basta un cenno dei datori e io vado alle conclusioni credo di poter andare velocemente alle conclusioni chiudo dicendo e credendo anche di interpretare i colleghi di essere grati alla rete dei centri di documentazione per averci consentito di parlare in un contesto diverso di quello nel quale parliamo solitamente nelle aree universitarie dove diciamo il livello di diffusione di certe idee è per ragioni di fatto un pochettino più comprensione parlare per contribuire alla diffusione un pochettino più ampia di questi temi che riguardano l'integrazione nell'Unione europea il presente il passato il presente e il futuro dell'Unione europea è un futuro che come qualcuno diceva prima è un futuro che coincide con il nostro quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro la partecipazione ad altre giornate come queste buona serata grazie a tutti grazie a tutti